Benvenuti al Gran Sasso Science Institute, questo istituto è una scuola universitaria superiore, fa solo dottorato di ricerca, è di quella fascia che comprende la normale di Pisa, la Sissa, Trieste, l'IMT a Lucca e il Sant'Anna a Pisa e lo IUS a Pavia. Facciamo dottorato di ricerca in fisica, matematica, informatica e scienze sociali, una struttura interdisciplinare, giovane, nuova e diamo sempre volentieri il benvenuto a chi viene qui per la prima volta, sperando che possa ritornare nelle nostre iniziative. Ancora due parole di presentazione per chi non ci conosce, siamo la realtà universitaria, mi piace poter dire più internazionalizzata, perché i nostri 160 ormai studenti di dottorato, la metà sono stranieri, vengono dall'estero, su selezionare su migliaia di applications, di domande, quindi sono veramente molto bravi. Diamo ovviamente un'attenzione estrema ai temi che sono anche più sentiti dal territorio naturalmente e questo ci porta a introdurre la giornata di oggi naturalmente, la meteorologia, la stabilità dei suoli, geologia, la stabilità dei terremoti sono delle tematiche che qui hanno innanzitutto una loro già eccellenza nel CETEMPS che è stato fondato dal qui presente professor Visconti e che è una realtà vivace e interessante a livello non solo nazionale. C'è un'università come sapete che è molto attiva e un grande ripresa, diciamo così, se mi consenti Paola, un'università qualitativa, lo voglio sottolineare, e l'idea di fare di questa città qualcosa che possa essere una moderna città europea della conoscenza è un po' la missione, il miraggio che abbiamo e che vogliamo cercare di realizzare. Naturalmente un tema e una giornata di studi come quella di oggi è assolutamente benvenuta, sono tematiche su cui molte persone parlano, ma diciamo in maniera diplomatica non tutte con competenza, per dire poche con competenza, tra l'altro è una tematica che ha un impatto enorme nella società, sto dicendo cose che tutti sappiamo, quindi poterle affrontare con competenze in maniera quantitativa, capendo anche cosa vuol dire il rischio, la probabilità, l'incertezza, sono tutte tematiche che dovrebbero penetrare all'interno della cittadinanza, nel senso più vasto possibile, della consapevolezza della cittadinanza, ha a che fare anche con la psicologia questo tema, mi rendo conto, e lo abbiamo sperimentato qui, lo sperimentiamo, diciamo così, in questa regione, in questa città più che mai. Detto questo, io appunto rinnovando il benvenuto a questa giornata, passo la parola volentieri, alla rettrice Inverardi, prego. Grazie Eugenio, buongiorno a tutti. Eugenio ha già detto moltissimo delle cose che condividiamo, come prospettiva degli enti di formazione superiore in questa città, a me due parole in più per quello che noi facciamo. Guido è stato l'anima del curriculum di fisica dell'atmosfera, non solo il promotore del CETEMS, ma anche l'anima di questo curriculum di corso di laurea di fisica in fisica dell'atmosfera. Per lungo tempo abbiamo cercato di concretizzare questo curriculum poi in un'offerta formativa caratterizzante di per sé su questi argomenti, non ci siamo riusciti qualche anno fa per questioni proprio numeriche, non siamo riusciti a farlo. Continuiamo oggi a pensare di poterlo fare, quindi in realtà anche in collaborazione con altri Atenei, riteniamo che ci sia oggettivamente un vuoto formativo su questi argomenti che dovrebbe essere in qualche modo missione, dovere di tutti cercare di colmare. Noi siamo disponibili a dare il nostro contributo e questo, diciamo, gli unici strumenti che noi abbiamo per affrontare questi problemi sono gli strumenti della conoscenza, della formazione, quindi formare più persone che siano consapevoli e possano fare ricerca e poi possano invece essere trasferite queste conoscenze nella società. Io poi, diciamo, dopo di me parlerà, credo, l'assessore Mazzocca, dirà chiaramente che questo tipo di competenze non sono competenze che devono stare nelle aule dell'università e basta, sono competenze che devono stare nella società e devono stare in tutti i punti, gli snodi decisionali che riguardano scelte che hanno a che fare con il territorio. Quindi una volta che uno dice questo subito capisce che diciamo praticamente dappertutto, perché ha a che fare su come si costruisce, su dove si costruisce, su come si preserva il territorio, su che consapevolezza si ha delle fragilità del territorio, su quanto si è capaci di monitorare lo stato del proprio territorio e così via. Quindi noi qui, come soggetti formativi, vogliamo fare la nostra parte e formare persone, io credo che la società civile e politica debba poi essere in grado di inserire queste persone in tutti i processi decisionali che hanno a che fare con la salvaguardia dell'ambiente e del territorio. Con questo io chiudo, vi do auguri di una buona giornata. Allora, sapete già chi sono? Io vi porto il saluto del professor Quadrioculto che è il presidente dell'Accademia dei Nicei. Vi leggo la lettera, intanto sono tre righe. Ho visto con piacere che sarai presente alla giornata mondiale dell'ambiente dal tema capire e prevedere le catastrofe naturali, il ruolo della geologia e della geofisica, che si terrà all'Aquila. Ti sarei molto grato se tu volessi portare il saluto dell'Accademia dei Nicei a tutti gli autorevoli colleghi presenti per questa iniziativa che si porta in continuità e coerenza col prezioso lavoro della Commissione Ambiente e delle calamità inautorali dell'Accademia dei Nicei. Questo il professor Quadrioculto. Mi compiaccio, mi unisco a lui per l'attività e l'iniziativa del professor Visconti che è già la seconda volta che promuove questa iniziativa e anche con il comitato organizzatore perché il programma è veramente buono e sono d'accordo, fra parentesi, con quello che ha detto il lettore per l'educazione che dovrebbe andare però nel capitolo dell'educazione civica da fare alle elementari, da persone competenti. Tutto qua. Perché è quello che soffro all'Accademia quando organizziamo i convegni sulle cavalità naturali, due all'anno, uno per la giornata mondiale dell'acqua e uno per la giornata dell'ambiente. il problema che emerge sempre è la maleducazione della gente che non è educata e allora siccome l'educazione comincia e finisce per conto mio per queste cose alle elementari e in famiglia, bisogna cominciare a rivolgersi a quelle cose, non col corso di cultura musicale ma con rimettere l'educazione civica. Questo poi servirebbe anche ad avere meno reati e meno spese per la sorveglianza dei reati. Allora voglio parlare un attimo, se mi permettete, della sismologia che ha avuto degli enormi successi nell'Ottocento quando il terremoto era un fenomeno misterioso, non si sapeva da dove venisse, cosa succedesse, eccetera. L'Italia ha dei primati in quel campo, nord e sud, diciamo nel sud Palmieri inventò il primo sismolografo elettromagnetico, Grabovitz Triestino ha la priorità nell'individuazione delle tre fasi delle onde sismiche e poi dopo è venuto Grabovitz, no, sì, Grabovitz ha fatto l'invenzione delle tre onde, Rossi-Forel con la prima scala, perché la prima cosa che uno si deve mettere in mente, c'è un fenomeno, devo misurarlo, quantificarlo e poi dopo alla fine per ricordare il professor Graffi che fece il teorema di reciprocità che permise ai sismologi di rappresentare il terremoto come una coppia di piani e così si è completata la geometria del terremoto. Allora, due parole per parlare dei temi, delle sfide presenti. I vecchi nell'Ottocento sono riusciti a superare, a vincere le sfide, cosa è successo adesso? Allora, io vi dico, parte della mia vita, ad una certa età mi sono sentito sollecitare di occuparmi di sismologia. Allora la prima cosa che fai è di sapere di cosa parli, cioè fai un catalogo dei terremoti. Il catalogo, ne esistevano due perché abbiamo avuto degli antenati molto previdenti e bravi, baratta, bonito, eccetera, che avevano fatti catalogo ma erano su carta e quindi inservibile per la moderna analisi sia probabilistica e così diciamo col primo catalogo poi ne vennero degli altri e il primo su un astro lo facevamo a Bologna, caro, e quindi diciamo si cominciarono a fare le prime indagini. Per parlare dei cataloghi, diciamo ai pochi sismologi che ci sono qua, ne vennero fuori altri. Quando furono cinque io mi permisi di fare il confronto fra i cinque cataloghi per vedere che attendibilità si poteva dare a questi numeri che non erano con qualsiasi significato fisico, erano le intensità, cioè le crepe nei muri, quindi il simbietro fisico non c'era, assolutamente, e fece il confronto con cinque di questi cataloghi. Venne fuori che il 60%, solo il 60% di questi eventi aveva la stessa valutazione nei tre cataloghi. Uno si aspettava che fosse il 90, l'80, solo il 60%, quindi erano praticamente inservibili per due motivi. Uno, la qualità dell'informazione che fornevano per ogni evento, con questa situazione, con quel catalogo, l'Istituto Nazionale di Geografia fece il primo passo per la previsione dei terremoti. Il tentativo non ebbe un gran successo, fu portato avanti, ma siamo rimasti lì in sostanza, non si riesce a prevedere i terremoti. Però io sono fiducioso, perché come hanno avuto coraggio innovativa i nostri antenati, adesso la sfida che si pone è proprio questa qua, dobbiamo affrontarla. Quali sono i problemi grossi, grossi proprio per la previsione dei terremoti? Uno, che si cerca di trovare dei segnali precursori o dei modelli che prevedono, che valgono per tutta la Terra, che è impossibile perché le zone sismiche hanno storie diverse, diciamo dinamica diversa, e quindi diciamo questo è uno dei problemi. L'altro problema, diciamo, di carattere fisico-matematico è la modellistica che la Terra, come sapete, è un corpo elastico che oscilla, ha le proprie oscillazioni libere, i propri autovalori, però diciamo non è un corpo elastico perfetto, perché il corpo elastico perfetto, come insegna gli investimenti, non esiste. Esiste in i corpi, con la loro seconda legge della termodinamica, che dà un coefficiente di dissipazione e permette di fare i modelli, dove è il desertore, i modelli, diciamo, con la plasticità. La plasticità è un grosso inconveniente per, diciamo, la previsione dei terremoti, perché fa questo che quando sparisce la forza che perturba il corpo, rimane la deformazione, allora uno trova una deformazione, la può attribuire a un corso, a un processo di, diciamo, di forze in corso, in aumento e, diciamo, questo può fare degli errori. Quindi questo è un problema matematico da superare, ci sono i modelli della plasticità, ci sono gli ingegneri che la chiamano addirittura esteresi e quindi, diciamo, è uno dei problemi. Gli altri sono per esempio i segnali precursori del campo elettromagnetico, che sono poco esplorati, c'è molto poco. E, diciamo, di questi segnali, è stato fatto qualche esperimento molto bene ed ha avuto successo e risulta che nella compressione dei terremoti, dei materiali rocciosi, quando si arriva alla rottura si ha un'emissione di segnali elettromagnetici nella frequenza da 3 a 8 kg. E, diciamo, questo spiega una cosa che si sapeva da secoli, quando c'è un documento del ferrarese nel quale un terremoto era stato preceduto e seguito da luci rubiconde, così dice il documento. E, diciamo, questo è un fatto positivo perché certe rocce che non si ritenevano piettometriche invece lo sono e questo è un campo da portare avanti. Però c'è un aspetto negativo, diciamo, che viene fuori dagli esperimenti, che è, diciamo, l'emissione dei segnali elettromagnetici non c'è solo alla fine della compressione, quando il campione si rompe, ma quando la pressione dentro il campione raggiunge un certo valore e lì cominciano. Quindi, diciamo, il processo della formazione del terremoto, come sapevamo, può prendere centinaia di anni anche. Allora io con questo aggiungo alla fine che c'è qualcosa di molto nuovo, diciamo, nella simbologia, che è il GPS. Si è visto che il GPS può registrare i terremoti. Sono due anni, diciamo, che si registrano anche quei GPS e con questo strumento, se si adopera questo strumento e lo si unisce alle stazioni sismografici che già ci sono, è una rivoluzione nell'analisi dei dati, alle quali, diciamo, le istituzioni devono prepararsi perché aumenterà in un ordine di grandezza almeno la mole dei dati da analizzare. Allora, anche, diciamo, con questa previsione, io devo dire che il successo che abbiamo ottenuto per risolvere i problemi della simbologia, che vi dicevo all'inizio, il successo dei nostri antenati, io ho fiducia che riusciremo a risolvere anche quello della previsione dei terremoti, prima o poi, con un po' di pazienza, ci vuole un impegno sia economico, sia finanziario che, diciamo, umano e quindi aggiungeremo un'altra medaglia, per essere un po' retorico, al medagliere dei simbologi italiani. Grazie. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti. Mi porto il saluto della comunità brussese a questo importante evento che cade, la ricorrenza altrettanto importante, almeno per quanto mi riguarda la giornata mondiale dell'ambiente. raccolgo da subito l'assist che mi poneva l'elettrice Paola Ingerardi, riguardo ad alcune tematiche che, se dal lato ci appassionano, dall'altro ci preoccupano anche, nei momenti in cui le stesse non vengono trattate in maniera organica e complessiva come in realtà meritino. e a tal riguardo vorrei fare solo due annunci. Tanto l'attività che si è svolta sul particolare tema del clima in regione, del tema proprio legato al rapporto che c'è fra territorio e microclima, ha generato una prima parte, un embrione del nostro piano di adattamento ai cambiamenti climatici su cui stiamo lavorando da tempo e che proprio la giornata di domani darà luogo alla presentazione del profilo climatico. Abbiamo davvero utilizzato in maniera importante il bagaglio esperienziale, professionale, scientifico, svolto proprio qui all'Aquila dall'Università da Professor Visconti con il CETEBS, ma non solo. è un primo momento, anzi è una base da cui puoi sviluppare lo strumento vero e proprio e per quale vi preannuncio che alcuni di voi lo sanno già, che stiamo per avviare una formalizzazione di una collaborazione con il mondo scientifico e l'accademico endogeno proprio per concludere questo piano di adattamento su cui fra l'altro noi stiamo lavorando in maniera anche pioneristica in Italia, per quanto riguarda almeno il tema delle regioni. Così come faremo per un secondo aspetto che invece stenta un po' a decollare, poi magari capiremo anche alcuni passaggi non del tutto, non del tutto agevoli che finora abbiamo ascoltato sulla presentazione del cosiddetto pacchetto sicurezza, su cui stiamo lavorando dagli inizi dell'anno scorso, quindi ben prima della verifica del sisma nel 24 agosto. C'è un pacchetto che si pone di fronte al territorio inteso in senso generale, quindi in materia organica, in materia in organica, un po' a tutto tondo, quindi partendo da alcune questioni di principio e di carattere generale per me e per alcuni che la pensano come me ormai ineludibili, il contenimento del consumo del suolo. Abbiamo presentato una proposta organica, il governo so che sta procedendo fra alti e bassi, ma proprio da una giornata di oggi c'è un'importante riunione in conferenza delle regioni per, mi auguro io licenziare definitivamente questa prima legge, ma credo che su questo non possiamo più attendere, tanto non solo per gli aspetti legati alle cosiddette avversità atmosferiche, ma quanto invece relativamente alla modalità di approccio al territorio che deriva da un'attività antropica che quanto meno è definibile anacronistica. Passando poi per una strutturazione di un servizio istituzionale per quanto riguarda la regione Abruzzo, che sia interdisciplinare sul tema del rischio e quindi un servizio multirischio su cui non potrà agire la regione da sola, diremmo o comunque la pubblica istituzione in maniera autonoma, diremmo una cosa in vera. Nella nostra proposta c'è già la strutturazione di una collaborazione importante con gli Atenei abruzzesi e con ciò che l'Abrusso in questa direzione riesce ad esprimere, così come sul terzo aspetto, anticipando addirittura il programma Casa Italia, noi elaborammo una strategia che vi banderemo a giorni, che è stata denominata provare il programma Vulnerabilità Zero per Abruzzo resiliente, che tende comunque a in primo luogo fare una fotografia dello stato dell'arte della nostra edilizia storica, mai si inizia, mai si finirà, e quindi avviare una serie di attività che tendono quantomeno in prima battuta a evidenziare modalità, tempi e tipologie di intervento, ovviamente saccheggiando davvero in maniera importante il tema delle nuove tecnologie che sono sempre più in via di evoluzione quasi giornaliera, soprattutto negli ultimi tempi. Perché dicevo all'inizio che su questi temi scontiamo qualche ritardo, fra virgolette, ma io immagino, questa è una mia opinione, ma credo che vorrei condividerla con voi e vedere anche che cosa ne possiate pensare. Questi piani a medio termine, che insomma questa strategia ovviamente dovrebbe essere sviluppata almeno dai calcoli che ci siamo fatti in maniera estremamente oggettiva, un periodo che va da 5 ai 10 anni. Mi diceva un ex Ministro della Repubblica che solitamente in Italia, meno da 45 e poi, non hanno avuto grossa fortuna per il semplice fatto che durano un po' più di una legislatura e quindi evidentemente hanno qualche difficoltà ad essere trasportata sul proprio collegio elettorale. E' che io credo che se non cambiamo questo modo di intendere l'impegno pubblico e se non cominciamo definitivamente a capire che quando si rappresenta l'istituzione lo si fa in maniera temporanea e quindi davvero si può dire di svolgere un dovere, noi le difficoltà le continuerebbero ad avere. Non bastano evidentemente il susseguirsi di eventi naturali, catastrofici come il terremoto o addirittura di eventi che una volta venivano chiamati, tipicamente la burocrazia chiama ancora eccezionali avversità atmosferiche che sono invece sempre meno eccezionali e sempre meno naturali in quanto in parte per me importante, per alcuni meno indotta dall'attività antropica ecco credo che noi non faremmo una buona cosa, buona soprattutto per la nostra comunità, per l'Ambruzzo, per l'Italia e anche per il mondo. Io vi auguro pertanto un buon lavoro e cercherò di essere attento ai contributi che possono venire da questa giornata, così come dall'attività che tipicamente svolgete nell'arco dell'anno. Grazie. Grazie Guido per avermi invitato, grazie anche per darmi l'onere e l'onore di cominciare stamattina. In realtà è un onere abbastanza complicato quello di parlare di terremoti in questa regione d'Italia in questo momento. Di fatto io spero di riuscire a trasmettere a voi un pochino di ottimismo, nel senso che i terremoti in realtà ne stiamo capendo di più e la recente crisi del 2016-2017 ha dimostrato che di fatto possiamo essere molto fiduciosi nel futuro, molto più fiduciosi di quanto non lo siamo stati nel passato. Cominciando il 24 agosto dell'anno scorso non c'è stato solo un terremoto, tutti lo ricordano come il terremoto di Amatrice, ma di fatto con Amatrice il terremoto c'entra soltanto in termini che ha fatto danni ad Amatrice, l'epicentro non era affatto ad Amatrice, era ad Arquata, tra Arquata e Accumuli. È stato un terremoto di magnitudo 6.2, un terremoto un po' più grande di quello che capitò vicino all'Aquina nel 2009, seguito però da altri otto terremoti, di cui un altro di magnitudo superiore a 6.1 il 26 ottobre e soprattutto da quello del 30 ottobre che è stato uno dei più grandi terremoti degli ultimi 60 anni in Italia, che è stato vicino a Norcia sostanzialmente. Dopo di questo l'attività sia tutt'altro che è restata, di fatto continua ancora, anche se su scala fortunatamente più ridotta e ci sono avuti altri due eventi di magnitudo superiore a 5.5, quindi due eventi potenzialmente molto distruttivi che fortunatamente hanno avuto un esito non così letale. L'area investita è assolutamente enorme, nel senso che sono più di 2.000 km quadrati. Gli eventi registrati dall'Ingv sono più di 70.000, una quantità sufficiente a fare un catalogo molto molto grande da solo. In effetti ci sono stati tre cluster, li chiamiamo noi, tre cluster maggiori all'interno di un cluster unico, più ovviamente una serie di sottocluster. Come vedete adesso la situazione è tale per cui tuttora c'è attività, ma in termini di rilascio di momento sismico, che per noi è la variabile fondamentale, siamo a 10 alla 14 Nm, mentre invece l'avevamo arrivati a 5 ordini di grandezza superiori il 30 ottobre. Dal punto di vista delle evidenze sperimentali ci sono delle evidenze che sono sino adesso note soltanto in California, cose da libro, nel senso che questo Montebove vettore ha fatto vedere una faglia esposta con circa un metro di rigetto in superficie, i dati da satellite INSAR soprattutto sono molto più sensibili di quei GPS perché sono distribuiti nello spazio, fanno vedere qui un andamento assolutamente impressionante, ognuna di queste sono delle strisce di deformazione, è una fraggia di interferenza, la ragione per cui voi vedete qui come c'è stata la deformazione che è esattamente corrispondente a quello che uno sospetterebbe da dei modelli opportuni e tant'è che le 400 stazioni INGV più questa immagine SAR più le 2000 stazioni GPS hanno permesso di fare dei modelli molto accurati del movimento del sottosuolo in cui diciamo che dal punto di vista geofisico questo è stato uno studio, ha permesso uno studio molto accurato ai livelli massimi. Dal punto di vista ingegneristico le accelerazioni che si sono registrate sono state molto alte, una frazione di G, quindi un problema molto grande per gli ingegneri, i danni così estesi che sono estesi su un'area che come vedete comprende praticamente 3 regioni, 4 regioni direi quasi, con ovviamente dei danni che sono stati dei danni di scala Mercalli 10-11 grado in una zona molto grande, con però molto fortunatamente e di questo per l'appunto andrò a parlare più in dettaglio, con un tributo in vite umane che è stato soltanto, tra virgolette soltanto, di 299 vittime e tutte sul primo terremoto. Ora per fare un confronto con questa tragedia che comunque è stata, noi dobbiamo richiamare il terremoto più simile in questa zona che è stato il 1915 ad Avezzano, che di morti ne ha fatto 30.000, cioè 100 volte di più. Allora come mai è stato possibile questo? Perché questa volta, tra virgolette, il tributo è stato molto inferiore. Uno potrebbe pensare che sia dovuto al fatto che le costruzioni sono migliorate. Allora assolutamente no, in Italia purtroppo, quello che gli ingegneri chiamano il building stock, cioè la massa dell'edilizia è tuttora a quasi il 90% non antisismica. Quello nuovo viene fatto antisismico, quello ristrutturato viene fatto antisismico, ma la massa generale non è antisismica, come non lo era nel 1915. Fortuna, la fortuna chiaramente conta, però in questo caso, come vedremo, sì e no. Ci sono delle cose positive e delle cose assolutamente negative. Una protezione civile più efficiente, questo sicuramente sì, perché la protezione civile impara, impara, imparato, ogni volta che succede una catastrofe impara, la successiva. Ma soprattutto la cosa che interessa a noi, abbiamo una migliore capacità predittiva dei terremoti? Sì. Sappiamo prevedere i terremoti. Non li sappiamo prevedere come la gente vorrebbe, magari, ma li sappiamo prevedere. Di questo parlerò in dettaglio, come ha detto ai lavori, in quanto sismologo e in quanto membro della Commissione Grandi Rischi. Allora, la Commissione Grandi Rischi, quello che fa sostanzialmente è avere, dal punto di vista dell'informazione, degli NGV, un flusso quotidiano di informazioni, di dati sismici, geodetici, che vengono preanalizzati, ma che poi vengono passati a noi della Commissione, che dobbiamo valutarli allo stato dell'arte e decidere se riunirsi telematicamente o fisicamente per poi parlarne. Allora, il problema è lo stato dell'arte. Normalmente, se uno parla di previsione dei terremoti, c'è sempre qualcuno che dice, io il terremoto l'ho previsto, dall'estero, in Italia, eccetera. Il problema vero è che tutte queste persone, quando uno va a analizzare bene, fanno quello che fanno i Texas Sharpshooters. Cosa sono i Texas Sharpshooters? Sostanzialmente è un'abitudine, lo sparatore furbo del Texas. Uno che spara e poi disegna il bersaglio e dice, io c'ho azzeccato. È chiaro che così è facile azzeccarci. In Italia è facile azzeccarci? Assolutamente sì, basta che uno prenda una soglia giusta, prenda per esempio magnitudo 5,4. 5,4 è una soglia giusta perché 5,4 vuol dire che capita un evento in media ogni quattro anni e mezzo. Poi assume che l'errore in magnitudo sia 0,5, che sembra molto ragionevole l'errore in magnitudo 0,5, solo che così facendo uno infila dentro il terremoto in magnitudo 4,9 e gli eventi in magnitudo 4,9 capitano più spesso, ogni anno e mezzo. Poi a questo punto uno dice, ma io posso anche dire che c'ho un errore e l'errore lo metto 150 km, che sembra molto, cioè sembra poco, però in realtà è molto. perché? Perché se uno fa così, tiene conto di questo errore, viene fuori che con tre cerchi e un anno e mezzo uno copre il 90% della sismicità italiana, quindi praticamente ci prende sempre, senza aver imparato nulla, senza capire nulla. Va bene, ma lasciamo perdere questi, lasciamo perdere, diciamo, quelli che vogliono fare vincere facile. Lo stato dell'arte in realtà sui terremoti è questo. È questa mappa che sicuramente avrete visto più volte, è una mappa che è la mappa ufficiale di pericolosità italiana, che sostanzialmente fa vedere qual è la probabilità di avere un 10% di eccedenza di una certa accelerazione, quindi sostanzialmente si traduce che il colore dove vedete i colori più scuri, qui purtroppo i colori sono scuri, hanno accelerazioni alte rispetto ad altre zone dove invece i colori sono più tendenti più rassicuranti. In realtà questa mappa assume che il rischio sia esattamente uguale alla pericolosità, cosa che non è affatto, perché il rischio, come ben sapete, non è nient'altro che la pericolosità moltiplicata per la vulnerabilità per il valore esposto. Questa equazione sostanzialmente ha un vizio di forma fondamentale, che vedremo più avanti, ma questa equazione in realtà si basa anche su un calcolo, quello della pericolosità, che non è nient'altro che una coppia della seismicità passata, storica e strumentale. E questa ha dei limiti intrinsici molto grandi. Ha dei limiti intrinsici perché se noi prendiamo come confronto il Giappone, dove la metodologia è esattamente la stessa, la carta di pericolosità del Giappone fatta con gli stessi criteri è questa qui e purtroppo quello che succede è che gli ultimi dieci eventi che in Giappone hanno fatto dei morti, delle vittime, sono tutti capitati in zone, come vedete, al di là delle zone di alta pericolosità. Quindi vuol dire che non funziona da nessuna parte, nemmeno in Giappone. Allora, quello che uno si deve è chiedere perché non funziona. Magari la fisica che viene assunta dietro questa operazione, questo tipo di stima, è sbagliata. Qual è la fisica dei terremoti secondo questo approccio? È una fisica puramente meccanica e cioè praticamente si riduce a questo. Prendete un mattone, ci mettete la carta vetrata sotto, poi fate una pista di carta vetrata, tirate il mattone che tiene la carta vetrata, qui lo fate scivolare. Chiaramente questo avrà un attrito, scivolerà, misurate la forza con cui viene tirato e praticamente ottenete quello che dovrebbe essere lo sforzo tettonico, quello che tira, lo spostamento quando salta e il terremoto. Diciamo che questo è un approccio puramente meccanico, molto semplice e che le conseguenze sono tali per cui si ottengono quelle mappe che avete visto prima. Allora, semplice come? Semplice come il lancio di una moneta semplerebbe, ma il lancio di una moneta è semplice. Provate a dare il calcolatore più potente del mondo al fisico più bravo del mondo e poi dite, mi prevedi il lancio della moneta? Provate a vedere se ci riesce. Secondo me non ci riesce, non ho mai visto nessuno che ci riusciva, eppure il lancio della moneta sarà pur semplice, no? Allora l'idea è che o i terremoti hanno una fisica più semplice del lancio della moneta di parecchio, oppure andare a prevederlo in maniera deterministica, cioè cosa viene fuori col prossimo, non è una cosa ragionevole. Da questo consegue che in realtà la strategia da usare è probabilmente molto diversa, e cioè innanzitutto andare a vedere come si fa in fisica, qual è la fenomenologia, e poi prepararsi e vedere se ci sono regolarità tali che permettano di difenderci e poi magari provare a vedere se riescono a fare i modelli. Ora tenete presente che però, sino adesso, l'approccio sismologico sembra, i fisici nella sala sanno sicuramente riferirsi a un contesto fondamentale, si chiama Landau, Landau e Lipschitz. Ora i terremoti si basano tutti su Landau e Lipschitz, il primo volume che è teoria dell'elasticità, che è grosso così, non so se lo ricordate. Poi appena uno passa a quello, passa a teoria dei campi. Teoria dei campi è già grosso così. Poi comincia meccanica quantistica, che è grosso così, ma bisogna aver studiato il Curran Tilbert per avere quello, se no non lo leggi, ragione per cui ci sono altri due volumi grossi così di matematica. Poi quando uno comincia a fare teoria quantistica relativistica, che è due volumi grossi così, eccetera, eccetera, si rende conto che forse la fisica è un pochino più complessa di quella che si spera che ci sia dietro i terremoti. Oppure, ribaltando la cosa, che se uno affronta i terremoti in maniera semplicistica non ottiene niente, che è quello che si vede. Allora, la fenologia dei terremoti qual è? Dunque, la fenologia dei terremoti è fatta sostanzialmente da delle invarianze in scala. La prima è la legge di Gutenberg e Ritter, che sostanzialmente dice che se io metto in scala logaritmica, il numero degli eventi e la magnitudine degli eventi ottengo una retta. Praticamente vuol dire che ci sono, visto che la tendenza è 1, in scala log log, che ci sono 10 eventi di più di magnitudo di un grado più bassa rispetto a quelli di magnitudo più alta, cioè 10 magnitudo 5 rispetto a 1 magnitudo 6, 10 magnitudo 6 rispetto a 1 di 7, eccetera, eccetera, eccetera. Non solo. La stessa tipo di legge funziona per l'energia, solo che è un esponente diverso. Questo vuol dire sostanzialmente che i terremoti di energia di magnitudo 5 hanno 30 volte di meno energia rispetto a quelli di magnitudo 6, quelli di magnitudo 6 30 volte di meno rispetto a quelli di magnitudo 7, eccetera, eccetera, eccetera. La conseguenza di questo è che chiaramente l'unico terremoto di magnitudo più grande ha più energia di tutti quelli di prima, perché il numero di... sono 10 di più di numero, ma di energia ce n'è a 30 e quindi ha un vantaggio di 29, sostanzialmente. Di 20, scusate. C'è un altro tipo di legge di potenza, cioè di legge di lineare in log-log, che è l'invarianza in scala nel tempo, che si chiama legge di Omori. Quella di prima si chiama legge di Canamori. Questo vuol dire che sostanzialmente se vado a prendere i tempi di inter-evento, cioè il tempo tra un evento e l'altro, piccolo, rispetto a un tempo che è 10 volte più grande, ottengo anche qui grosso modo un decimo, cioè 10 volte eventi ravvicinati rispetto ad eventi più lontani, e via così. Poi c'è un'invarianza in scala in termini di dimensione, energia e tempo, e questa è una legge di Baccarral. Sostanzialmente quello che succede è che se uno utilizza quello che in fisica si chiama la rinormalizzazione, quello che ottiene è che tutti i terremoti, se io prendo i terremoti di una zona piccola e considero magnitudo piccoli, oppure terremoti di una zona grande, al limite di tutto il mondo, di magnitudo molto grande, si comportano tutti alla stessa maniera, cioè collassano tutti su un unico attrattore, un'unica curva. Questo vuol dire una cosa molto importante, che se io prendo i terremoti piccoli, ottengo lo studio del comportamento, posso studiare il comportamento che è Europa di terremoti grandi, e via così. Quindi sostanzialmente queste sono studiate per una varietà enorme di zone del mondo e la curva, che è una curva universale confermata. È chiaro che non possiamo usare l'elasticità lineare per studiare questa fenomenologia. Quello che dobbiamo usare è, per l'appunto, tutti gli elementi e gli strumenti della fisica teorica moderna, che partono dalla dimensionalizzazione, il gruppo di rinormalizzazione, geometria frattale, wavelet, sistemi dinamici complessi, self-organized criticality, teorema di fluttuazione e dissipazione, poi altri, mi è finita la pagina, però diciamo che gli strumenti sono strumenti variegati rispetto a quelli semplicistici con cui si affronta una cosa. Un modello dovrebbe tener conto di alcune variabili fondamentali. Le variabili fondamentali di Stati sono il tasso di attività, la lunghezza di correlazione, il bilanciamento, il bilancio di energia termodinamica. Sino adesso i terremoti sono stati solo trattati classicamente come se fosse un fenomeno meccanico, ma la parte termodinamica in un sistema fisico ovviamente è la parte fondamentale. E poi soprattutto la diffusione dei fluidi crostali, l'acqua, che purtroppo dal punto di vista formale è non lineare, gli operatori non lineari di diffusione sono i più terribili dal punto di vista matematico, però qualcosa si riesce a fare anche lì. Morale di questo qual è? Che un modello matematico dei terremoti, un modello fisico matematico dei terremoti comprensivo non esiste. Il che è una cosa abbastanza normale in fisica avanzata, quindi non ci dobbiamo stupire, ma si può spezzare in maniera riduzionista il problema in vari strati e lavorare piecewise, cioè a pezzi. Questo è quello che sostanzialmente abbiamo fatto nella Commissione Grandi Rischi, e cioè cosa possiamo fare usando questo tipo di metodologia e le conoscenze fisiche moderne per affrontare il cluster sismico per l'appunto che avevamo l'anno scorso. La prima cosa da fare è che abbiamo deciso di non credere assolutamente alla mappa di pericolosità italiana, perché sapevamo anche da sbagliare. La seconda cosa è chiedersi dove dovevamo aspettare i terremoti. Allora, per vedere dove dobbiamo aspettare i terremoti, il fatto che quello che conta è la rinormalizzazione in scala temporale, ci dice che sostanzialmente le due informazioni che abbiamo, il catalogo storico, il catalogo storico dei terremoti, che è il più esteso che abbiamo, oltre a quello strumentale, va comparato con l'altra fonte che abbiamo dei terremoti, che è quella geologica. I geologi riescono a capire, usando le loro metodologie, dove sono stati i terremoti ed estendono la scala del catalogo di alcune decine di migliaia di anni. Se uno fa questa operazione, confronta i dati storici del catalogo, quelli paleosismici, cioè quelli del coso, vede che in realtà il tasso storico è molto diverso di un ordine di grandezza come tasso rispetto a quello paleosismico. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che ci sono molti più terremoti apparentemente dal punto di vista storico che di quello paleosismico e quindi sostanzialmente quelli che vediamo dal punto di vista storico sono in una situazione di questo tipo. Supponiamo che siamo vicino a un aeroporto internazionale e vediamo un aereo di quelli grossi, quelli a due piani, un Airbus 380 che è a terra e ci chiediamo come fanno i bambini, da dove arriva? Allora, una delle cose che possiamo fare è andare dentro e vedere il tabellone e vediamo il tabellone delle ultime due ore degli arrivi, dell'ultima mezz'ora di arrivi e vediamo che arrivano da Roma, da Napoli, da Marsiglia, da Londra, da Salerno, da Dusseldorf e poi ce n'è uno che arriva da San Paolo. Allora, il ragionamento quale deve essere? È quello del catalogo che uno dice beh, vedo che arrivano molti da, che so io, dall'Inghilterra, ne arrivano un tot, arriverà dall'Inghilterra che è la cosa più probabile. Però se facciamo così noi non teniamo conto del fatto che quello è un aereo grosso. Essendo un aereo grosso è difficile che un aereo grosso di quelle dimensioni, con quel costo e con 800 passeggeri da sbarcare venga dall'Europa. È più facile che sia un aereo intercontinentale. E quanti aerei intercontinentali ci saranno arrivati in quelle due ore che si ripetono, visto che ne sto vedendo uno, in poco tempo? Nessuno. Quindi quell'aereo arriverà da dove non ne ho visto nessuno arrivare, da dove non è nel catalogo. La stessa cosa succede ovviamente per i terremoti, che sono due tassi diversi, no? Sto comparando due cose con due tassi diversi. Diciamo che si rifà a una teoria che si chiama la teoria delle code inverse, in cui nelle code quello che può succedere è che i comportamenti possono essere, si dice FIFO, first in, first out. Quello che è entrato per primo esce per primo, oppure quello della LIFO, che serve last in, first out, l'ultimo che è entrato esce, oppure in questo caso diventa NIFO, cioè nessuno di quegli entrati è quello che esce. E cioè deve usare il catalogo al contrario. Allora, questa è una di quelle mappe che secondo me dovrebbe essere la Bibbia, probabilmente lo sarà adesso la nuova carta di pericolosità. È una carta delle faglie attive, redatta dal gruppo del dottor Luca Valensisi, che parlerà dopo, oggi pomeriggio, che sostanzialmente fa vedere quali sono le strutture in Italia. Le vedete in arancione. Quelle in cui ci sono stati terremoti storici le vedete in verde. Quindi sostanzialmente quello che viene fuori da questo, dal confronto dei due, è che i terremoti avverranno dove c'è dell'arancione e non c'è ancora stato del verde. Tanto per intenderci, la crisi sismica di quest'anno ha riempito questi due trattini qui. Ve li faccio con la matita, ve li faccio vedere se ci riesco. Ha riempito questi, questi due qui. Adesso quelli sono diventati verdi, cioè questi. Ce ne sono tanti altri da riempire, ovviamente, e su quelli ci si dovrebbe concentrare. La seconda cosa che dobbiamo fare, e che ovviamente abbiamo fatto, è attenderci la persistenza. Perché attenderci la persistenza? Perché per la legge di Omori quello che succede è che più gli eventi, in grosso modo questo si mette come una retta, cioè minore il tempo che è passato dall'evento precedente, minore sarà il tempo per l'evento successivo. Maggiore il tempo dall'evento precedente, maggiore il tempo dall'evento successivo. Che significa questo? Vuol dire che più terremoti vedo, più me ne devo aspettare, meno ne vedo, meno me ne devo aspettare. Cioè ci sono i periodi di tranquillità e ci sono i periodi invece di attività. In periodi di attività i terremoti sono molto più probabili. Molto è sempre relativo, nel senso che noi la differenza dei tassi è da 10 alla meno 5 passa a 10 alla meno 2, il che vuol dire da 10 alla meno 6 a 10 alla meno 2, il che vuol dire che comunque anche nei periodi maggiori ho dei tassi che sono dell'ordine di qualche per cento. Ma chi salirebbe su un taxi che ha la probabilità di qualche per cento di avere un incidente? Io non ci salirei, c'è un taxi che ha la probabilità del 3 per cento di salirci, è vero, il 97 per cento che non succede a niente, ma il 3 per cento c'è da un incidente? Non è molto ragionevole. Purtroppo questo è esattamente il contrario di quello che si è visto in passato, in cui per esempio la voce ufficiale era che il fatto che ci sia un cluster di terremoti, cioè uno sciame tra virgolette, non aumenta né diminuisce la probabilità di evento, non è vero niente, l'aumenta di un fattore da mille a diecimila. Gli effetti in questi casi sono molto tristi. L'altra cosa che abbiamo deciso di fare è comunicare direttamente col pubblico, non per sfiducia nei confronti dei giornalisti, ma perché purtroppo i giornalisti hanno la tendenza a esagerare, se c'è una cosa che fa sensazione viene preferita rispetto a una cosa che invece è ragionevole. Questo è per esempio il nostro comunicato del giorno 28 ottobre, in cui dicevamo in maniera piuttosto chiara che c'era la possibilità concreta, indicando anche la zona, di un terremoto di magnitudo tra 6 e 7, è capitato un 6 e 6 due giorni dopo. Poi di portare la mappa non dalla pericolosità, ma di portarla sulla vulnerabilità, cosa che sino adesso viene fatta in maniera assolutamente non sistematica, per il semplice motivo che quello che succede non è tanto l'importante che ci sia un terremoto, ma quello che succede con la risposta locale tra terremoto e struttura. Uno degli esempi classici proprio in questa zona, i due villaggi di Onna e Monticchio, Onna è qui che è stato distrutto al 90 e passa per cento e Monticchio è qui, sono un chilometro di distanza sì e no. A Monticchio non è successo assolutamente niente, questo è Monticchio, qualche cornicione è caduto e questo è Onna, 40 morti e distruzione assolutamente totale. Essendo gli stessi gli edifici, essendo probabilmente fatti dalle stesse imprese, dagli stessi operai, con gli stessi materiali, questo è un esempio assolutamente drammatico di quello che conta è la vulnerabilità. La stessa cosa è successa alla Matrice ovviamente. In realtà quello che si può vedere è che siccome quello che conta sono la risonanza doppia tra suolo e struttura, all'Aquila, questo è un lavoro del 2013 che però poteva essere fatto tranquillamente anche purtroppo prima, tutti i danni sono in assoluta correlazione con una frequenza di risonanza che è quella tipica degli edifici. Purtroppo quello che succede è che probabilmente l'Aquila è stata costruita sul landfill del terremoto del 1703 e quindi hanno preso le case, le hanno rasate, ci hanno costruito sopra, il teleno non è stabile e quello che succede è che quando capita un evento amplifica la zona. Studi analoghi sono stati fatti a Firenze per esempio, dove per ora grazie a Dio non è ancora capitato un terremoto, ma nel centro di Firenze dove voi capite perfettamente che tutti gli edifici monumentali non hanno nessuna precauzione antisismica, ci sono un sacco di zone con possibili amplificazioni altissime nel range di frequenze da 2 a 3 Hz che è esattamente quello delle case e delle ville, diciamo da 2 a 5 piani che sono esattamente quelle che ci sono. Quindi se capitasse un terremoto a Firenze sappiamo già da qui, andando a misurare semplicemente il rumore sismico, dove si concentreranno le zone di vulnerabilità maggiore. Ovviamente quello che si può vedere è la stessa cosa che si può fare sugli edifici, se uno va sugli edifici e misura con il rumore sismico ambientale qual è la risposta, cosa che si fa in pochissimo tempo, riesce a vedere quali sono le zone pericolose. Queste per esempio sono misure che facciamo noi sulla Torre di Pisa, il Campanile di San Marco, la Torre degli Asinelli a Bologna e un edificio moderno, dove vedete che le frequenze di risonanza emergono in maniera assolutamente evidente, emergono anche con il loro dumping che per l'ingegnere è una variabile fondamentale. Poi l'altra cosa che è stata fatta è quando capita il terremoto, siccome il terremoto distrugge ma dopo i terremoti capitano sempre a grappolo, i successivi fanno ancora più danno e quindi quello che bisogna fare in maniera assolutamente rapidissima ed efficiente è la valutazione dell'agibilità degli edifici e eventualmente evacuarli. Questa è una cosa messa a punto dall'Università di Udine e dal professor Grimas che permette usando mezzi tecnici modelli, tipo iPad portatile e ai vigili di andare a fare una valutazione immediata e di dare una… i vigili adesso sono quasi tutti ingegneri e quindi… visi del fuoco, sì… e quindi di vedere immediatamente cosa bisogna togliere, cosa non bisogna togliere, eccetera. Allora, i risultati di tutto questo. Il primo evento di magnitude 6 e 2, quello tra virgolette detto di Amatrice, che di Amatrice non era ma che purtroppo ad Amatrice ha fatto danni, non ha mostrato nessun cluster, quindi diciamo che la previsione in quel caso era impossibile perché la fenomenologia non ce lo permetteva. Ci sono stati 299 moti, in quel caso siamo stati molto sfortunati perché era in concomitanza con la festa locale Amatrice, Amatriciana e quindi purtroppo quella zona in cui però avremmo potuto sapere, dovuto sapere che lì c'era una situazione di pericolo di amplificazione locale molto forte, ha portato ad accelerazioni molto grandi, vicine a 1 G, è stato misurato addirittura 1.1 G, quindi superiore all'accelerazione di gravità e questo ha provocato crolli molto diffusi nel centro storico di Amatrice, fuori no, ma nel centro sì, con 299 mila vittime. Tutti gli altri eventi della serie però li abbiamo previsti. Previsti correttamente, sono state evacuate 35 mila persone, tutti gli edifici non sicuri sono stati evacuati, l'evacuazione forzata in questi casi non è venuta fuori sui giornali, ma l'idea è o vai via da casa tua e vai dove diciamo noi o se no ti ospitiamo in una prigione. E tutti ovviamente hanno accettato la prima ipotesi. Allora, la conclusione di tutto, che se si usa la fisica corretta, come abbiamo fatto stavolta, una capacità predittiva importante è possibile. Non solo è possibile, è possibile non in maniera deterministica, però in maniera molto efficace. Ovviamente la previsione deve essere combinata con senso comune, informazione diretta e una condivisione di responsabilità, perché se non c'è una condivisione di responsabilità, il decisore scarica tutto sugli scienziati, gli scienziati scaricano tutto sul decisore dicendo me ne frego, oppure io non voglio prendermi il rischio di dare la comunicazione diretta, come abbiamo fatto noi il comunicato stampa, non si va avanti. Però l'efficacia alla fine si ottiene. e quindi secondo me la strada è buona e bisogna andare avanti. Io ho finito qui, grazie. Grazie. Innanzitutto grazie, è stato molto interessante. Voglio dire due cose. La prima che abbiamo fatto fare uno studio sull'indice di vulnerabilità sismica di questo edificio, voi sapete che il massimo è 1.0, il massimo della sicurezza, ed è venuto fuori da questo studio che qui siamo in un edificio con 1.0, quindi è il massimo della sicurezza possibile. Questo naturalmente può dar luogo a considerazione e battute su come si costruiva negli anni 30 e come si costruisce oggi, vabbè, comunque. Lo dico anche per stare tutti sereni, diciamo così in questo momento. L'altra è, volevo commentare un attimo proprio quel comunicato stampa che ha destato spese e specie, diciamo così, un po' nella popolazione in generale, nei cittadini, ma anche nei politici, ha destato più di un mal di pancia, non so come dire, no? Cioè il fatto che si poteva aspettare all'Aquila una cosa fra 6 e 7 e che lo sciame non era ancora con... Nella zona, nella faglia qui intorno. Vabbè, insomma diciamo, come vedi già il fatto che lo riporto in maniera approssimativa può darsi che l'abbia inteso male. Ecco, volevo capire questa cosa perché ha dato luogo a molte preoccupazioni nella regione, diciamo, adesso l'Aquila o comunque nelle vicinanze. Cioè c'è veramente questo, perché sentire parlare di grado 7 è una cosa che fa molta paura. Ecco, volevo capire un attimo se a posteriori avreste fatto lo stesso comunicato stampa, viste le reazioni, oppure se, diciamo, volevo commentare su questo. Grazie. Come dire, la domanda forse andrebbe, diretta a Sergio Bertolucci che si è preso la responsabilità, lui è il capo della Commissione di Grandi Rischi. Però dopo una riunione in cui abbiamo discusso del problema, l'idea di fondo era stare zitti, ma se stiamo zitti è una omissione di atti d'ufficio e non ci comportiamo secondo la competenza e lo stato dell'atte che invece è il nostro obbligo morale. Quindi quello dovevamo dire qualcosa. Lo diciamo soltanto alla protezione civile, come prevede il protocollo stretto. Se lo diciamo alla protezione civile, quello che succede è che c'è una prima distorsione della protezione civile che in qualche maniera ha i suoi interessi, perché la protezione civile cerca di mantenere capra e cavoli, cioè ha una situazione di emergenza. In una situazione di emergenza deve andare a rifare cose che ha già fatto e allo stesso tempo ha a cuore, diciamo, il consenso tra virgolette politico che invece per i politici diventa la cosa più importante. Quando si misca il consenso con il problema scientifico è una cosa complicatissima. Allora noi abbiamo detto, noi ci prendiamo la responsabilità del problema scientifico e quindi dal problema scientifico noi lo mettiamo così. Poi il decisore ne trae le conclusioni che vuole. Noi eravamo stati anche più precisi. La parte che riguardava l'Aquila, ovviamente lo sapete tutti, è la parte della faglia che va verso Campotosto. Campotosto c'è un bacino, il bacino di Campotosto ha dei problemi. Il bacino di Campotosto ha dei problemi nel senso che se uno lo mantiene pieno garantisce una disponibilità di energia con anche dei problemi delle riserve di sicurezza, ma la riserva di sicurezza va a confliggere con la riserva di sicurezza di un'eventuale frana che entra dentro, che non sarà mai come quella del Vajonta, nonostante poi abbia voluto travisare la stampa. Quello è bellissimo, è stato un travisamento della stampa prendendo un pezzo, ma comunque sì, il problema esisteva. Esisteva il problema ed esisteva in quei casi lì, non c'è niente da fare. Per quello che ho detto, condivisione di responsabilità, noi ci prendiamo la nostra. Il decisore si prende la sua, il politico se vuole i voti non può pretendere di avere il consenso durante la crisi e poi il consenso dopo, quando invece promette case popolari a basso prezzo, centri commerciali eccetera, sviluppa la zona, salvo poi vedere che crolla tutto quando c'è un terremoto. Tenete presente che lo sviluppo massimo della costa italiana è quello romagnolo e non so se sapete questa cosa perché è veramente impressionante, uno lo va a vedere, la costa romagnola si è sviluppata perché negli anni 30, un senatore che potete recuperare facilmente, l'epoca era quella degli anni 30, immaginatevi, e quindi della costa e quindi avendo un'entratura diretta con chi comandava allora, ha tolto ogni tipo di normativa antisismica. Tenete presente che Rimini è una zona altamente sismica e provate a immaginare cosa potrebbe succedere se ci fosse un cluster di questo tipo a maggio di un anno e la commissione grandisti dice guardate, qui succede questo, tutte le prenotazioni vengono cancellate e c'è una richiesta di danni, immaginate voi, 10 alla 10, 10 alla 12, 10 alla 14, non lo so neanch'io, diventa una cifra astronomica solo per il rilassamento d'anni per una cosa che, come si può dire, potenziale e basta, ma se capita e se capitano 200.000 morti la responsabilità di chi è? Mica da grandi rischi. Quindi io dovrei essere fuori, nel senso che sono già stato 5 anni a servire, 5 anni e mezzo sono stati estesi, adesso gradirei dopo aver due terremoti che qualcun altro prendesse la palla e conto, abbiamo fatto vedere come si fa, basta, però ovviamente spesso e volentieri di notte non dormo, perché se capita una cosa del genere, a ischia, esatto, come si dice in francese. Intanto volevo ingratularmi con il professor Monaggia perché mi ha fatto pure capire qualche cosa dei terremoti, non è veramente grazie. Il problema che è venuto fuori poi alla fine con questa responsabilità condivisa, io credo che ci siano due elementi che vanno riportati a come era la situazione qualche anno fa. Primo è l'assoluta indipendenza dalla comunità scientifica, cioè avere delle nomine attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e della classe politica è un fatto da evitare. La gerarchia deve essere interamente nelle mani della comunità scientifica. Questo era così qualche anno fa. Perché poi deve essere la comunità scientifica che giudica e che emette poi anche qualche tipo di comunicati stampa, ma insomma che deve essere, non c'è di peggio quando la comunità scientifica comincia a discutere sui giornali. E' una cosa, la prima cosa questa. E quindi la seconda è che in un paese come il nostro non si può, come posso dire, non avere un'autorità politica che si interessi della protezione civile, ma forse oggi della sicurezza civile. Quindi una situazione come quella del nostro paese deve assolutamente prevedere un'autorità politica a livello di superministro, non di ministro, di autorità, che sia addetto. Quindi avere cancellato quello che è stato fatto nella direzione dell'autorità politica credo che sia un fatto da ripensare. Ecco allora che poi di avere un certo tipo di colloquio diventa molto molto più facile. Grazie. Grazie a te. Allora cominciamo adesso la sezione sulla meteorologia e il professor Tibaldi che ci parlerà della gestione dell'incertezza meteorologica nella catena decisionale di protezione civile in caso delle previsioni di probabilità, improbabilità. Buongiorno a tutti. Allora cominciamo con non sbagliare. Faccio questo ringraziamento perché di barmiera della protezione civile in qualche maniera ha stimolato questa riflessione e poi faccio anche una scusa a quelli che l'hanno già sentita. Uno lo so per certo, l'altro dovrebbe esserci ma sarà per strada. Speriamo che arrivi. Anche se devo dire, dopo aver stimolato questa riflessione, non è che abbiamo fatto passi da gigante nella direzione che avevo auspicato, però la speranza è sempre l'ultima a morire, quindi io continuo a nutrire speranza che qualche cosa in questo paese, nella direzione che adesso vi andrò in qualche maniera a raccontare qualche passo avanti si possa fare. La domanda essenzialmente è i sistemi di osservazione idrometeorologici, le tecniche di previsioni essenzialmente basate su modelli che abbiamo disponibili oggi nelle sale operative regionali, in quelle nazionali e quant'altro, sono adeguati a fornire con il necessario preavviso e sugli areali che chi deve prendere le decisioni desidererebbe, quindi il più possibile piccoli, limitati, specifici. L'informazione è essenziale che deve poi decidere le azioni ottimali, allora qui faccio come quelli che dicono subito l'assassino, così ci mettiamo subito, non è un giallo, quindi racconto subito. I limiti regionali sono molti e molto importanti per quanto riguarda i modelli operativi, quindi siccome tutte le previsioni sono il prodotto di strumenti scientifici anche sofisticati e complessi, ma che non sono esenti da errori e quindi tutti questi errori insieme configurano una incertezza, anche quantificabile, se uno si chiede se i risultati vengono comunicati adeguatamente io ritengo che la risposta sia no. Su questo si costruisce naturalmente il fatto che la gestione di questa incertezza non viene realizzata correttamente e quindi non contribuisce alla formulazione migliore possibile dell'allerta e non si riflette correttamente sulle scelte decisionali conseguenti. Questo non significa che la soluzione sia banale dietro l'angolo che uno fa così e io abbia la panacea di tutti i mali, però io ritengo che questi siano problemi ai quali forse bisognerebbe dare un po' più attenzione di quella che fino adesso è stata ad essi riservata. Vediamo un po' se riesco. Qui può darsi che la mia presentazione in qualche maniera vada a sovrapporsi un pochino con la presentazione che seguirà, perché però qui cercherò di essere rapido per quanto riguarda la nostra capacità di prevedere. Predicibilità, mi concentrerò sulla predicibilità a breve degli eventi meteo intensi, non quindi sulla predicibilità a medio termine della meteorologia in generale che mi interessa di meno, qui voglio guardare più specificamente. Alla previsione a breve, brevissimo termine, 6, 12, 24, 36 ore puntuale, dettagliata nel tempo e nello spazio, eventi intensi e localizzati, è sicuramente una previsione che è ancora lontana da una situazione che dia tranquillità al decisore, anzi direi che è vero esattamente l'opposto. Il decisore si trova quasi sempre di fronte a delle situazioni in cui potrebbe, ma non so, forse, chissà, dipende, tu cosa ne dici, che facciamo, che non facciamo, andiamo a sentire il collega, si fanno delle discussioni, come dire, si va verso una specie di consensus forecast, che però è un consensus human, non è un consensus basato su dei criteri oggettivi, già questo è un limite importante. Il no casting, che sono le previsioni da mezz'ora a 1, 2, 3 ore prima dell'evento, diciamo, lo metto subito da parte perché è un ottimo strumento per gestire gli eventi in atto, perché l'evento è già in atto, allora uno sa che esiste, lo segue e cerca di vedere l'evoluzione, ma per fare previsione di un evento non ci sono i tempi tecnici per fare essenzialmente alcun tipo di intervento, se io vi dico che fra mezz'ora viene un temporale fortissimo che manderà in crisi il reticolo idrico, quindi bisogna chiamare la protesione, in mezz'ora non si fa niente, quindi salvo quelle poche cose che uno può fare in autotutela e in autocomportamento, ma poca roba si può fare. Lasciamo da parte il no casting e ci concentriamo su quello che io considero essere il punto cruciale della discussione, c'è la previsione cosiddetta a breve termine, che per il suo orizzonte temporale di 12, 24, 36, 48 ore al massimo, rimane l'unica previsione in grado di preannunciare i fenomeni meteo intensi con un anticipo tale da permettere la realizzazione di una adeguata, per esempio, modellistica idrologico-idraulica in cascata della modellistica meteorologica e quindi rapidamente l'attivazione di un sistema di allertamento che abbia speranza di poter incidere sulla sicurezza e sulla vita, sulla sicurezza della vita delle persone e anche sulla sicurezza dei beni. Naturalmente entro tutti i limiti della qualità di questo tipo di previsioni. In genere oggi si adoperano i cosiddetti modelli ad area limitata in modalità deterministica o di ensemble, arriverò a spiegare fra un pochino di che cosa stiamo parlando, con delle risoluzioni orizzontali che possono andare nella pratica operativa odierna da 1 a 10 km. Dire risoluzioni orizzontali da 1 a 10 km può anche essere un po' misleading, perché se uno ha una risoluzione orizzontale modello, ha un punto di griglia ogni chilometro, non è che è capace di risolvere le strutture grandi come 1 km, perché in genere da un punto di vista strettamente matematico ci vogliono almeno 3 o 5 punti di griglia per descrivere un'entità meteorologica, quindi i chilometri non sono più 1 ma diventano 5, 6, 7, 8, quindi per esempio un cumulonembo che può avere una torre convettiva precipitante e violenta che può avere dimensioni di 1 km o 2 km, siamo già al limite, in un'area grigia in cui un po' si può risolvere, un po' no e questo causa dei grandi problemi modellistici. Con questi modelli si riesce sempre ad avere un quadro affidabile della possibile occorrenza di eventi catastrofici generati dai fenomeni idrometeorologici intensi, con un orizzonte temporale 12-36 ore che è l'orizzonte temporale che permette l'intervento di protezione civile, non dico in tranquillità perché nessun intervento di protezione civile è mai fatto in tranquillità, però con un minimo di respiro che possa permettere. Il problema principale di tutti questi modelli ad area limitata o non area limitata, in ogni caso su risoluzioni di questo tipo, è che l'esatta localizzazione nello spazio e nel tempo con queste 12-24-36 ore di anticipo, gli eventi molto intensi ma anche piccoli e che di durata breve, perché parliamo di eventi che possono durare anche soltanto 3-4 ore, quindi sono piccoli di scala e rapidi in tempo, è veramente molto difficile da ottenere. Una previsione ragionevolmente affidabile si dice sia possibile, non in tutte le situazioni, quindi per certe situazioni, solo per areali dell'ordine di 10.000 km2, cioè immaginatevi quadrati di 100 km per 100 km, quindi non certo nel giardino dietro a casa mia, vostra, o di chi. Nel caso di questi fenomeni spazialmente limitati, ma anche in grado di produrre delle quantità di precipitazioni rilevanti, parliamo di cose da 4-500 mm in 6-12 ore, che non sono certo una banalità per un reticolo erogato, se poi siamo in area urbana e se poi siamo in area urbana che hanno dei ritombati, parliamo di situazioni che possono anche essere molto difficili, in più uno ci aggiunge questi frequenti errori di localizzazione, tempistica e intensità su queste scale spazio-temporali, da parte della modellistica migliore che possiamo avere a disposizione di tipo deterministiche. questi errori come si traducono? Si traducono in sottostime o sovrastime e quindi in previsioni che possono anche essere, come si dice, misleading, cioè fuorvianti e quindi addirittura non soltanto non essere previsioni di aiuto, ma essere previsioni di disaiuto, nel senso che poi uno si basa su una decisione sbagliata, fa prendere decisioni sbagliate e causa molto più danno di quello che sarebbe accaduto se non avesse fatto niente. Non è nemmeno pensabile che in un prossimo futuro questi problemi verranno rapidamente risolti, quindi abbiamo di fronte a noi un arco temporale abbastanza lungo per porci questi problemi, sapendo che questi problemi non saranno di facile soluzione, almeno per qualche anno. Parliamo appunto allora di incertezza delle previsioni meteo, però questa incertezza si compone con l'incertezza delle modellistiche che vengono avanti delle previsioni meteo, modellistiche di tipo idrologico-idrausico, uno vuol sapere la piena del fiume, modellistiche di tipo di frana, uno vorrebbe sapere se aumenta la probabilità di frana in un certo punto, se c'è una frana già in atto vorrebbe sapere se questa frana si può rimobilitare, si può mobilizzare, quindi tutte queste incertezze si compongono. Adesso salto, le possibili cause sono abbastanza ovvie, le condizioni iniziali, la parte osservativa, i modelli che non sono perfetti, queste cause si compongono fino a generare questa incertezza della previsione. Allora, distinguiamo fra previsioni deterministiche e previsioni di tipo probabilistico. Che cos'è una previsione deterministica? Una previsione deterministica è una previsione unica, sola, elaborata da un modello unico, che parte da un'unica condizione iniziale e produce un'unica previsione quantitativa. Che problemi ci sono? È che la previsione deterministica, il modello non ha mai dubbi, ce n'è uno solo, quindi se voi volete sapere se l'acqua supera una certa soglia, o la supera o non la supera. Il modello non ha dubbi, sbaglia, ma in ogni caso non trasmette dubbi, perché o supera o non supera. Questa è anche la difficoltà psicologica di che deve poi utilizzare quello strumento per prendere la decisione, perché nella previsione deterministica il modello deterministico, non avendo mai dubbi, non trasmette mai dubbi all'utilizzatore decisore. I dubbi l'utilizzatore decisore se li deve costruire da solo, o dalla sua esperienza o dalla sua conoscenza dei limiti del modello. L'esperienza ci dice che il margine di errore possibile, in una previsione a breve range, 12-24 ore, per esempio di precipitazione quantitativa in un areale piccolo, può essere del 100%, e voglio essere ottimista, potrebbe essere del 200%, perché uno prevede 50 mm e ne cadono 200, peggio ancora, uno prevede niente e ne cadono 200, oppure uno ne prevede, devo dire un po' più spesso, uno ne prevede 200 e non succede assolutamente, io ne prendo 10. Quindi, mica che le cose vadano sempre così male, in media vanno molto meglio. Però ci sono episodi, e in genere sono episodi molto significativi da un punto di vista dell'operatore di protezione civile, che possono dare luogo anche a differenze molto rilevanti. Quindi, perché le previsioni deterministiche sono ancora generalmente preferite dai decisori, ma anche dai previsori? Perché danno una falsa sensazione di sicurezza. Io mi ricordo una volta il prefetto Gabrielli, durante una bellissima manifestazione a Roma, ha definito questa falsa sensazione di sicurezza effimera, mi ricordo perfettamente che mi segnai questo termine, perché è perfetto, è una falsa sicurezza effimera. La responsabilità del decisore viene apparentemente ridotta, perché il modello ha già deciso per lui, o supera o non supera, non ci sono problemi. In realtà non è così, perché i falsi, i mancati allarmi delle previsioni deterministiche, soprattutto quando naturalmente i valori sono vicini alle soglie di pericolo, sono molti, accadono troppo spesso. E in realtà il previsore è costretto ad assumersi, molto spesso, la responsabilità di non credere al modello, o di non credergli del tutto, e di modificare la risposta del modello a seconda di quello che lui ritiene. Voi vi rendete conto che quando un previsore fa una cosa di questo tipo qui, si prende una responsabilità enorme, perché se il giorno dopo succede, dopo tre ore succede il disastro e due giorni dopo il magistrato lo chiama, gli dice perché non hai dato l'allarme? E lui dice ma non l'ho dato perché in genere in queste situazioni i modelli esagerano. Ma il modello ieri cosa diceva? Il modello ieri diceva 300 mm, ma io non ci ho creduto, galera. E non si scatta, eh? Cioè, galera. Naturalmente nessuno si preoccupa delle altre 100 volte in cui invece questa operazione ha portato a non fare un'operazione inutile di protezione civile. Però mi rendo conto che il mancato allarme e il falso allarme sono due vesti completamente differenti e quindi ad una bisogna dare una grande attenzione, grandi privilegi, all'altra invece, come dire, è solo, come direbbe uno che viene tamponato, è solo lamiera, diciamo, plastica e lamiera, poi non succede assolutamente niente, invece la vita umana è un'altra partita. Quindi paradossalmente le previsioni deterministiche, cioè il modello singolo, lasciano al previsore un margine di soggettività molto ampio, mentre invece vengono erroneamente percepite spesse volte dal previsore come una base più oggettiva per la scelta. Perché? Perché non c'è da scegliere. Il modello ha la sua risposta alla già data. Poi il previsore, nella sua potenza infinita e decisionale, può decidere di crederci, non crederci, cambiare o non cambiare. Questa è una splendida previsione deterministica del Centro Europeo di Previsione Meteorologica a medio termine di Reading, ritengo, qui non riesco a vedere un incidente, per sabato prossimo, vedete? È ancora caldo. E si vede bene che è ancora caldo. Questa è una previsione di precipitazione, sempre per sabato probabilmente, se non di vicino, del modello ad aria limitata italiano che viene utilizzato un po' da tutti in Italia, aeronautica militare, protezione civile, tutti i servizi meteorologici regionali di precipitazione. Vedete che questa è una previsione a due giorni, quindi oggi, martedì sarà giovedì, giovedì. Allora, voi che cosa dite? Piove o non piove in Italia? Supponiamo che ci fosse una intervista alla radio. Professore, pioverà in Italia? Essenzialmente uno guarda la mappa a un provvisore, ormai dice no, non piove niente. No, guardate, non vedete che non piove? Sì, certo. Sì, ci sono dei scattered showers, come si diceva una volta, però niente di rilevante. Ognuno di quei bolli azzurri potrebbe essere un disastro. Ce ne sono troppi, non si sa esattamente se vengono lì, un pochino più in là, un po' più su, un po' più giù. Quindi c'è un'enorme incertezza da gestire utilizzando strumenti di questa natura. e in questo momento, a mio parere, per le modalità con le quali le previsioni vengono fatte, utilizzate e a cascata vanno sull'intero sistema, questa incertezza non viene gestita nella maniera ottimale. Perché l'incertezza si può ridurre, ma non si può rimuovere. Siccome non si può rimuovere, la cosa migliore che si può fare è gestirla correttamente. Cioè, bisogna gestire l'incertezza sapendo che esiste, quantificandola e imparando a comunicarla alla prossima persona nella catena. Il mio giudizio scientifico, tecnico e professionale è che in questo momento il sistema nazionale, ma mica solo il nostro, anche molti altri sistemi nazionali, certo solo il nostro, non fanno questa operazione al meglio di ciò che gli strumenti che noi abbiamo a disposizione permetterebbero. Questo è il punto che cerco di comunicarvi. Cosa significa gestire correttamente l'incertezza? Prima di tutto, significa per dire la presupposto che siccome noi sappiamo che quella previsione non è perfetta, non va utilizzata come se fosse perfetta. E se ce n'è una sola non c'è altra maniera di utilizzarla come se fosse perfetta, mettendoci sopra dei giudizi personali, individuali e quindi non oggettivi che possono anche dipendere moltissimo dall'operatore. Oggi l'operatore è un drago, sa benissimo cosa deve dire? Oggi l'operatore è scarso, ha poche esperienze, è stato appena assunto e magari fa meno peggio. È chiaro che se c'è poi un drago, siamo tutti a posto, ma è che un drago ogni tanto ha in ferie. Anche un drago va in ferie e va sempre in ferie nei giorni svegliati, siccome lui lo sa, perché è un drago e allora se ne va in ferie. E quindi ad ogni previsione, come disse molti anni fa un collega olandese, ad ogni previsione dovrebbe sempre essere associata una stima quantitativa ragionevole dell'errore probabile, ma non una stima che non è una stima media, non so se mi spiego, prendo tutte le previsioni di 50 anni, calcolo l'errore medio delle previsioni e dico che anche la previsione per domani avrà un errore. Cosa mi serve quella stima? Assolutamente niente, perché domani avrà quell'errore lì, dopo domani dirò la stessa cosa. Ci vuole una previsione dell'errore, come dicono gli inglesi, of the day, cioè l'errore di domani, veramente di domani e la previsione deterministica non è in grado di fare. A che cosa possiamo attaccare? C'è le previsioni improbabilità. Che cosa significa fare le previsioni in probabilità? Significa essenzialmente montare dei sistemi cosiddetti di ensemble, che sono la versione anglo-francese, questo ensemble, parola mutuata a metà fra l'inglese e il francese, di quello che i fisici chiamano un sistema di Montecario. L'idea è quella di non produrre una sola previsione, ma di produrne tante, che in qualche maniera dovrebbero essere, sarebbe meglio che fossero equiprobabili tra di loro, non che ce ne fossero metà che sono piuttosto buone e metà che fanno piuttosto schifo, però le mischio lo stesso perché tanto non ho altro. Dovrebbero essere circa previsioni che cadono tutte in una classe di qualità, perlomeno simili. Ora, non voglio perdere tanto tempo a cercare di descrivere come queste previsioni vengono prodotte, perché come avete un'analisi del tempo oggi, adesso fate la previsione, però questa analisi può venire perturbata, può venire leggermente cambiata in maniera intelligente, siccome si sa che anche quell'analisi è affetta da certi errori, si può cambiare leggermente proprio là dove si pensa sia affetta da errori, ci sono tecniche per generare una ellupla, dove n può essere 10, 20, 50, 100 condizioni iniziali e invece di fare una previsione ne faccio 100, se sono 100 è perché sono ricco, se sono un po' meno ricco ne faccio 50, se sono poverello ne farò 10, ricco, poverello eccetera, intendo di tempo di calcolo, di risorse di super computing che sono poi lo strumento con il quale questi oggetti si producono. E quindi invece di avere una previsione ne ho tante che partono da un insieme di condizioni iniziali che stanno tutte in un intorno della mia stima migliore ed evolvono, ed evolvono in scenari, quindi io ho uno scenario in cui succede questo, uno scenario in cui succede quell'altro, come faccio io a distinguere questi scenari? Se il sistema è ben calibrato e funziona bene e l'ho messo a posto appunto bene, per esempio la popolazione di quei cluster, di quegli insiemi è una misura della loro probabilità, se il sistema è ben, poi spero Roberto Guizzi in qualche minera accenerà nella prossima presentazione. E quindi si tratta di formulare le previsioni in probabilità, probabilità per esempio di superamento di data soglia, ci saranno più di 35 gradi in una certa area, pioveranno più di 150 mm di pioggia in una certa area, che probabilità c'è che la soglia venga superata e da dove si deriva la stima dell'incertezza. È chiaro che se io vi dico che la probabilità che la soglia venga superata è del 50%, vuol dire che quella previsione è altamente incerta, semplicemente metà dei modelli vada da una parte, metà dei modelli vada dall'altra, in linguaggio molto comune e familiare vuol dire che nemmeno il modello sa esattamente da che parte deve andare, perché basta una piccola differenza, si vada da una parte o si vada dall'altra. Ma se il 90% dei modelli vada da una parte e il 10% vada dall'altra e il sistema è equilibrato bene, allora io dirò che c'è il 90% di probabilità che l'evoluzione sia di un tipo e una bassa probabilità del 10% che sia dell'altro tipo, che non significa zero, significa 10%. Se il sistema è equilibrato bene, significa che se io faccio 100 previsioni di quel tipo, 90 andranno nel posto del 90%, ma 10 risulteranno andare nel cluster poco popolato, perché se quello dice 10%, però il 10% ci deve essere, perché in genere poi la gente dice al 90%, allora vuol dire che fa così, no, vuol dire che c'è il 90% di probabilità che fa così, se lo facciamo 100 volte, 10 volte andrà dall'altra parte. Questo che cosa significa? Significa che anche la gente che poi usa queste previsioni deve avere una cultura, un'attitudine, un training, deve essere in qualche maniera abituata a prendere decisioni sulla base di previsioni che sono casted in probabilità, che sono fornite in probabilità. Questo l'abbiamo già detto. In Italia sono da tempo disponibili, ma da tempo, quando dico da tempo non voglio esagerare, ma da tempo immemore, sono disponibili due, operativamente due sistemi di ensemble, quello globale delle CMWF che è ancora a 30 km adesso? 16. Sì? 16. Ah, 16! Abbiamo già dimezzato, sì, 16 km, io vedo che uno fa una slide un anno, la do per l'anno dopo, e uno ha già fregato, che al centro europeo dimezzano le risoluzioni una volta alla settimana, non si riesce a stargli dietro. Quella d'area limitata, CosmoLabs, che è gestito da Arco Emilia Romagna, ma è un sistema nazionale, disponibile nazionalmente nel circuito della protezione civile, peraltro che viene in realtà prodotto sui calcolatori delle CMWF, in questo momento è a 7 km, ma credo il prossimo mese passerà a 2 km di risoluzione orizzontale. Due sistemi, questo è il sistema, sono le mappe prodotte dal sistema di ensemble, questo qua di nuovo deve essere la previsione sempre per sabato, esatto, sabato 24, adesso non voglio stare a descrivere cosa sono queste mappe, ma l'idea è che vi danno una, con questi bolli colorati, vi dicono in una certa area che probabilità c'è, che quale affidabilità ha in quella parte di mondo, questa è una mappa emisferica dell'emisfera nord, che affidabilità ha in quella parte di mondo la previsione, naturalmente non è che abbiamo soltanto mappe di questo tipo, abbiamo anche mappe molto più zoomate, questa è l'Europa, quindi qui c'è la stessa identica mappa zoomata sull'Europa, quindi possiamo vedere per esempio se la previsione di temperatura fatta per il prossimo sabato è una previsione che è sicuramente di temperatura alta, è una previsione certa, non certa forse, ma non lo so, dipende, quindi previsioni in probabilità di questo tipo, a scala abbastanza grande come dicono i meteorologi sinottica o anche subsinottica, sono già disponibili da 25 anni, abbiamo fatto il compleanno un paio d'anni fa, abbiamo fatto il 20, 3 anni fa e mezzo e adesso sono già passati 3 anni e mezzo e fra un anno facciamo il 25, splendido? No, dico facciamo perché fui coinvolto al tempo nella generazione, nella creazione, nel fare, nel produrre questo sistema che allora era un sistema di grande innovazione, oggi è un sistema diffusissimo che tutti hanno. E in Italia, in Italia abbiamo il cosmo Veps, questa è la probabilità che la temperatura superi i 30 gradi in 24 ore, nelle 24 ore comprese fra le 0,0 del 20 e le 0,0 del 21, le soglie di probabilità sono quelle 10,30, 30,60, 60, 60, 90, 90, 100, vedete che in pianura padana la probabilità che questo sistema ha dato, superamente tra il 100%, voi direte, ma è facile, lo sapevamo tutti, dipende, non c'era motivo di dubitarne, non c'era bisogno di avere tutti questi sistemi sofisticati quando basta accendere la televisione, come disse quel famoso senatore americano, perché devo spendere tanti soldi per la NOA quando ci sono le previsioni meteorologiche gratis sulla televisione, infatti siamo ritornati a quei tempi purtroppo, pare. Allora, vorrei però porre un dubbio barra difficoltà, mentre è abbastanza evidente che un sistema di previsioni in probabilità è teoricamente superiore di una singola previsione deterministica con un errore ignoto, se io vi dico volete una singola previsione con un errore ignoto o una previsione in probabilità con un errore stimato per domani, chiaro che mi dite il secondo, vogliamo il secondo, perché è palesemente meglio, però io domando, ma questo sistema è veramente il migliore anche nella pratica reale di una sala di protezione civile nazionale nazionale, la mia risposta è NOA. Allora voi mi dite, però sei contraddittorio, hai rotto le scatole, fino adesso hai fatto una tiritera per dire che il sistema è migliore, ma adesso perché non è più improvvisamente da migliore ha perso la sua migliorità? Il problema è un altro, il problema è che il sistema è migliore ma soltanto se il sistema che agisce a valle è veramente capace di prendere decisioni sulla base di previsioni in probabilità, queste decisioni però devono risultare condivisibili e accettabili e ci deve essere dietro una cultura, una tecnica d'uso diffusa e condivisa che sia pronta a utilizzare previsioni formulate in termini di probabilità e questo purtroppo in questo momento nei sistemi nostri nazionali non è così. Cosa servirebbero? Servirebbero delle istruzioni operative chiare, non ambigue, dei protocolli precisi e condivisi, quindi massima eliminazione della soggettività, bisogna prevedere degli scenari e su ogni scenario prevedere in tempo di pace quale azione si farà o non si farà a seconda della probabilità, ci vogliono delle matrici di comportamento che noi evidentemente in Italia non siamo in grado di fare, sulla base di previsioni che sono sì affette da errore ma con una inaccuratezza che è quantificabile e ragionevolmente prevista, cioè previsione della probabilità di occorrenza dei vari scenari di evento possibili, ma se io faccio una previsione di uno scenario di evento e poi non ho un protocollo che mi dice che se quello è lo scenario di evento più probabile allora devo fare esattamente questo, questo e questo e se la probabilità non supera una certa soglia, invece devo fare questo, questo e questo, sarà l'operativa, diventa un bailam di discussioni e diventiamo vecchi e intanto la gente è annegata. Quindi uno dice ma come realizzo questi protocolli? Ci sono migliaia di strade possibili naturalmente, si tratta soprattutto di discutere bene in tempo di pace ma soprattutto si tratta di utilizzare degli studi quantitativi costi benefici di ognuna delle azioni. Gli studi costi benefici non sono facili da fare però se il nostro sistema nazionale sanitario è capace di decidere quante persone far morire della malattia A non curandola perché i soldi che servono a curare la malattia A sono meglio spesi a curare la malattia B che fa morire tre volte tanto persone, tanto per capirsi. Adesso ve la brutalizzo ma... allora se si fanno ragionamenti di questo tipo io credo che si possano fare anche ragionamenti di tipo simile dicendo se la probabilità è più alta o più bassa supera o non supera si fa questo invece si fa quell'altro, consci del fatto che non è possibile fare sempre tutto perfettamente e in maniera ottimale, però lo si fa sulla base ottimale e sulla base delle conoscenze ed è questo e guardate che esistono tonnellate di cost loss analysis tabelle grafici che potete andare di una complicazione mostruosa, non vi sto a commentare qui ci sta il costo, là ci sta il valore, quindi noi sappiamo che se facciamo una certa cosa la paghiamo, un'azione costa ma se non la facciamo risparmiamo i soldi dell'azione ma se il danno arriva il danno vale tot e se invece io evito il danno ho risparmiato, allora ci fanno dei ragionamenti di cost loss analysis e si riesce a determinare per ognuno degli scenari qual è il comportamento a priori ottimale. Chiudo dicendo soltanto, facendo una rapida carrellata del fatto che previsioni in probabilità ce ne sono tantissime, la previsione degli uragani negli Stati Uniti si fa in probabilità, qui ci sono tutte le varie traiettorie dell'uragano, si vede qual è la traiettoria più probabile avendo girato 20, 30, 40, 50 modelli facendo mappe di probabilità e si prendono le decisioni conseguentemente. Si fa soltanto sulle previsioni brevi o a medio termine? Assolutamente no, si fa sulle previsioni estese, mensili, stagionali, questo è il seasonal forecast, previsioni stagionali del centro europeo di Reading dove vengono date previsioni di probabilità, voi mi chiederete ma perché solo sull'Africa? Perché sull'Europa hanno un valore economico e non ce le mettono sul sito web e siccome io non lavoro più per il centro europeo non ho più la password e quindi chiedetela al signore con la giacca blu la password che vi fa vedere le previsioni anche sull'Europa, però per poco tempo, rapidamente perché se no poi dopo le capite e allora dopo le potete vendere a un operatore illegale. Il bello è che le stesse previsioni o qua le stesse previsioni, se le andate a vedere sul sito di Copernicus che è un progetto gestito dal centro europeo che ha tra i suoi scopi anche quello delle previsioni stagionali, ecco Tracet, invece improvvisamente sul sito ricompare l'Europa, è una cosa veramente molto curiosa il fatto che l'Europa non compaia sul sito del centro europeo ma sul sottosito del centro europeo di Copernicus l'Europa sia visibile, quindi potete andare a vedere le previsioni stagionali, qui però non sono solo i modelli del centro europeo, sono tre modelli insieme sono i CMWF, Met Office e Meteo France e presto si aggiungeranno altri due modelli che sono Deutsche Wetterdienst e quello del CMCC italiano, quindi cinque nazioni parteciperanno a questo come si chiama super ensemble in cui si uniscono cinque ensemble per fare un grande super modellone questo per esempio è la previsione se avremo un elnino se siamo di fronte a un elnino vuol dire che la linea deve stare ragionevolmente al di sopra della linea sottile e più va verso l'alto e più l'elnino è forte, se va sotto la linea allora è una linea, vedete? La risposta è che in questo momento non si sa significa che il sistema in questo momento non è prevedibile con una ragionevole certezza ci sono delle volte in cui si capisce benissimo da queste previsioni che saranno nel ligno forte fra due, tre, quattro mesi, in questo momento la risposta è don't know vicino a noi, noi abbiamo uno splendido sistema previsionale per il bacino del Po che ve la faccio corta, fra modelli deterministici, fra modelli di ensemble vedete la solita figurina delle cose eccetera produce 16 scenari, questi 16 scenari meteorologici li converte attraverso tre catene modellistiche idrologico-idraulica separate producendo qualche cosa come, che sono queste le tre catene modellistiche producendo qualche cosa come 48 scenari tutti i giorni allora se voi mi chiedete no no queste previsioni vengono fatte all'Aipo l'Aipo le ha, sono fatte essenzialmente per l'ente che deve gestire le piene del Po no però la cosa che voglio sottolineare è che queste previsioni operative vengono veramente formulate, pur potendo vengono veramente formulate in termini di probabilità in realtà no in realtà no perché gli operatori non sono né pronti né disponibili quindi dato l'ensambio cosa fanno loro? la media dell'ensambio no ma si può fare questo è un estimatore migliore ecco sulla deviazione stand sono già meno convinti sulla media sono più convinti la direzione stand, sai, primo momento cioè questi momenti che ho messo, secondo momento, terzo momento sono tanti momenti e quindi meno convinti perché? perché manca la cultura quindi è un'operazione che va fatta sia sul piano tecnico sia sul piano scientifico sia sul piano culturale degli operatori per riassumere l'univocità della previsione deterministica ha fatto sì che fino ad ora sia stata nettamente preferita anche perché in maniera si confà di più alle logiche di comunicazione anche mediatica perché è difficile raccontare una previsione di improbabilità anche a un giornalista 30%, 40%, 60% ma allora cosa fate? il mio ciume dì pioverà più di 80 milioni il fiume va fuori oppure non va fuori quindi è proprio anche un problema non soltanto di gestione operativa ma di comunicazione però diciamo questa univocità della previsione deterministica non aiuta a gestire l'incertezza ma perché la previsione probabilistica che è sicuramente uno strumento migliore della previsione deterministica diventi lo strumento previsionale privilegiato nella pratica quotidiana dei sistemi nazionali è necessario superare una resistenza culturale che in moltissimi altri paesi è già stata ampiamente superata Gran Bretagna, Germania, Francia sono tutti i sistemi nazionali che lavorano tutti su previsioni in probabilità in cui la previsione in probabilità è il primo strumento che viene utilizzato per determinare il comportamento del sistema gli strumenti previsionali esistono da moltissimo tempo di tipo probabilistico sono operativamente disponibili in modo abbondante anche in Italia ma se non abbiamo la pianificazione degli scenari preconcertata se non siamo in grado di utilizzare correttamente la previsione probabilistica che è ricca da un punto di vista informativo ma più complessa da elaborare anche nella testa dei previsori e da comunicare al di fuori allora essenzialmente la transizione completa verso la previsione probabilistica non avverrà mai perché ci vuole un sistema di formazione degli operatori ma anche dei fruitori per creare una cornice culturale tecnica favorevole indispensabile senza la quale vedete c'è anche lì c'è un ensemble di da che parte andremo grazie ok prima di tutto grazie mille Guido per avermi invitato è sempre un piacere tornare all'Aquila e tornare a GSSI allora quello che cercherò di discutere brevemente è quali fenomeni riusciamo a prevedere oggi e quanti giorni in anticipo dato che l'audience immagino sia di gente anche che si occupa di altri sistemi complessi e non solo di metodologia cercherò di illustrare brevemente anche come abbiamo disegnato i sistemi meteo di oggi quello che vedete intanto qui come animazione sono due immagini una immagina è un insieme di 24 ore di immagini da satellite delle nubi l'altra è la simulazione un forecast a 24 ore di S&WF della copertura nuvolosa come vedete abbiamo fatto passi enormi rispetto a quello che come vedrete vi farò vedere negli anni 60 e 70 cioè oggi i modelli che utilizziamo sono in grado non solo di prevedere variabili che descrivono la circolazione a grande scala come il vento o la temperatura o la pressione ma riusciamo anche a prevedere in maniera direi abbastanza accurata anche la copertura nuvolosa la copertura nuvolosa è una delle variabili più difficili da prevedere nel modello allora tre punti vorrò fare la prima è farvi vedere giusto un paio di slide su cosa eravamo in grado di fare 40-50 anni fa e cosa facciamo oggi poi vi parlerò appunto del fatto che la predecibilità dipende dalle scale dai fenomeni che cerchiamo di prevedere e quindi concluderò quella che vedete a sinistra è la previsione che venne fatta nel 1966 all'Uviona di Firenze e del nord-est dell'Italia allora non esistevano modelli numerici allora comunque venivano raccolte osservazioni come vedete nella mappa e venivano disegnate a mano da fisici e meteorologi utilizzando quello che si conosceva del sistema fluido-atmosfera delle mappe sulle situazioni attuali però l'unico modo per prevedere era cercare sostanzialmente di estrapolare quello che si conosceva quello che si riesce a fare oggi e lo vedete qui una immagine di un forecast del 28 settembre del 2016 è invece una simulazione una previsione di tutto il sistema tridimensionale fluido-atmosfera come siamo riusciti a passare da là a quello che facciamo ad oggi siamo riusciti ad arrivare a quel punto sostanzialmente grazie ad avanzamenti in quattro aree fondamentali la prima è l'osservazione che noi oggi abbiamo abbiamo molte osservazioni moltissime osservazioni all'European Center raccogliamo circa 400 milioni di osservazioni al giorno 200 milioni ogni 12 ore e ne utilizziamo più o meno 20 milioni ogni 12 ore per creare le inizie condizioni modelli abbiamo sviluppato modelli utilizzando partendo dall'equazione della fisica abbiamo accesso a supercalculatori che ci permettono di risolvere in maniera accurata e abbiamo sviluppato la scienza abbiamo capito quali sono i fenomeni fondamentali che dobbiamo simulare nei modelli per riuscire a fare questa previsione quindi ho detto osservazioni il numero di osservazioni è cresciuto in maniera esponenziale e più dagli anni 70 da quando abbiamo iniziato a mandare satelliti in orbita con una serie di strumenti osservativi come vedete fino all'inizio degli anni degli anni 70 o fine degli anni 70 in realtà il numero di osservazioni erano sostanzialmente osservazioni da terra o radio sondaggi o con palloni o è solo dopo gli anni 70 che abbiamo iniziato ad avere satelliti ad oggi il 95% delle osservazioni che raccogliamo nel sistema atmosfera vengono da satelliti e vedete qui una immagine della copertura dei satelliti geostazionari e orbitanti dei qualche giorno fa queste sono immagini del 21 ottobre del 2016 secondo punto il secondo motivo per cui siamo riusciti ad avanzare è che abbiamo costruito i modelli che simulano non solo i processi dell'atmosfera ad oggi l'European Center genera previsioni globali a 15 giorni con il nostro modello d'insieme utilizzano un modello accoppiato che simula l'oceano i ghiacci i processi superficiali terrestri e l'atmosfera quindi abbiamo sostanzialmente capito che se volevamo estendere ulteriormente la qualità delle nostre previsioni dovevamo introdurre ulteriori processi processi quindi che sono un po' illustrati in questa slide processi e componenti fino a qualche anno fa e diciamo che per ora siamo gli unici a fare previsioni a medium term con un modello accoppiato oceano sea ice land e atmosfera fino ad oggi la maggior parte o quasi tutti i modelli che vengono utilizzati non utilizzano un modello accoppiato oceano atmosfera e l'altro motivo per cui siamo passati la situazione negli anni 60 e 70 ad oggi è che abbiamo preso le equazioni fluide del sistema a terra e le abbiamo risolte su un grigliato un grigliato che ad oggi a European Center ha un passo griglia di 16 km lo vedete qui nell'immagine per il sistema d'insieme a 9 km di risoluzione per il sistema d'alta risoluzione e nella verticale vede l'atmosfera come un insieme di livelli di 91 livelli per il sistema d'insieme e 137 per il sistema ad alta risoluzione quella che vedete a sinistra è il globo visto nella nostra nuova cubic grid che è una griglia introdotta a ESA edri introdotta per la prima volta un anno e mezzo fa a European Center è una griglia che ci permette di risolvere in maniera più accurata processi a scala piccola la cosa però che bisogna come aveva accennato anche Stefano non dimenticare che anche se il modello di European Center ha una scala di 9 km o 16 insieme in realtà i modelli riescono a simulare in maniera corretta solo processi che hanno una dimensione più o meno di 5 6 8 scale temporali scale a volte la scala spaziale del grigliato che utilizziamo per risolvere le equazioni e questo è messo in evidenza da questa figura che mostra uno spettro di energia del vento osservato in nero e simulato dalla nostra griglia a 9 km di risoluzione e quella dell'insieme a 16 km quindi da un certo punto l'importante cos'è? l'importante è che il modello nostro riesca a simulare e ad avere energia tutte le scale del sistema confrontabili all'osservazione chiaramente noi abbiamo un modello che risolve fino a 9 km non possiamo risolvere nulla a scala più piccola però come vedete in realtà le due curve del modello della simulazione e dell'osservata iniziano a differire ad una scala più o meno 5, 6, 8 scale spaziali quindi ricordiamoci che anche ad oggi se abbiamo modelli di 9 km di risoluzione in realtà il modello vede e simula in maniera diciamo accurata dal punto di vista energetico solo scale di 50 km modelli ad un km in realtà simulano solo scale a 5 km quindi se vogliamo pensare in un futuro dove vogliamo sviluppare modelli che riescano a risolvere la convezione in maniera esplicita dovremo andare a modelli con qualche centinaio di metri di risoluzione per riuscire a simulare processi con la scale quarto grosso ingrediente che ci ha permesso di evolvere dagli anni 70 ad oggi è i supercomputers cioè computer power è aumentato negli anni dal tempo in cui CWF implementò il primo Cray 1 nel 78 quando Stefano era a European Center ad oggi è un fattore 10 to the power 6 un fattore enorme grazie proprio a questi sviluppi alla disponibilità di questo computer power noi riusciamo ad assimilare osservazioni riusciamo a girare modelli complessi e riusciamo a rendere la griglia del sistema molto molto fina allora Stefano vi ha parlato del sistema delle modellistiche d'insieme dell'importanza di pensare al problema di previsioni meteorologiche nel punto di vista probabilistico io non discuterò questo campo perché lo do come assodato cioè oramai diciamo che i paesi i centri meteorologici leader del settore assumono che non ha alcun senso pensare al problema delle previsioni meteo dal punto di vista deterministico bisogna smettere di fare cercare di dare previsioni deterministiche perché anche come ha detto Stefano a sei ore si sbaglia esistono errori nelle condizioni iniziali grandi così grandi che rendono persino le previsioni a sei ore impossibili quindi bisogna pensare in maniera probabilistica bisogna pensare in maniera ad la busità ad ansambo quindi quello che adesso voglio dire quali fenomeni e quale scale riusciamo a prevedere sottointeso con un sistema probabilistico allora se iniziamo a cercare di pensare alla previsione di situazioni di pioggia tipo quelle che sono successe qualche giorno fa nel nord-est dell'Italia siamo ai primi di giugno 6 giugno di nuovo per il nostro sistema di previsione probabilistica quello che vedete qui sono la previsione a Venezia della pioggia e della temperatura quindi pioggia alla sua temperatura con il nostro modello di insieme vedete i box and whiskers diagram mostrano il valore minimo e massimo e le percentili 25esimo 50esimo 75esimo percentili previsione a 6 giorni a 3 giorni a 1 giorno giusto per dare un'idea di quello che era stato osservato come vedete anche a 6 giorni in realtà riusciamo ad avere un'indicazione più o meno non completamente sbagliata nel fatto che c'è un cambiamento di regime dagli inizi di giugno verso 6 da una stazione secca ai 20 temporali però prevedere esattamente quando e dove e a che ora arriverà il temporale impossibile era a Venezia il 6 giugno il temporale arrivò alle 11 e mezza di sera lo prevedevamo alle 6 impossibile prevedere esattamente l'ora esattamente l'intensità della pioggia se però andiamo su scale più grandi tipo l'attuale ondata di calore che sta influenzando l'Italia in realtà riusciamo a prevedere fenomeni a quelle scale oramai settimane in anticipo queste sono previsioni fatte 15 quindi due settimane fa e 4 settimane fa della situazione che stiamo sperimentando oggi della temperatura in Europa tra il 19 e il 25 giugno come vedete il sistema probabilistico quindi questa è un'anomalia di temperatura basata sul nostro sistema d'insieme ci dà indicazioni del fatto che siamo in una situazione calda già 4 settimane prima notate la scala del fenomeno la scala è più grande su scale così grandi il nostro sistema riesce a simulare bene il fenomeno e qui è un altro esempio di una previsione di temperatura per la settimana dal 29 maggio al 4 giugno in alto a sinistra vedete l'osservato con lo misurato e qui vedete le previsioni una, due, tre fino a tre quattro settimane vedete che fino a due settimane e mezzo c'è un'indicazione a due due e mezzo tre di quello che può succedere in maniera accurata chiaramente il segnale viene perso più avanti in questo caso qui stiamo parlando di temperatura è una variabile più facile da prevedere se cerchiamo di prevedere la precipitazione ecco che di nuovo i fenomeni di precipitazione sono caratterizzati da scale più piccole perché sono legati a moti verticali se andiamo a vedere lo spettro di energia della velocità verticale ha molte ha molta energia anche sulle scale piccole è più difficile da prevedere di fatti questa era la previsione per la settimana il 29 maggio al 4 giugno l'osservato riusciamo ad avere un segnale diciamo una settimana non di più se andiamo a eventi più a grande scala uragani questo è l'esempio di Mafio uragano che ha del settembre 2016 la previsione ad insieme di Senda a 10 giorni come vedete riusciamo anche qui a dare indicazioni precise di nuovo solo da un punto di vista probabilistico di quello che sarà il path che l'uragano seguirà durante i prossimi 10 giorni in rosso vedete l'osservato e qui quello che vedete è la previsione dell'intensità del sistema e finisco per parlare di scale ancora più grande il nino fenomeno che influenza tutto il Pacifico centrale quello che vedete a sinistra sono le nostre previsioni a un anno delle anomalie di temperature in una zona nel Pacifico centrale in blu l'osservazione in rosso la previsione che avevamo messo il primo maggio del 2016 per tutto fino al 2017 come vedete il sistema che aveva indicato in maniera corretta il passaggio da una situazione positiva di smile del nino a una posizione negativa e questa è l'ultima previsione emessa il primo maggio del 2017 per il prossimo anno emettiamo una previsione annuale con il sistema di insieme seasonal una volta ogni tre mesi e questa è la previsione per i prossimi tre mesi come Stefano ha detto nei prossimi sei mesi c'è molta incertezza su quello che succederà però se guardiamo queste previsioni da un anno in realtà ci sono si poi riconvergono ma c'è un'indicazione che ci sono una metà dei membri che danno più probabile una stazione di positive quindi di anomalie positive e anche strong sì e anche strong allora se noi mettiamo un po' insieme tutti questi fenomeni cerchiamo di costruire quello che in un paper che abbiamo pubblicato abbiamo chiamato forecast kill horizon diagram arriviamo a questa tipo questa figura allora quello che vedete qui sono le scale dei fenomeni che cerchiamo di prevedere abbiamo messo un cut off alle scale che riusciamo a risolvere quindi intorno ai 30-40 km e abbiamo cercato di illustrare su questo diagramma fino a che punto riusciamo a prevederle in maniera accurata e come vedete si passa da eventi estremi a scala molto locale che si riescono a prevedere solo qualche giorno in antissimo ma se noi andiamo a prendere fenomeni più a grande scala come North Atlantic Oscillation o eventi che influenzano una regione o addirittura un continente vedete che queste linee che ci danno il limite di predicività riusciamo ad ottenere abbiamo delle previsioni accurate quando intendo quello che voglio dire con l'accurato è che sono più hanno un contenuto di informazione maggiore che una previsione statistica puramente solo su un'analisi statistica del passato fino addirittura a mesi prima questa è la situazione in cui siamo ad oggi se voi pensate ai lavori di Edo Lorenzo negli anni 60 e 70 allora si parlava di limiti di prediscibilità a due settimane Lorenzo scrisse negli anni 70 che previsioni mensili sarebbero state impossibili perché sarebbe stato impossibile riuscire a spingere oltre perché errori delle scale piccole avrebbero comunque influenzato previsioni oltre due settimane oggi in realtà siamo qui quindi invece di avere un limite secco a 15 giorni per tutte le scale quello che abbiamo capito è che ci sono scale ci sono fenomeni che riusciamo a prevedere prima come siamo arrivati a spiegare come possiamo spiegare questo tipo di 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 comportamento i motivi sono sono vari ma molto in maniera molto semplice quello che dovete pensare è che è vero che ci sono c'è una propagazione degli errori dalle scale piccole alle scale grandi che possono quindi che possono influenzare la precisione anche di previsioni mensili di temperatura sull'Italia ma allo stesso tempo se noi riusciamo a inizializzare in maniera accurata le scale grandi o se riusciamo a inizializzare in maniera accurata dei componenti del sistema che hanno memoria tipo soil moisture il contenuto di umidità del suolo o tipo le superfici dell'oceano utilizziamo capo d'ocean alto sermoda allora riusciamo a portare dei segnali predecibili dalle scale grandi alle scale piccole il punto in cui questa propagazione degli errori e dei segnali si incontrano determina il limite di predecibilità del sistema questo punto dipende dei fenomeni che cerchiamo di prevedere per i temporali è molto basso per gli anomali di temperatura nel Pacifico è a un anno o più cosa succede cosa pensiamo di poter fare nel futuro vi mostro due o tre slide giusto per darvi un'idea su che cosa stiamo lavorando l'European Center il primo fatto che abbiamo chiaramente capito è che se continuiamo se riusciamo ad aggiungere ulteriori processi a simulare processi che ci portano che ci possono portare ad aumentare la predecibilità allora riusciamo ad allungare questi tempi uno di questi processi è aerosols interactive aerosols che possono aiutarci a prevedere in maniera più accurata il quanta radiazione ad esempio passa e raggiunge la terra che quindi influenza il vento che può influenzare anche circolazione a livello globale quello che vedete qui è l'impatto di girare previsioni mensili con un interactive aerosol scheme quello che vedete qui sono gli errori di precipitazione del sistema attuale specialmente nella zona del Monsolo indiano quello che vedete qui invece sono gli errori se noi abbiamo utilizziamo un modello con interactive aerosols come vedete c'è una riduzione degli errori di precipitazione sulla scala mensile come spieghiamo questo fenomeno il motivo è che se riusciamo a cioè che aerosols sono importanti per riuscire a descrivere in maniera accurata l'interazione tra la radiazione terrestre e il flusso atmosferico nel North African Jet se noi introduciamo aerosol riusciamo a ridurre gli errori sulla circolazione globale in questa zona e come effetto abbiamo una previsione migliore della circolazione sul oceano indiano e quindi la previsione del Monsolo è migliore quindi area numero uno è che stiamo continuando a lavorare a cercare di capire quali sono quei fenomeni che il nostro modello non simula o simula male che se li introduciamo possono aiutarci a migliorare il secondo punto è sviluppare dei sistemi di inizializzazione capo ocean land atmosfera wind aerosols per ora quello che c'è il modo in cui noi adesso inizializziamo il sistema di insieme ad esempio è che abbiamo un sistema di assimilazione dei dati in atmosfera e uno in oceano separati che ci danno le initial conditions dei due sistemi non affrontiamo il problema di assimilazione dei dati col sistema completamente accoppiato quindi ad oggi se io ho un'osservazione nell'oceano non mi influenza lo stato dell'atmosfera mentre capite che se c'è un'osservazione che mi dice che una certa regione del Mediterraneo è calda chiaramente l'atmosfera nei primi strati sente che c'è un'anomalia calda e quindi la circolazione e la pressione e la temperatura dell'atmosfera è influenzata se io ho solo osservazioni in oceano ad oggi non riesco a dire niente all'atmosfera che invece se ho un sistema di assimilazione capo riesco a passare l'informazione dal media ocean al media atmosfera inizializzarli meglio accoppiatamente e questa è un area in cui stiamo lavorando quello che vedete qui è l'impatto sulla forecast quality per questi sono esperimenti di reanalisi quindi del passato se noi inizializziamo lo stesso modello con initial condition calcolata in maniera accoppiata versus in maniera non accoppiata si guadagna un giorno si guadagna più o meno 12 ore di forecast skin intorno al giorno 6 quindi come vedete c'è l'opportunità di di nuovo aumentare le previsioni in questo modo e l'altra area in cui stiamo lavorando moltissimo è di inserire la chimica e l'aerosol nel nostro sistema in modo che riusciamo a prevedere non solo le variabili metodologiche di cui siamo interessati ma riusciamo a prevedere anche variabili tipo la concentrazione di CO2 o il Saharan Dust o queste altre variabili in modo che riusciamo a dare previsioni della situazione dell'ambiente quello che vedete è un'animazione delle analisi quindi della situazione osservata dopo essere passata attraverso il nostro processo di assimilazione generata dal Copernicus Atmospheric Monitoring Service CAMS che è uno dei due progetti EU Copernicus che l'European Center sta gestendo allora noi non solo generiamo analisi tutti i giorni ma generiamo anche forecast a 5 giorni a una risoluzione di 80 km e con questo mi fermo grazie grazie per l'invito di venire a parlare di frane di inondazioni e delle loro conseguenze nella presentazione provo a affrontare il tema del rischio del rischio geoidrologico da una prospettiva che forse non è proprio comune e questo spero alla fine non deluda le aspettative lasciatemi iniziare però con un video che secondo me esemplifica bene cosa vuol dire rischio idrogeologico che a me piace chiamare di più rischio geoidrologico e non perché sono un geologo questo video è stato registrato è stato girato a Taiwan da un automobilista per caso nell'agosto del 2013 piove e guardate cosa cosa succede per fortuna è finito finito tutto tutto bene ora però entro nel nel merito della della presentazione che ho diviso in varie parti inizierò con delle definizioni degli esempi per stabilire una sorta di linguaggio comune vi illustrerò quello che è un po' l'impatto e quali sono i costi del dissesto geoidrologico in Italia affronterò poi il problema del rischio per la popolazione della percezione che la popolazione ha del rischio del sentiment come si direbbe e infine vi dirò quello che secondo me si può o si dovrebbe fare o non fare per difendersi da frani inondazioni allora cominciamo con alcune definizioni e degli esempi molto banalmente che cos'è una frana una frana è un movimento di roccia terra o detrito lungo un versante apparentemente molto semplice è un'inondazione è un allagamento in tempi brevi di un'area che normalmente non è allagata di un'area subaerea da non confondersi con un alluvione che è un evento causato da avverse condizioni meteorologiche caratterizzato da piogge intense o prolungate che provocano a loro volta frane e inondazioni a prima vista le definizioni che ho dato sembrano molto semplici ma nascondono in realtà una notevole complessità vediamo in dettaglio la definizione di frana che come ho detto è il movimento di roccia terra o detrito lungo in versante appunto sembra sembra molto semplice se non fosse che le frane si presentano in forme e modi molto diversi possono crollare ribaltarsi espandersi scivolare su superfici curvo planari possono colare e per complicare le cose molte frane sono una combinazione di queste tipologie di movimento nello stesso momento in momenti diversi della loro esistenza faccio una carrellata di esempi questi sono delle semplici banale cadute massi che sono poi dei singoli massi che cadono da si staccano e cadono da una parete possono essere anche di grande volume ma anche se piccole anche se molto piccole i frammenti possono avere velocità tali da superare abbondantemente i 100 km all'ora da poter essere molto pericolose questi sono due scorrimenti che hanno provocato danni ma fortunatamente non vittime uno a sinistra è una frana in California causata da pioggi intense forse anche con il contributo dell'irrigazione nel pianoro sovrastante la frana a destra invece una frana in Umbria nel gennaio del 1997 il giorno della Befana causata dalla rapida fusione della neve questa invece è una valanca di roccia famosa la frana di Valpole in Valtellina del luglio del 1987 un dissesto di oltre 35 milioni di metri cubi che venne in realtà previsto prima della sua caduta l'area sotto la frana venne evacuata e questo limitò il numero delle vittime delle perdite purtroppo la cinematica e il volume della frana non vennero predetti totalmente completamente e 27 persone rimasero uccise 9 ferite sotto questa frana questa è una colata di terra ce ne sono tantissime in Italia ne ho presa una in Colorado è la cosiddetta Slumgolion è lunga più di 6 km larga 600 metri copre 5 km quadrati è originata circa 700 anni fa ha ostruito completamente la valle come vedete formando un lago e attualmente si muova più o meno 7 metri all'anno una curiosità questa frana in Colorado è diventato un monumento nazionale un monumento naturale nazionale queste immagini mostrano invece delle frane di tipo di un tipo diverso sono quelli che chiamiamo scivolamenti superficiali che nel giorno tecnico sono chiamati soil slip un tipo di movimento molto comune tra le frane superficiali sono tra le frane più pericolose nelle aree montane e collinari di tutto il mondo dove causano danni e soprattutto vittime ogni anno e queste sono poi invece delle frane ancora diverse anche queste molto comuni sono le cosiddette colate di detrito ne sentirete spesso parlare e sono in realtà forse il più pericoloso e distruttivo tipo di frana nelle regioni in particolare montane di tutto il mondo dove causano danni economici molto severi e uccidono anche queste persone ogni anno la carrellata di immagini dovrebbe aver convinto che nonostante la definizione molto semplice le frane sono fenomeni tutto sommato abbastanza complessi e soprattutto diversificati e questo è confermato dai campi di variazione di alcune misure banali delle frane tutte che coprono diverse ordini di grandezza per esempio l'area di una singola frana varia per 9 ordini di grandezza il volume per 14 15 ordini di grandezza e la velocità per 14 ordini di grandezza e questo fa capire quanto sia difficile studiare le frane da un lato ma anche avere un unico modo per prevederle per difendersi le frane possono essere prodotte in realtà da molte cause diverse che diciamo raggruppate in cause naturali e azioni antropiche le cause naturali possono essere tipicamente meteorologiche o climatiche come le piogge intense o pulugate la fusione della neve i cicli di gelo e di gelo la fusione del permafrost o possono essere più tipicamente geologiche come uno scuotimento sismico e le attività vulcaniche le cause antropiche sono davvero tantissime sono scavi sovraccarichi sbancamenti perdite da acquedotti o reti foniarie l'irrigazione la deforestazione l'afforestazione i cambiamenti dell'uso del suolo e anche in alcuni casi il traffico addirittura e le inondazioni come ho detto un'inondazione è un allegamento in tempi relativamente brevi di un'area che normalmente è subaerea come era questa strada a Senigallia nelle Marche che è stata inondata dal fiume Misa nel 2014 le inondazioni sono manifestazioni molto tipiche del dissesto idrogeologico e si verifica quando le afque di un fiume tipicamente escono non sono più contenuti dagli argini sia essi naturali e ontropici e si riversano nelle aree circostante inondandole per capire diciamo il concetto stesso di inondazione è importante avere un concetto che è quello di bacino idrografico che altro non è che una parte di territorio per la sua conformazione per la sua semplice geometria raccoglie le acche piovane o provenienti dalla fusione della neve che scorrono sulla superficie confluendo nella rete idrografica fino al mare una zona depressa dove fanno un lago o possono fare una zona paludosa lungo molti corsi d'acqua non sono in Italia l'uomo ha costruito degli argini che altro non sono che delle strutture artificiali che tentano di impedire lo straripamento dell'acqua sono o dovrebbero essere dimensionati sulla base dei tempi di torno previsti per le portate di un fiume una cosa interessante un punto qui da toccare che l'argine è un'opera di difesa cosiddetta passiva che può anche produrre un falso senso di sicurezza può dare delle sicurezze effimere come si diceva prima che in realtà non ci sono o c'è nato al tempo di ritorno che sentite spesso anche in Emilia ma cos'è è un concetto sostanzialmente statistico che indica il tempo medio tra due eventi successivi di entità uguale o superiore ad un valore assegnato per esempio di portato o di livello dell'acqua ad una determinata azione e in un alveo ordinario ovviamente il tempo di ritorno è più basso e quindi gli eventi di piena sono più frequenti che nell'alveo di inondazione ed è possibile definire diversi alvei di inondazione sulla base di differenti tempi di ritorno qui ne ho mostrati due uno a cent'anni e uno a 500 anni in questa esemplificazione come le frane anche le inondazioni sono prodotte da cause sia naturali che antropiche le principali naturali sono le precipitazioni intense o prolungate la rapida fusione della neve il sormonto o la rottura degli argini un eccessivo deflusso dell'acqua che non può essere contenuto dall'acqua semplicemente arriva troppo acqua o il mancato o scarso deflusso dell'acqua per istruzione semplicemente abbiamo tappato un buco e l'acqua non riesce ad andare via e ovviamente sono possibili una o più combinazioni di queste cause vengo adesso alla seconda parte della presentazione e vorrei provare a spiegarvi qual è l'impatto dei fenomeni di dissesto geoidrologico quindi delle frane e delle inondazioni in Italia le frane e le inondazioni sono davvero tante pensate che il servizio geologico assieme alle regioni hanno cartagrafato hanno mappato riconosciuto mappato più di 620 mila frane se escludiamo le pianure fanno una media di più o meno due frane ogni chilometro quadrato noi abbiamo stimato che circa il 42,5% della popolazione sono vuoto per pieno 25 milioni di persone vive in aree potenzialmente soggette a frane a questo si aggiunge che le autorità di bacino hanno riconosciuto e mappato attraverso modelli come inondabili oltre 30 mila chilometri quadrati di territorio che più o meno il 10% del paese è inondabile e la cosa se volete peggiore è che sono certo numeri grandi ma sappiamo che sono numeri sottostimati e soprattutto non è un problema solo di oggi l'Italia ha veramente una storia lunga di inondazione frane quasi ovunque se scavate negli archivi trovate immagini come questa che riportano gli effetti di una colata di detrito in un paese nelle Marche non molto lontano da qui Castel Sant'Angelo sul Nera 111 anni fa la cosa interessante è che la stessa area era stata visitata nel 1606 quindi 300 anni prima di questa fotografia 411 anni prima di adesso da un esperto mandato allora a studiare le cause delle inondazioni a visso e le cause individuate da quell'esperto mandato dal Papa furono le stesse che indicheremmo oggi sostanzialmente l'assetto geologico e geomorfologico le condizioni climatiche e l'attività antropica e anche l'impatto socio-economico di frane inondazione è veramente elevato stime per il difetto indicano che dal 1966 al 2015 abbiamo avuto oltre 4.500 fra morti dispersi e feriti e oltre 412.000 sfollati oltre a migliaia di case e ponte centinaia di chilometri di strade ferrovie distrutti e danneggiati è anche molto grande l'impatto sul patrimonio culturale la fotografia è un'icona del danno al patrimonio artistico e il Cristo di Cimabue danneggiato dalla piena dell'Arno danneggiato in una sua parte irreparabilmente dalla piena dell'Arno del novembre del 1966 questo è un elenco degli eventi maggiori per numero di vittime negli ultimi 50 anni dal 1966 al 2015 nuovamente si parte dall'evento del 66 che colpì l'Italia centro-settentrionale ricordato soprattutto per l'alluvione di Firenze ma pochi sanno che quell'evento causò l'acqua alta più alta storicamente nella laguna di Venezia a Venezia e l'elenco termina con gli eventi della Sardegna del 2013 in questi soli nove eventi hanno prodotto oltre 600 morti gli anni più recenti non sono stati in realtà tanto migliori l'elenco parte dagli eventi del 25 ottobre del 4 novembre del 2011 in Toscana prima e in Liguria poi passa per gli eventi del Grossetano del 2012 per arrivare alle colate di San Vito di Cadore nel Bellunese dell'Ulvione del Piacentino nel 2015 per essere nel terzo millennio nel settimo paese più industrializzato del mondo secondo me è un elenco impressionante e a questo proposito quanto ci costa in termini di economici il dissesto geoidrologico ci costa molto ma forse anche in modi che sono poco noti allora innanzitutto l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili quella che si chiama ANCE e il loro centro di ricerca economica e sociale del mercato dell'edilizia il Cresme hanno studiato i costi di tutte le calamità geologiche in Italia dal dopoguerra la tabella riporta i costi in particolare delle calamità geoidrologiche per diversi periodi e si nota come il costo medio anno si è assialito molto negli ultimi anni dal 2010 al 2012 supera i 2,5 miliardi di euro l'anno una cifra che forse semplicemente non possiamo più permetterci di pagare queste invece sono le spese pubbliche ossia i finanziamenti erogati da Stato regioni province autonome per la riduzione del rischio geoidrologico in 21 anni compresi fra il 1991 e il 2011 sono quasi 10 miliardi di euro che ha una media di 500 milioni di euro all'anno e per il futuro Italia sicura che è una unità di missione istituita dalla presidenza del consiglio dei ministri intende spendere più o meno 7-8 miliardi di euro nei prossimi 7 anni in opere di mitigazione del rischio geologico con una media di circa un miliardo di euro all'anno non è detto che vengano spesi il primo anno non ci sono ancora riusciti però l'ordine di grandezza della spesa è questo un miliardo di euro all'anno poi ci sono però dei costi forse meno noti paghiamo un'accisa sulla fabbricazione e la vendita dei carburanti tutte le volte che fate benzina pagate questa accisa questa imposta si compone anche di voci introdotte per far fronte ad eventi catastrofici naturali ed in particolare terremoti ed alluvioni nelle alluvioni sono entrate il Vaillant l'alluvione di Firenze più di recente l'alluvione in Liguria e Toscana del 2011 e abbiamo fatto un po' di conti abbiamo visto che nel triennio 2010-2012 la parte dell'accisa relativa a tutti gli eventi naturali catastrofici ammontava 17,5 miliardi di euro di questi 2,4 miliardi di euro sono relative alle catastrofi geoidrologiche che sono un terzo dei costi stimati da Ance e Cresme nello stesso periodo 7,5 miliardi sono costi che la Repubblica chiede ai cittadini di pagare per i danni prodotti dei eventi passati ma è bene che lo sappiate non sono utilizzati necessariamente per la mitigazione del rischio abbiamo visto quali sono i costi economici che sono grossi ma qual è il rischio da frane ed inondazione a cui è soggetta la popolazione soprattutto possiamo in qualche modo quantificarlo allora nel 2016 che è stato un anno fortunato possiamo dire per i danni alla popolazione abbiamo registrato solo si fa per dire 4 morti 3 dispersi 12 feriti e quasi 9 mila sfollati e senza tetto in 74 località di 69 comuni in 19 regioni tutte tranne la Basilicata per inciso nei primi 5 mesi del 2017 abbiamo registrato per fortuna un solo ferito in provincia di Agrigento in Sicilia nel quinquennio precedente quindi dal 2011 al 2015 i numeri sono stati diversi 136 morti 3 dispersi almeno 176 feriti e oltre 28 mila sfollati e senza tetto in 797 località di 577 comuni su 8.048 in tutte le regioni gli sfollati e senza tetto da solo sarebbero il 333esimo comune di Italia si piazzerebbero nella classifica delle popolazioni dei comuni fra Vittorio Veneto e Novi Ligure che sono comuni non piccoli e nel cinquantennio precedente ossia dal 1966 al 2015 abbiamo contato per fare inondazioni morti totali 1947 dispersi 69 i feriti almeno 2534 e gli sfollati senza tetto oltre 410 mila in 3652 località di 2110 comuni più di il 26% sostanzialmente dei comuni italiani in questo caso gli sfollati senza tetto sarebbero il settimo comune più poloso d'Italia più di Bologna e solo sotto Genova poco sotto Genova questo grafico mostra la distribuzione temporale delle frane che hanno prodotto vittime morti e dispersi tra il 1950 e il 2016 non c'è stato un singolo anno in cui non si sia verificato un evento di frana con conseguenze fatali un'asservazione però interessante è che il numero massimo di morti in un singolo evento di frana è diminuito nel tempo e questa evidenza è stata attribuita a migliori comunicazioni e all'attuazione di misure di protezione civile questo è lo stesso grafico per le immondazioni che hanno prodotto morti e dispersi sempre tra il 50 e il 2016 anche in questo caso non c'è stato un singolo anno in cui non si sia verificato un evento fatale però anche in questo caso per le inondazioni il numero massimo di morti in un singolo evento è diminuito per le stesse ragioni e sono più pericolose le frane o le inondazioni per la popolazione le statistiche ci dicono che le frane sono più letali delle inondazioni e sia per le frane che per le inondazioni gli uomini sono più a rischio delle donne in Italia e in altri paesi del mondo in particolare in via di sviluppo è il contrario in Italia dal 1965 al 2014 abbiamo avuto 592 uomini uccisi da frane contro 473 donne e 390 uomini vittime di inondazioni contro 221 donne le statistiche ci dicono anche che il rischio per uomini e donne non è lo stesso nelle diverse classi di età fra i 20 e 70 gli uomini sono più vulnerabili delle donne il massimo dei decessi per frana si ha fra i 30 e i 39 anni per i maschi mentre si ha fra i 60 e 69 anni per le femmine e il massimo dei decessi per inondazioni è di nuovo fra i 20 e 29 anni per i maschi e fra i 70 e 79 anni per le femmine c'è un comportamento completamente diverso di maschi e femmine di fronte al pericolo ma quanto sono significative queste statistiche basate tutto sommato e dobbiamo dirlo per fortuna su di un numero limitato di casi qui mostro l'insieme di frane e di inondazioni confrontato a questo dato empirico con la distribuzione attesa della popolazione nelle diverse classi di età e per genere vediamo che la significatività è buona i punti sono al di fuori dei box plot e quindi significa che la differenza statistica fra i due è reale e significativa le informazioni che abbiamo sulle vittime in particolare morti e dispersi possono essere anche utilizzate per valutare in modo quantitativo il rischio da frane ed inondazione per la popolazione e questo lo si fa o lo si può fare in due modi che sono fra loro diversi e complementari calcolando quello che si chiama il rischio individuale che è il rischio a cui è soggetto ogni singolo individuo o il rischio sociale cioè il rischio a cui è soggetta la popolazione e la sua interezza il rischio individuale è misurato dalla mortalità che è il numero di morti e dispersi ogni certo numero nel nostro caso 100.000 persone queste due immagini che non sono mappe sono dei cartogrammi perché la loro geografia è stata modificata mostrano la mortalità media per inondazione e per frana in 50 anni compresi dal 1964 al 2013 le regioni sono colorate in base alla mortalità media nel periodo invece l'estensione delle regioni è deformata sulla base della popolazione in ogni regione questa è la ragione per cui l'Abruzzo è un po' più piccolino l'Umbria più piccola di quella che dovrebbe essere la Lombardia la Campania e il Lazio sono più ampie per le frane la mortalità i colori sono più intensi in Valle d'Aosta Trentino e Campania mentre per le inondazioni è più alta nel nord ovest in Miguri e in Piemonte in Valle d'Aosta il rischio sociale invece si stima studiando la frequenza degli eventi in relazione alla loro gravità alla loro impatto misurato dal numero di vittime abbiamo costruito delle curve di frequenza del rischio sociale per frane e per alluvioni per tutte le regioni e sostanzialmente la posizione relativa e la pendenza di queste curve definiscono una graduatoria delle regioni dove il rischio per la popolazione è maggiore chi studia i rischi non solo quelli naturali sa che la percezione del rischio è fondamentale è importante e questo perché riconoscere un problema è il primo passo per affrontarlo come ci insegnavano a scuola e qual è la percezione che gli italiani hanno dei rischi qual è il loro sentiment sul dissesto geoidrologico per saperlo o per provare a saperlo abbiamo commissionato tre sondaggi d'opinione rispettivamente nel 2012 nel 2013 nel 2015 intervistando telefonicamente circa 3000 persone abbiamo prima di tutto chiesto loro quanto pensa di essere esposto a questi rischi frana alluvione terremoto eruzione vulcanica ma anche incidente stradale inquinamento ambientale le risposte sono state relativamente costanti nel tempo e questo ci tranquillizza in qualche misura nel 2015 i rischi ai quali gli italiani si sentivano più esposti erano l'inquinamento ambientale e gli incidenti stradali seguiti a una certa distanza dai rischi naturali e questo è comprensibile perché inquinamento ambientale soprattutto gli incidenti stradali sono molto più frequenti hanno un impatto maggiore fra i rischi naturali il primo è il terremoto ovviamente seguito da alluvioni e da frane abbiamo poi chiesto quale pensassero fosse il rischio naturale più probabile o più frequente nelle aree in cui vivevano e nelle vicinanze nel 2015 il terremoto era ritenuto il più probabile il 40% della preparazione seguito dalle alluvioni e dalle frane nel 2012 e 2013 le percentuali erano molto simili abbiamo chiesto agli intervistati se avessero a conoscenza diretta o indiretta di frane e alluvioni nel territorio in cui vivevano o nelle vicinanze nel 2015 di nuovo quasi il 30 il 29% degli intervistati ha detto di essere a conoscenza di eventi alluvionali il 15% di eventi di frana nel proprio comune nelle vicinanze anche qui negli anni precedenti le percentuali erano leggermente più basse qui è importante la barra grigia interessante il fatto che nel 2015 il 45% degli intervistati ha risposto di non essere a conoscenza di eventi una percentuale più bassa significativamente più bassa del passato come se la percentuale come se scusate la percezione del rischio fosse aumentata abbiamo poi chiesto se ritenessero che le frane e le alluvioni potessero rappresentare una minaccia una minaccia reale per la loro incolumità personale e nel 2015 quasi la metà degli intervistati ha dichiarato di pensare di poter essere vittima di frane o di alluvioni anche in questo caso la percentuale è aumentata rispetto agli anni precedenti nel 2015 poi abbiamo anche fatto un'altra cosa abbiamo chiesto agli intervistati quanto fossero d'accordo con alcune affermazioni standard sul rischio geo-idrologico dando a ciascuna affermazione un voto un ranking da 1 non sono per niente d'accordo a 10 sono completamente d'accordo vi mostro solo due delle affermazioni la prima era questa le istituzioni sottovalutano la necessità di fare opere di riduzione del rischio perché la prevenzione non ha un ritorno politico immediato quasi un cittadino su due ha attribuito alle istituzioni uno scarso interesse ad eseguire opere di prevenzione perché la loro realizzazione non ha un'immediata risonanza politica la seconda affermazione che vi mostro era se sapessi di vivere in una zona a rischio di frano di alluvione farei delle modifiche guardate bene a mie spese alla mia casa per proteggerla da aventi naturali catastrofici essere informati sui rischi porterebbe più o meno il 40% dei cittadini a spendere per proteggere la propria abitazione secondo questa rilevazione e c'è qualcosa che possiamo fare noi o che dobbiamo non fare per provare a ridurre il rischio per difenderci anche da soli prima di rispondere vale la pena chiedersi perché frane inondazioni ci colpiscono così duramente e continuino a farlo penso per due motivi per cause naturali legate alla natura stessa dei fenomeni al modo in cui si verificano e pensate al firmato iniziale che vi ho fatto vedere e anche per nostri errori ossia perché volontariamente o meno consciamente inconsciamente sbagliamo qualche cosa e cosa sbagliamo è importante provare a saperlo provare a conoscerlo perché capire cosa si sbaglia come ho detto è il primo passo per provare a correggere gli errori e a non ripeterli dico l'ovvio quando dico che la riduzione del rischio geoidrologico passa attraverso un corretto uso del territorio ma lo facciamo gestiamo bene il territorio siamo consapevoli dei pericoli che ci sono là fuori non sempre e non ovunque purtroppo e vi faccio due esempi presi a caso quasi da una galleria di mostri questo è un fazzoletto di terra come appariva nel 1941 in verde c'è un'area edificata a una certa distanza da un complesso di frane in blu alcune delle quali erano allora chiaramente attive guardate come evolve la franosità fra il 1950 e il 1977 nel 1985 fino al 1999 quando compare in viola un edificato in un'area già interessata dalle frane qui c'è da chiedersi perché abbiamo costruito in un'area notoriamente in frana il secondo esempio un centro abitato come appare in diverse immagini aeree fotografiche o lidar le linee blu mostrano delle tracce dell'idrografia superficiale mappate o dalla semplice visione delle immagini o attraverso una banale analisi morfometrica e dove abbiamo costruito in quel poligono rosso in un'area almeno parzialmente chiaramente inondabile e cosa c'è in quel poligono rosso una scuola perché abbiamo costruito una scuola nell'alveo di un di un fiume cosa possiamo fare noi singolarmente per difenderci da frane inondazioni per farlo è utile guardare questo video che fa vedere alcuni comportamenti diciamo azzardati quantomeno guardate quanto c'era una persona che camminava c'è una persona che sta provando a spostare una moto e per fortuna ci riesce in un fiume che sta letteralmente esondando qui ci sono i vigili del fuoco che sono andati a prendere della gente che è rimasta intrappolata al piano basso di una abitazione sarebbe bastato salire ai piani alti evitando danni e soprattutto un rischio molto elevato per le persone e per i vigili che devono andarli a tirare fuori guardate la lavatrice che galleggia questa è la frana di maiarato del 2010 sentite anche probabilmente il sonoro c'è una quantità di persone che compie azioni diciamo quantomeno azzardate alcune delle quali vedrete che stanno cercano di ci riescono per fortuna a uscire dall'area potenzialmente interessata dalla frana in automobile si vede fra qualche seconda ecco vedete un'auto con gente che spostare l'auto è una delle cose più comune vedremo anche delle altre slide su questo guardate questa persona che ha barcelone scotto abbastanza tranquillamente attraverso un ponte in piena uno addietro diciamo un pochettino più si affretta ma mica tanto come se non fossero e non sono consapevoli del pericolo che corrono guardate letteralmente pochi secondi dopo quanto velocemente quel ponte viene viene inondato qui c'è una persona che è stata travolta dalla piena guardate ci sono 30 cm d'acqua non c'è di più l'acqua non copre completamente le ruote delle automobili quella persona che non è indicappata fisicamente o limitata fisicamente non riesce a stare in piedi questo è un esempio in Turchia c'è un versante dal quale esce acqua in pressione quasi vaporizzata è una quantità di turisti interessati a questo fenomeno naturale che non si rendono conto che dietro a quell'acqua c'è una pressione di diverse atmosfere che sta per sparare letteralmente fuori il versante dall'analisi delle cause di morte io non vi ho fatto vedere esempi dove è morta della gente per frane e per inondazioni si traggono delle indicazioni utili per dare dei consigli per esempio quando piove molto è meglio spostarsi ai piani alti delle abitazioni e nello stanze più lontane dai versanti questo ci aiuta a difenderci sia dalle frane che dalle inondazioni una cosa da non fare è fermarsi sotto dai versanti dai quali esce dell'acqua perché possono franare come facevano quei turisti in Turchia possono franare molto rapidamente senza che noi ce ne rendiamo conto un'altra cosa da non fare è quella di cercare di servare l'automobile che magari abbiamo parcheggiato vicino a un fiume o a un torrente se il fiume e il torrente esondano non riusciamo a salvarla l'acqua e soprattutto l'auto non salverà certo noi per diffondere o contribuire a diffondere delle informazioni sul rischio da frane inondazione specificatamente per la popolazione abbiamo sviluppato un portale dedicato l'abbiamo chiamato Polaris un acronimo per popolazione a rischio e una sezione del portale contiene delle raccomandazioni su cosa fare e non fare prima durante e dopo l'allusione vi mostro solo alcune di queste raccomandazioni quando il tempo è bello quindi prima di un evento raccomandiamo per esempio informati se la zona dove vivi lavori o vai a scuola è a rischio di frano o di inondazione prepara degli stivali da pioggia degli abiti delle calze pesanti un umbrello un impermeabile ti possono essere utili dei guanti da lavoro per quando sta per arrivare l'inondazione diciamo informati sull'evoluzione delle condizioni meteorologiche sull'indicazione date dal comune e dalla protezione civile esci di casa solo se è estremamente se è strettamente necessario soprattutto spostati se ti è possibile solo a piedi quando l'alluvione è in corso diamo raccomandazioni diverse a chi si trova all'aperto o in un edificio se ti trovi all'aperto diciamo allontanati dalle aree allagate stai lontano dai torrenti dai fiumi e dai allargini non attraversare i ponti allontanati dai versanti se sei in casa in ufficio a scuola per esempio in un locale pubblico non scendere in strada nei seminterrati in cantina o in garage infine quando l'alluvione è passata diciamo prima di uscire di casa o da scuola ascolta le indicazioni date dal comune o dalla protezione civile non passare o sostare in aree allagate franate o coperte di fango e detriti perché possono essere molto pericolose sono più o meno arrivato alla fine quindi riassumendo ho provato a dare delle definizioni e degli esempi di frane inondazioni illustrandone le cause ho parlato dell'impatto e dei costi del dissesto idrogeologico ho provato a quantificare spiegare come quantifichiamo il rischio per la popolazione e stimare quale sia la percezione della popolazione e infine ho provato a dare delle raccomandazioni su cosa fare e anche su cosa non fare per difendersi anche da soli da frane e da inondazioni sì questo è tutto grazie dunque questa qui se non mi sbaglio è in scala log log giusto? sì e quello che vedi è che sostanzialmente hai tempi minori per scale temporali più piccole il che in scala log log il che significa che hai autosimilarità esattamente come abbiamo noi e il che significa che sostanzialmente hai dei fenomeni che sono in legge di potenza che vuol dire che quello che domina tutto è la turbolenza per quello che io sappia o no? ti torna? non ti torna? cosa è che non domina tutto? quando tu hai non linearità di questo tipo in realtà quello che vuol dire è che quello che tu hai è una legge di scala per cui quello che succede in piccolo succede in grande riproducendosi perfettamente allora i sistemi autosimili sono sistemi in cui per avere una legge di scala devi avere un fenomeno dietro fisico che faccia in modo che sia adimensionale di suo sostanzialmente che cos'è che lo rende adimensionale sono tutti fenomeni altamente non lineari e il primo che mi viene in mente vostro è la turbolenza sì sì è giusto sì ok e la usate questa cosa perché è un elemento estremamente potente no? perché tu puoi andare a vedere qual è l'evoluzione di un sistema grande sul piccolo e piccolo sul grande cioè riesci a ottenere un comportamento universale quello che abbiamo usato noi quello secondo me non si riesce ma invece secondo me si riesce c'è un fattore che quel grafico lì non fa vedere che è l'influenza della rotazione della terra nel senso che la rotazione della terra è totalmente trascurabile alle scale piccole e brevi e diventa dominante alle scale grandi e lunghe che significa certo però significa che quella turbolenza lì diventa una turbolenza tridimensionale da parte nel basso e sinistra da una turbolenza tridimensionale sviluppata fully developed three dimensional turbulence a una turbolenza bidimensionale quasi geostrofica in alto a destra che è un animale completamente no? beh sì sono K alla meno 3 K alla meno 2 3 infatti se fai se fai dei grafici esatti la pendenza della scala della turbolenza tridimensionale è una quella della quasi geostrofica bidimensionale è diversa è così qua usate cosa intendi con la usate? io per modellare? assolutamente si viene usata viene estremamente più potente viene usata viene usata soltanto nella modellistica idealizzata nella modellistica diciamo di processo di principio idealizzata viene usata moltissimo ci sono proprio modellistiche specialistiche della truola nella modellistica previsionale classica meteorologica noi adoperiamo il principio del presepe cioè facciamo modelliamo tutto in maniera esplicita a partire dalle condizioni equazioni di base però se tu vai a metterla nel frame generale delle equazioni alla potenza ah certo per favore sì perché sai perché c'è già dentro la fisica del processo è ovvio sì sì è vero noi abbiamo già lì è vero sì sì hai tutto tutto l'organizzazione dopo hai propagatori e diventa la meccanica quantistica e poi se la delisce ma non è che la meccanica quantistica non credo mai nemmeno allora possiamo fare la il professor Albertini che ci parlerà di mitigazione del rischio idraulico nei centri storici buonasera grazie a professor Bisconti per questo graditissimo invito e diciamo la chiacchierata così che vi farò sarà una chiacchierata molto illustrata e poi con qualche commento abbiamo sentito stamattina delle considerazioni che andavano appunto dalle questioni meteorologiche qualcosa di sui frane alluvioni delle situazioni che hanno diciamo nel nostro nel nostro paese una frequenza molto molto elevata e che sono oggetto di attenzione di particolare attenzione per tutti coloro che fanno un po' ecco l'attività di ingegnere idraulico e di idrologo e così via in particolare ecco la cosa che appunto come è stato evidenziato più volte che abbiamo dei centri abitati del nostro paese che sono centri abitati che colpiscono da eventi di inondazioni molto frequenti e molto diffusi nel nostro paese e questa è stata diciamo una delle attività più più come posso dire più importanti che hanno fatto che è stata svolta nelle nostre ricerche specialmente in collaborazione con il dipartimento della protezione civile nel settore appunto del rischio idrogeologico e volevo così mostrarvi due casi uno di un centro abitato diciamo di modeste dimensioni ma molto importante per i suoi monumenti che è Tivoli e un altro invece del nostro paese che ci ha impegnato moltissimo che è il centro di Roma qual è la procedura che bisogna seguire in questi casi ovviamente avendo tutta una serie di dati di monitoraggio di piogge e di portate quindi di piogge areali e di portate nelle fiume nella sezione del fiume che interessa è necessario fare tutta una serie di attività di tipo modellistico che ci permetta di passare dalla precipitazione alla portata alla piena e direi per così essere abbastanza sintetico che il discorso per quanto riguarda le piogge areali è un qualcosa che sui dati che vengono prelevati per fare queste elaborazioni ha un grado di errori di misura più che di certezza perché sono proprio errori di misura molto elevato quindi partiamo da dati che hanno già contengono già appunto delle imperfezioni dal punto di vista della misura poi quando si passa dalla pioggia all'acqua che scorre nel fiume gli errori di misura sono ancora più elevati perché ovviamente si passa da un'altezza misurata con il metro a qualcosa che riguarda le portate ma le portate non in condizioni normali ma in condizioni di piena quindi abbiamo tutta una serie di dati che vanno elaborati e poi vanno interpretati con con diciamo l'esperienza che che bisogna essere della quale bisogna tener conto ogni volta che si che si affronta un problema di questo genere cioè la parte chiamiamola così di tipo teorico modellistico è qualcosa che che poi va seguita con una certa come posso dire attenzione dopo aver dopo aver conosciuto il fenomeno che ci interessa a fondo per diverso tempo questo direi che porta già a una una conseguenza per esempio la conseguenza è che non è possibile come molto spesso come molto spesso accade avere un modello generale che passa da un corso d'acqua all'altro cioè un tipo di metodologia che può essere benissimo trasferita da una situazione all'altro va benissimo però quando si passa ad avere un modello che uno lo applica sul torrente di 100 km quadrati o sul fiume di 1000 km quadrati o 10.000 o 50.000 eccetera eccetera siamo completamente in condizioni diverse questo per dire che il caso che va studiato deve essere studiato sempre con un modello unico per quel posto che abbiamo interesse e ultimamente mi sono occupato per motivi come posso dire di relazioni internazionali il caso di Tivoli dove abbiamo dei monumenti che sono patrimonio dell'UNESCO e che ricadono ovviamente in un'area che ha delle particolarità dal punto di vista del rischio di inondazione ora Tivoli come patrimonio dell'umanità ha due siti uno è la Villa d'Este che è tutta acqua ma è acqua buona ci sono delle fontane bello eccetera e quindi un'altra invece è Villa Adriana che si trova ai bordi e c'è un'area di come si dice di protezione e che l'UNESCO ha individuato che è prossima alle fiume Aniene e che è stata oggetto di inondazioni ripetute molto frequenti ogni tre o quattro anni se andiamo sull' l'archivio che faceva il detto Torbuzzetti stamattina troviamo dal 1900 al 2000 circa una ventina di casi di aree inondate e questa particolarità ha portato prima l'UNESCO a dare come dire la diffida alle comuni di Tivoli che se non provvedeva a proteggere quest'area dalle inondazioni e quindi mettere al sicuro il bene il bene archeologico storico eccetera poteva togliergli il bollino di patrimonio dell'umanità e quindi tutta una serie di attenzioni sono state portate sul tavolo diciamo delle comunità locali e che cosa è successo che questo tavolo era molto nutrito piuttosto affollato e alla fine hanno io dico forse conoscevano bene l'idraulica non so quanto sapevano di idraulica forse non sapevano molto di idrologia e quindi hanno trovato una soluzione che io penso sia unica al mondo di un argine che è stato costruito un'argine che è stato costruito e che l'effetto finale è stato quello di essere un ostacolo all'acqua che doveva andare nel fiume piuttosto che essere poi di protezione dall'acqua che invece usciva dal fiume io vi farei vedere due o tre di questi di questi filmati che cominciando con questo qua che mi sembra il più va avanti questa cosa non va avanti perché non va avanti ecco qua ecco lo fai partire con la freccetta grossa questo qua mezzo bravo un tesoro dimenticato il masolo dell'azio è tutto locale in stato di abbandono e come se non bastasse oscurate da questo muro di cemento un provvedimento preso da enti locali e comuni di Tivoli nel 2005 con lo scopo di prevenire gli allagamenti che si verificavano in zona ad ogni acquazzone ma per i tanti cittadini e le associazioni che hanno preso parte alla manifestazione di sabato pomeriggio passano a un giro plausibile ogni volta che viene di qua a vedere questo esempio a che cosa le viene in mente il mio pancero vorre subito a 2000 anni fa teniamo presente che vicino al fiume c'è tutta un'area che dovrebbe essere rivalorizzata e soprattutto perché questo muro non ha nessuna utilità costa ognuna di questi droghi costa una cifra l'anno ma veramente alta avessero la loro funzionalità ben venta ma visto che da quando sono state montate gli allagamenti aumentano non ha risolto la situazione di risposta di risposta sono stati spesi milioni e milioni di euro per fare questo muro per fare cosa per stare peggio di prima una parte della nostra città è il degrado totale per il disastro quindi è importante anche per i nostri figli anche per noi rivalutare questo territorio questi targhetti sono i nostri pensieri sono le nostre riflessioni è quello che noi vorremmo comunicare a tutti lo facciamo attraverso le acque del fiume un fiume che comunque nonostante tutta la vergogna nonostante tutto questo scempio continua a scorrere noi vorremmo che portasse questi pensieri e li diffondesse sono un architetto quindi sono molto interessata ai beni monumentali spero che questo bene e uno dei più importanti clip li venga salvaguardato dare visibilità alle nostre ricchezze deve essere una routine e quindi una cosa quotidiana e non rilevanza straordinaria e quindi è giusto nel nostro piccolo essere i primi a dare rilevanza a queste bellezze far scoprire anche le nostre culture e la nostra densità guardando questo luogo che sensazioni prova? guardiamoci alle strade vediamo questa porcata internale questa porcata non può stare niente qui autorità di vaccino Artis direttore regionale per la tutela di beni paesi aggistici non può più far finta di niente non è possibile che un luogo storico come da questo di Mosulè di Plauzzi e di Ponte Lucano che non è in seconda a nessuno sia azzerato scarnificato distrutto sbarciato e sgritolato per quale motivo? non c'è nessun motivo al mondo io sono nato a pochi passi da qui e sono cresciuto sotto questa nuova fa veramente male vedete il monte Mosulè di Plauzzi innanzitutto con il ponte lucano il simbolo della città di Livoli è raffigurato nello stemma con l'acqua di torri il ponte che si vede sotto appunto il ponte lucano e abbiamo aderito perché negli scopi della nostra associazione c'è appunto la salvaguardia del patrimonio naturale storico e artistico e questo muro che è stato realizzato appunto chiamato il muro della vergogna è un'opera che sicuramente andrebbe rimossa perché questo qui è un sito rappresentato in tutto il mondo in centinaia di dipinti quando lei ha preso il bar mi diceva che comunque uno dei motivi fondamentali era questo progetto di qualificazione che c'era il parcheggio del lima ok e a distanza di parliamo del 2005 adesso sono 10 anni che sto qui c'è solo Molmezzo e basta posso vedere il suo giardino che cosa si vede dal suo giardinetto del bar tanti turisti vengono li faccio passare da qui perché vogliono vedere che è la torre ah quindi i turisti fanno questo passaggio per vedere la torre il masoleo alcuni che vengono sì infatti io gli dico ma che venite a vedere non per la torre nel caso perché è un bel monumento però è un po' come la tengono la vedono così allora la domanda è questa se non serve per arginare le acque questo è un attore che è anche il principio barberini di Tivoli la domanda è un attore il protocollo di chiesa è molto interessante perché è finato da un'idea da un sacco di gente dall'ex sindaco eccetera che dice che questo diventerà un grande sito archeologico fruibile da tutti i cittadini d'Italia e del mondo perché ricordiamo che questo è uno dei siti più importanti al mondo che cosa è successo dieci anni dopo niente l'unica cosa che insiste è il recupero del sito archeologico non ce n'è traccia ecco il protocollo di cui parla barberini dove oltre alla salvaguarda delle sondazioni del fiume Agniene si parlava anche di un vero e proprio recupero di tutta l'anno va bene per darvi ecco la così sensazione di in che ambiente ci stiamo ci stiamo muovendoci abbiamo costruito quello io lo chiamo un controargine cioè una un argine che ha la funzione di non permettere all'acqua di andare nel fiume ma non contenti di questo poi hanno fatto altre elaborazioni su questo muro hanno altre hanno fatto due due fori hanno messo un idrovo per portare via l'acqua perché quando piove mentre prima c'era una inondazione ogni tre o quattro anni adesso sono tre o quattro volte l'anno che appena piove lì c'è circa un paio di metri d'acqua perché l'acqua non riesce allora diciamo la situazione va inquadrata con un argine che abbia una funzione positiva diciamo così ecco allora si sta adesso elaborando il progetto per fare un diciamo un parco archeologico che abbia delle situazioni che sono che contrastano le piene le inondazioni che vengono dall'aniene ma nello stesso momento che liberino questo tipo di impiccio tutta quella parte dove insiste sia il masoleo dei Plausi che il ponte Lucano che fa parte di quest'area della zona di Villa Adriana allora volevo poi farvi vedere invece un'altra situazione che riguarda la città di Roma sulla quale abbiamo lavorato per come faccio ad andare indietro da qui questo questo qua eccolo qua questo questa è la la sintesi finale del lavoro che è stato compiuto sull'intero bacino del Tevere per la protezione del centro storico di Roma da inondazioni che possano che possano provenire dal Tevere considerando che diciamo il problema del centro del centro di Roma è legato alla strozzatura del Ponte Miglio che non è cambiata da quando ha Ponte Miglio che non è assolutamente cambiato nel tempo qui pacino del Tevere occupa una vasta zona del versante tirrenico dell'Italia centrale una superficie di 17.000 km quadrati inclusa fra l'appennino umbro marchigiano e abruzzese a oriente e il pre-appennino toscano e laziale a occidente con un corso che si allunga da nord a sud si presenta con una forma assimilabile a quadrilatero con i lati maggiori disposti in direzione nord-ovest sud-est mediamente le precipitazioni sul bacino del Tevere sono di poco superiori a 1000 mm l'anno e sono distribuite nel tempo con un massimo nei mesi autunno invernale in particolare un massimo assoluto a novembre un massimo secondario a febbraio e un minimo estivo tipico regime sul litoraneo albettinico l'onda di piena che si propaga nel reticolo idrografico dipende dalla combinazione di diversi fattori di tipo climatico morfologico e idraulico viene severe per il Tevere a Roma si possono realizzare se tutti gli affluenti forniscono i loro contributi massimi quando sono in fase del colmo dell'onda proveniente dalla parte di monte del bacino viene significative possono raggiungere Roma se le precipitazioni sono state precedute da altri scrosci sono piuttosto lunghe nell'ordine di 5-6 giorni e distribuite sull'intero bacino precipitazioni anche molto intense ma che si verificano in periodi siccitosi non danno luogo a piene estreme in quanto il terreno è inizialmente secco e conseguentemente una parte elevata delle precipitazioni viene assorbita dal terreno precipitazioni brevi darebbero luogo a onde di piena nei vari affluenti sfasate nel tempo per cui a passaggio dell'onda di piena proveniente dalla parte di monte del bacino i contributi degli affluenti sarebbero ridotte piogge concentrate su aree limitate infine possono mettere in crisi localmente la rete fluviale ma non risultano severe per il Tevere a Roma Roma è stata sempre sottoposta alle periodiche inondazioni del Tevere la spaventosa piena nel 1598 non fu la sola l'ultima inondazione del centro monumentale di Roma si ebbe nel 1915 quando la piena del Tevere trovò i muragnoni ancora incompleti ancora nel 1937 le acque occuparono estese campagne alla periferia nord di Roma che sono ora diventate parte integrante del tessuto urbano dall'aeroporto dell'urbe fino a Ponteviglio le piogge che mettero origine alla piena del dicembre 1937 non furono le maggiori del secolo in quanto furono superate dalle precipitazioni di inizio settembre 1965 che quando avessero trovato i suoli imbibiti d'acqua come accadde nel 1937 avrebbero provocato un'inondazione ben più grave malgrado l'effetto benefico dei serbatoi artificiali che erano già in esercizio nel 1965 quali il lago Corbara il sistema degli invasi di Nera Pelino la traversa di Castel Giubileo le precipitazioni più rilevanti a partire dal 1921 da quando sono pubblicati gli annali idrologici del servizio idrografico e mareografico nazionale si ebbero nei primi tre giorni di settembre del 1965 tali precipitazioni generarono solo il quattordicesimo evento nello stesso periodo in termini di portata al colmo di piena alla stazione di Ripetta in Roma la piena più catastrofica in Roma quella del dicembre 1937 fu provocata dalla seconda precipitazione nel periodo in esame ma in almeno altre tre occasioni le piogge furono molto simili a quelle del 1937 la terza portata a Ripetta più elevata fu registrata nel 1976 e le precipitazioni furono assolutamente normali trentaduesimo caso critico Roma è stata soggetta nel passato a periodiche inondazioni da parte del Tevere ne sono documentate 25 prima dell'anno 1000 il 21 prima di quella del 1870 a seguito della quale furono realizzati i cosiddetti muraglioni tra queste quella più catastrofica fu quella che si verificò il 23 25 dicembre 1598 con livelli idrici mai più raggiunti documentati da numerose lapidi in particolare sul muro esterno della caserma a Piazza del Popolo e sul muro esterno dell'ospedale di Santo Spirito a partire dal 1704 nel porto di Ripetta furono sistemate due colonne idrometro con le indicazioni dei massimi livelli idrici raggiunti dalle piene la piena del 28 29 dicembre 1870 provocò l'inondazione del centro storico Piazza del Popolo in corso fino all'ambire Palazzo Chigi via Contotti a pochi passi dalla fontana di Piazza di Spagna nota come la Parcaccia la dinamica dell'evento fu ricostruita dalla commissione istituita dal ministro dei lavori pubblici nel 1871 con l'incarico di studiare e proporre mezzi di rendere le piene del Tevere innocue alla città di Roma dopo varie discussioni due furono le proposte di intervento esaminate dalla commissione la proposta di Possenti articolata in 10 punti prevedeva la realizzazione di tre rettifili a palle di Roma lo svaso dell'albeo nei punti maggiormente ristretti demolizione e ascoltazione di tutti gli ingombri di ogni genere presenti in albeo oltre alla normale linea delle sponde chiusura di tutte le aperture di porte e finestre a innalzamento di tutti i muri di parapetto costruzione di un'arginatura in sinistra dai sassi di San Giuliano a Ponte Molle la proposta del Possenti mirava ad eliminare il sormonto delle sponde di Roma ma non gli allagamenti delle parti più basse della città per rigurcito nelle fogne la proposta di Canevari che risultò infine quella prescelta era volta a riturre anche questi allagamenti essa prevedeva la risagomatura dell'albeo nel tratto urbano con sezione a larghezza uniforme la costruzione di muri di sponda muraglioni la separazione delle acque fluviali da quelle di drenaggio urbano che sarebbero state convogliate in due collettori fognari disposti parallelamente al Tevere nel quale avrebbero sversato a palle della città anche Garibaldi avanzò una sua proposta di un canale scaricatore che avrebbe attorno le acque di Tevere a Viene derivate a Monte di Fuci a Viene e le avrebbe restituite nel vecchio alveo del Tevere a Palle della Basilica di San Paolo i muraglioni furono realizzati a partire dal 1875 dall'attuale Ponte Margherita a Ponte Palatino in questo modo il centro urbano risultava protetto dalle acque di piena esondanti nel centro storico mentre non furono presi provvedimenti per la difesa dalle acque provenienti da Monte esondanti nella periferia nord di Roma in effetti le piene che si succedetero agli inizi del 900 1900 1915 e 1937 segnalarono proprio questo aspetto in particolare nel corso della piena del 1937 si verificò un'esondazione a Monte di Ponte Miglio in destra idrografica i volumi esondati furono modesti e l'acqua in quell'occasione si limitò ad allagare le aree erasche che all'epoca erano essenzialmente rurali ai nostri giorni però queste aree sono completamente urbanizzate le acque esondate anziché ristagnare si propagherebbero sul fondo stradale impermeabile seguendo la perdenza del terreno che è diretta all'incirca da nord verso sud in questo caso quindi la corrente si propagherebbe verso il centro di Roma non trovando ostacoli e non potendo rientrare in alveo a causa dei muraglioni come già ricordato le onde di piena nel Tevere risultano severe per Roma se al colmo dell'onda di piena proveniente dalla parte di monte del bacino ovvero da Corvara si sommano i colmi delle onde di piena provenienti dai numerosi affluenti provenienti dal bacino di valle un'analisi delle condizioni di pericolosità di Roma per effetto delle piene nel Tevere può essere effettuata solo mediante simulazioni dei tre processi fisici che generano l'onda di piena generazione delle piogge aventi la stessa probabilità di accadimento la formazione del deflusso nei vari sotto bacini e delle onde di piena in ingresso al Tevere la propagazione dell'onda di piena risultante in sostanza è stato creato un modello virtuale del bacino del Tevere che è stato sollecitato con piogge aventi caratteristiche simili a quelle storicamente verificatesi prima di mostrare i risultati delle elaborazioni e di identificare le posizioni di rischio residuo in Roma abbiamo voluto riprodurre il comportamento del bacino idrografico e della rete fluviale in occasione di due piene storiche quella del 1937 catastrofica e quella del 1965 caratterizzata da piogge ancora più intense ma che ha provocato deflussi assai più modesti la spiegazione come abbiamo già ricordato è da ricercarsi nella diversa distribuzione temporale delle due precipitazioni quella del 1937 ha trovato i terreni dei bacini bipiti a causa delle abbondanti precipitazioni verificatesi all'inizio del mese di dicembre l'evento del 1965 si è verificato quando i terreni secchi al termine della stagione estiva avevano una grande capacità di infiltrazione e quindi una gran parte dell'acqua piovuta si è infiltrata nel terreno inoltre la rete fluviale era sostanzialmente immagra contrariamente al 1937 quando i deflussi nel tevere e nei suoi principali affluenti erano abbondanti un ruolo importante è stato anche svolto dalla distribuzione spaziale delle piogge nel corso del 1937 le piogge hanno interessato inizialmente la parte di monte del bacino per poi propagarsi verso valle in questo modo all'onda di piena generatasi nella parte alta del bacino si sono sovrapposti i contributi di piena dei vari affluenti facendo aumentare progressivamente la portata verso valle il risultato è stato che in occasione della piena del 1937 il deflusso di piena ha impegnato completamente gli argili contrariamente al 1965 per la valutazione delle attuali condizioni di pericolosità si sono presi in esame gli eventi che possono verificarsi in media una volta ogni 200 anni ossia con terminologia statistica caratterizzati da tempi di ritorno di 200 anni è stato generato un numero molto elevato di pioggia sul bacino con la stessa probabilità di accadimento per ciascun scenario di pioggia sono state calcolate le onde di piena a Roma e quindi è stato verificato se i livelli idrici in corrispondenza di quelle piene fossero o meno contenuti in albero i risultati delle elaborazioni hanno segnalato che in prossimità di Ponte Milvio in media una volta ogni 200 anni la corrente esonda inondando le aree più depresse in sponda sinistra e sponda destra i volumi gli esondati sono limitati per cui l'inondazione interessa alcuni quartieri a nord di Roma Flaminio Via Tiziano il Villaggio Olimpico il Foro Italico il Lungotevere Cadorna e Diaz meno frequentemente in media ogni 500 mille anni l'onda di piena è più rilevante per cui le esondazioni sono maggiori in questo caso la corrente si propaga fino al centro storico come accade nel 1870 in sponda sinistra la corrente si propaga lungo Via Letiziano percorre la Via Flaminia fino a giungere a Piazza del Popolo a valle risulta inondabile tutta l'area in sinistra nelle vicinanze della stretta curva che il Tevere compie in prossimità del centro storico a valle di Isola Tiberina la corrente si incanala nel Lungotevere per poi espandersi nuovamente in prossimità del Ponte dell'Industria e nella zona dei Mercati Generali interessando la Via Ostiense e la Basilica di San Paolo fuori le mura la durata del sormotto è di poco inferiore a 36 ore la corrente raggiunge Piazza del Popolo dopo circa 15 ore l'inizio dell'esondazione con velocità medie superiori a 0,5 metri al secondo circa un paio d'ore dopo viene inondata Piazza Navona la zona di Ponte dell'Industria viene interessata dalla corrente dopo oltre 30 ore dall'inizio del fenomeno in sponda destra la corrente dopo aver interessato il Ministero degli Esteri inonda Piazza Maresciallo Giardino e si propaga lungo Viale Angelico e Via Oslavia raggiungendo Piazza Camur Piazza Risorgimento e Castel Sant'Angelo in questo caso la durata del Sormonto è di circa due giorni e mezzo Piazza Camur viene inondata dopo circa 14 ore dall'inizio dell'esondazione la corrente inonda Trastevere in circa 15 ore mentre raggiunge Ponte dell'Industria in poco meno di 20 ore dall'inizio dell'esondazione la corrente rientra in Tevere in prossimità di Ponte Marconi dove il fiume è disposto perpendicolarmente alla direzione della corrente che si propaga nell'abitato queste aree che i calcoli idraulici segnalano come inondabili sono state nel passato allagate ad esempio vediamo il Pantheon la Basilica di San Paolo il Tempio Rotondo a Bocca della Verità Isola Tiberina Via della Lugara L'importanza degli studi che avete adesso visto è quella di poter fornire anche gli elementi di base occorrenti al comune di Roma e alla regione Lazio per poter individuare quegli interventi necessari per rientrare e fare il paziente che è un posto per rientro pazzo del proprio centro abbiamo visto due casi ovviamente molto diversi di un piccolo bacino quindi un piccolo per modo di dire perché poi abbiamo l'aniene che ha circa una superficie di mille chilometri quadrati e il Tevere a Roma che ha una superficie invece di 16.000 17.000 chilometri quadrati e la necessità che si ha per fare queste elaborazioni intanto è una topografia di dettaglio direi a livello catastale o anche superiore quindi dobbiamo avere a che fare una topografia che possa avere delle ISO-IPS che hanno il massimo delle distanze dell'ordine dei decine di centimetri non possiamo fare un discorso con topografia che va da 10.000 o 25.000 quindi è una topografia di dettaglio che ovviamente va fatta caso per caso e nel momento in cui si deve studiare un certo tipo di corso d'acqua la seconda questione è che non è sufficiente avere la diciamo superficie che viene interessata dall'inondazione senza le velocità cioè oggi a me capita ma raramente voglio dire se non mai di avere una cartografia dove c'è l'area inondabile ma non c'è nessun cenno alle velocità è chiaro che se abbiamo a che fare con delle velocità dell'ordine di grandezza di qualche metro al secondo e bastano pochi centimetri d'acqua perché poi non riesci a stare in piedi se viene colpito dall'inondazione sia se hai anche un mezzo di trasporto ti trovi in serie difficoltà quindi la velocità è estremamente importante ecco la questione direi soprattutto che va sottolineata che quando abbiamo a che fare con un fenomeno che riguarda un corpo idrico e un'area che può essere interessata dalla piena dall'inondazione dobbiamo cercare di studiare per quell'area i provvedimenti che sono più utili per questo tipo di situazione ecco quindi il caso di Tivoli si sta ipotizzando una soluzione che preveda delle agginature amovibili cioè che possono essere inserite nell'ambiente archeologico di grande interesse nel momento in cui queste agginature amovibili si ritengono utili per contrastare l'esondazione dall'anien il fatto che però esiste un argine costruito l'argine che è stato che avete visto prima che adesso vorrei farvi vedere in un'altra situazione un pochino ancora ce la faccio a ridire fuori che questo questo argine è stato costruito è stato costruito da una diciamo da un tavolo tecnico che comprendeva il ministero dei beni culturali regione comune di Tivoli diciamo sei o sette organizzazioni sei o sette agenzie che hanno prodotto quel risultato e che per rimuoverlo essendo essendo un'argine che va va ricostituito un tavolo tecnico tale che possa dire va bene questa soluzione rispetto a quella che abbiamo pensato qualche anno fa e che non è una cosa per diciamo molto equipotente o perlomeno equipotente ma diciamola allora c'è una serie di personaggi tra cui D'Averio oltre che lui c'erano anche altri ovviamente che hanno fatto delle testimonianze testimonianze a favore appunto dell'eliminazione di questo muro ma non so se poi potranno bastare per questo si toglie questa parte qui del mezzo questo verde va bene dai questo questo adesso se ne va non si sente niente di questo il castello si è evoluto una città che non si sa come decidere ma passato di inizia in gelato in ogni momento il castello si deve proporre una modernità e vorrebbe essere a che si è evoluto dialogare con di inizia non si sente 3. Ecco l'accesso politico a quella tribunale, attraverso le ideologie della libertà. Comunque va bene, io volevo concludere con altre due considerazioni che ritengo fondamentali nello studio di questi fenomeni. La prima considerazione è che a mio giudizio potremmo avere un vantaggio nell'affrontare tutti i problemi aperti, che sono moltissimi. Questo è ripreso. Questo incrocio stradale, che celebra attualmente tutto lo squalore di un'urbanistica senza logica, è stato per secoli uno dei luoghi più magici della storia del Hollywood. La tomba dei lausi è ciò che rimane nel ponte accanto, la ritroverete in decine e decine di decisioni, di ridurre, e oggi è ridotta così. A tal punto che sono un po' polemico con la scritta, la nostra storia è cancellata dalla monnezza, la nostra storia è stata cancellata da un secolo intero di piccoli interessi e di disattenzioni. Dentro alla gastronomia e davanti al camion inferno c'è una rimanenza grigia, che è quella del ponte romano, sul quale in Barbarossa si incontrò con Adriano IV, l'ultimo papa inglese della storia della chiesa, in seguito fu consegnato a Arnaldo da Brescia. Una volta il viaggiatore saliva sul ponte, guardava la tomba e intorno c'era la campagna romana. E questa è la versione ventunesimo secolo dello stesso racconto romantico. Si passa sotto la cesata aperta, si entra in una pattugiera e si torna a fare i due, con una frase nuova però, vergognatevi gli italiani di ciò che avete fatto col vostro patrimonio. La sua latide, l'ultimo restauro quando negli anni venti, è la catastrofe. Abbiamo capito che non era molto contento. Dicevo, per considerazioni, oltre che tutte queste elaborazioni di tipo matematico, avete visto, per esempio, nel caso del Tevere, alla fine sono venute fuori qualcosa come un migliaio di un sistema di mille equazioni, mille incognite da risolvere a seconda delle strade che erano state assimilate a canali, le piazze erano assimilate a dei serbatoi, quindi equazioni di continuità, del Saint-Venant, tutto quello che potevamo mettere l'abbiamo messo, ma partendo da basi che erano dati di piogge e di portate, poi non piogge puntuali, ma piogge areali. Quindi c'è da lavorare moltissimo sulla qualità dei dati di partenza, quindi sulle misure, misure che, per esempio, quanto riguardano, vorrei scandalizzare, né Stefano Tibaldi, né altre che ancora le misuriamo col secchio. Noi, la misura della pioggia, che ne facciamo tutte quelle belle cose che abbiamo visto dal punto di vista atmosferico, le previsioni, eccetera, però la realtà è che la misura viene fatta con il secchio, come dico, un recipiente deve misurare l'altezza, che è quella puntuale, noi bisogna fare delle straborazioni areali e quindi se abbiamo addirittura, ecco, chi ha esperienza di queste cose sa benissimo che un secchio messo in una posizione, uno vicino a un metro, danno delle misure che possono essere alquanto differenti. Quindi lavorare molto sulla misura, sia delle precipitazioni, sia su quella delle portate, che qui stiamo anche peggio, perché la portata, è chiaro, bisogna andare sul fiume con la barca o mettere giungale, cioè fare delle situazioni, studiare perlomeno un pezzo della curva di durata dove si può misurare in condizioni normali, quando c'è una piena, chi è che va nel fiume a fare delle misure? È pericolosino, insomma. Però anche lì, se non abbiamo, per dare, diciamo, relazione velocità-area e poi passare alla portata, dobbiamo cercare di migliorare questo discorso delle misure. La seconda cosa che è legata a questa è che purtroppo anche questo non viene più fatta nei nostri laboratori, cioè passare, riprendere la tradizione dei modelli fisici, cioè studiare un'opera idraulica con un modello, non dico di arrivare all'uno a uno come fanno in Giappone, vabbè, perlomeno, ecco, avere una scala da 1 a 15, 1 a 20 puoi poter lavorare su un modello fisico che ti dà per quello che è possibile anche in questi casi. Penso per dire che il discorso si può, oppure perlomeno ha dei problemi aperti dal punto di vista scientifico, formidabili per essere migliorato e per cercare così di avere anche qualche ora in più, non tanto per il caso di Roma, dove abbiamo a che fare, come abbiamo sentito, con qualche decina d'ore di preannuncio nel momento in cui può arrivare un'inondazione, ma anche nel caso di piccoli bacini come quello di Tivoli o addirittura ancora più piccoli che purtroppo nel nostro paese sono moltissimi che hanno una potenzialità e una potenzialità distruttiva enormi. Ringrazio per l'attenzione. Buon pomeriggio, il professor Casali come appunto è stato detto, è impegnato in Camera dei Deputati e quindi non può presentare, ha mandato me e Luca Santri, i due ricercatori del suo gruppo, a sostituirlo. Presenterà brevemente la struttura del nostro gruppo di ricerca, che non so se tutti conoscete, e poi l'attività svolte dal nostro gruppo a Rego Piano. Il nostro gruppo di ricerca è fondato dal professor Paolo Panusi, attualmente coordinato dal professor Casali, consta da più o meno 55 persone, tra professori, tecnici, ricocercatori, molti siamo in posizione post-doc, altrettanti dottorandi e dieci tra visite in research e collaborazioni esterne. Nel 2016 il nostro gruppo fonda la Cattedra UNESCO per la prevenzione e il management sostenibile del rischio idrogeologico e la Cattedra UNESCO ha quattro principali scopi. Il primo, lo sviluppo di tecniche innovative di monitoraggio per la mitigazione del rischio idrogeologico, il secondo, lo sviluppo di procedure operative, quindi gestione dell'emergenza sempre in ambito idrogeologico, il terzo, la protezione dei beni culturali e il quarto, lo scambio internazionale, e quindi soprattutto tra studenti di paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo. Nell'ambito delle attività della Cattedra UNESCO ci sono le missioni internazionali. In questa mappa vedete una serie delle missioni realizzate dalla Cattedra UNESCO, abbiamo tre missioni in Afghanistan, esattamente mentre io sono qui, un collega in Myanmar per problemi su una frana, abbiamo una missione a Petra per crolli di blocchi lungo il sentiero turistico, instabilità del versante a Rapanui, in Cile, instabilità dei minoreti a Erat e così via. Dal 2005 il nostro gruppo diventa centro competenza del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Questo ha portato allo svolgimento di più di 200 trammissioni e sopralluoghi in Italia, 37 siti di monitoraggio, di cui 7 attualmente attivi. Quali tecnologie utilizziamo all'interno del gruppo? Utilizziamo tecnologie innovative basate a terra, interferometria radar satellitare, modelli previsionali e droni equipaggiati con molti sensori. Se guardiamo la prima di questi grandi blocchi, quindi diciamo i sensori basati a terra e innovativi, direi che quello più largamente utilizzato dal nostro gruppo per il monitoraggio delle frane attive per l'early warning è il radar ad apertura sintetica interferometrico. Questo è stato sviluppato da una società di spin-off del JRC, quindi il Centro Europeo di Ricerca. In questo momento siamo arrivati alla quinta generazione di radar, ma la prima applicazione al mondo di questa tecnologia è stata fatta dal nostro gruppo nel 2000 sulla frana del Ruinon, appunto per il monitoraggio della frana stessa. La prima applicazione invece di emergenziale, quindi di protezione civile se vogliamo dire, è stata fatta nel 2002 a Stromboli, molti di voi si ricorderanno a Stromboli tra il 2002 e il 2003 a dicembre ci fu una grande frana, la frana triggerò uno tsunami che colpì le coste ovviamente di tutte le isole e olie, Calabria, insomma un po' dappertutto. Fu necessario installare un sistema di monitoraggio in continuo del vulcano, ovviamente ci sono sistemi geochimici, insomma c'è un po' di tutto, quello che noi abbiamo installato è un sistema appunto radar basato a terra. Tra le ultime applicazioni che abbiamo fatto utilizzando questa tecnologia c'è lo sprofondamento del lungarno torresiani il 25 maggio del 2016, anche questo immagino che molti di voi se lo ricorderanno, il New York Times titola Giant Sync Hall, che è appunto inghiotte decine di macchine lungo il lungarno, le immagini ci dimostrano che non era veramente un Giant Sync Hall, ma era bensì una frana di sponda dovuta all'ortura di un tubo dell'acquedotto fiorentino, un tubo di una certa portata perché il tubo era a 70 cm di diametro, che porta appunto allo spanciamento dell'argine. Ora se questa situazione fosse successa penso in qualsiasi altra parte del mondo non avrebbe interessato praticamente nessuno, essendo a 200 metri dal Ponte Vecchio ha avuto una elevatissima risonanza mediatica. Il nostro gruppo ha installato in tre ore un sistema di monitoraggio composto da più tecnologie, vedete una stazione totale, un laser scanner e un radar basato a terra appunto, questa è di terza generazione, mentre quello della prima immagine si vede anche un po' più evoluto come struttura era di quinta. Il nostro sistema di monitoraggio punta appunto il lungarno torrigiane e quello che vedete, dove è avvenuto uno spanciamento del muro, non un crollo, quindi l'argine a retto, ma dove il personale tecnico appunto preposto per la messa a sicurezza dell'area lavorava notte e giorno, ha lavorato per mesi continuativamente e quindi il sistema in qualche modo forniva dei dati di monitoraggio per la salvaguardia di queste persone. Quello che ci restituisce la tecnologia radar basata a terra sono mappe di spostamento cumulati e misurate lungo la linea di vista del sensore. Come potete vedere il radar è in grado di misurare gli spostamenti sia sul muro del lungarno sia sugli edifici a tergo, restituendo una mappa complesa degli spostamenti. La precisione di queste mappe è al di su un millimetro. Per quanto riguarda la seconda branca di tecnologia da noi utilizzata è l'interferometria radar da satellite. Tra i satelliti più innovativi che utilizziamo possiamo citare la costellazione Sentinel sviluppata dall'ESA, TerraSRX, agenzia spaziale tedesca, Cosmos SkyMed ASI, quindi agenzia spaziale italiana. Quello che noi facciamo con i dati radar satellitari è un approccio molto interferometrico. Quindi all'interno di uno stack di immagini che insistono sulla stessa area acquisite in tempi progressivi individuo dei punti altamente riflettenti che si chiamano permanent scatter dai quali posso estrapolare delle serie temporali di spostamento o delle mappe di velocità di deformazione. Questo ci serve per monitorare sia i fenomeni franosi molto lenti sia subsidenze o innalzamenti del terreno. La prima applicazione di questa tecnica in una fase emergenziale è stata nel 2005 con la frana di Cavallerizzo di Cerseto. In questa occasione cosa successe? È successo che la frana mise a rischio l'abitiato di Cavallerizzo, fu scelto dall'amministrazione locale di delocalizzare completamente l'abitato e venne fatto uno studio, appunto per fortuna, su dove localizzarlo, quindi alla ricerca di aree stabili. Le serie PS dal 2010 al 2015 ci confermano che l'area, che è quella che vedete nel rettangolo bianco, fu ben scelta. La prima applicazione della tecnica PS per il monitoraggio delle frane a scala regionale è stata fatta dal nostro gruppo nel 2002. Ovviamente per motivi facili da comprendere siamo partiti dalla regione soscana, che è la nostra regione. L'evoluzione di questo progetto avviene nel 2009 quando la tecnica PS viene stesa a tutto il territorio nazionale con un progetto che allora era pilota, il piano straordinario di telerilevamento in collaborazione con i GEOS e TRE. Negli anni, quindi dal 2009 adesso, la tecnica PS è stata ulteriormente studiata e siamo passati a quella che pare essere la nuova frontiera, quindi anche in questo caso parliamo di un progetto pilota che è partito dall'anno scorso, sempre sulla regione soscana, sempre per lo stesso motivo, in cui i PS hanno un'acquisizione quasi in continuo, quindi il sensore Sentinel ripassa sullo stessa area ogni sei giorni, quindi è come se io avessi uno streaming dei dati della regione toscana in continuo. Questo ovviamente fa capire quante e quali cose si possono fare con un dato del genere, cioè io sono in grado di individuare qualsiasi area instabile con un tempo di sei giorni o superiore a questo, che siano ponti, riadotti, case, qualsiasi cosa che venga in mente. L'evoluzione che ancora, non so quanto sia lontano o quanto sia vicina, è trasportare questo tipo di analisi e questo tipo di studio a tutto il territorio nazionale. Ovviamente le potenzialità non ve le sto nemmeno a spiegare. E' capaica di dati? Eh sì, anche soltanto in regione toscana è abbastanza impegnativo perché dopo l'analisi delle serie temporali, ovviamente su tutte le anomalie viene fatto un controllo a terra, quindi nel momento in cui io rilevo l'anomalia, non è che semplicemente la segnalo, ma mi devo assicurare che non sia un errore del fotointerprete fondamentalmente. Quindi insomma una mole abbastanza consistente di lavoro. Terzo blocco di cui ci occupiamo sono i modelli previsionali. Non devo assolutamente spiegare a voi come siamo passati dal forecasting al now casting perché qui siete tutti molto più esperti di me. Questo è il radar media della protezione civile, quindi del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile che è fruibile un po' per tutti sul portale stesso della protezione civile, ma quello che volevo dire è che all'interno del nostro gruppo di ricerca sono stati elaborati due modelli previsionali basati su due livelli di criticità connessi alle piogge. Il primo, quindi il primo livello di criticità è il modello Macomba. Questo analizza l'intensità e le durate delle piogge in maniera automatica con un approccio standardizzato definisce delle soglie locali di pioggia. Al superamento della soglia locale di pioggia che viene definita critica ovviamente passa al secondo livello di criticità. Per questo è stato sviluppato il modello IRIS che è un modello fisicamente basato, alta risoluzione, ha una larga scala di applicazione. La cosa fondamentale dell'IRIS è che immettendo i dati di pioggia e avendo egli stesso tutti i parametri geologici e morfologici di una determinata area restituisce un fattore di sicurezza che ci avviserà sulla possibilità e la probabilità dell'accadimento di un fenomeno franoso in quella determinata area. Quindi IRIS si utilizza siccome ha bisogno di processamenti su super computer soltanto nel momento in cui io oltrepasso un determinato livello di criticità. Questa è una slide che riassume praticamente quello che ho detto quindi è un primo livello di criticità passo la soglia di moderato o alta a seconda di quello che ho impostato vado a fare un'analisi su un'area molto ristretta e molto dettagliata che mi restituirà un fattore di sicurezza e quindi la possibilità o meno che un evento franoso si verifichi. Questo tipo di modelli ha bisogno di una validazione per la validazione abbiamo utilizzato sempre un altro ricercatore del nostro gruppo ha sviluppato un sistema di data mining quindi un sistema automatico di ricerca di notizie di eventi franosi sul web questi eventi vengano ricercati già localizzati e vengano confrontati con i dati di IRIS e di Macomba. Posso permettermi una domanda subito? Perché purtroppo mi sta parlando però non lo sento la risposta. La precipitazione che hai citato prima con i dati RADA sono solo dati RADA o c'è anche... C'è anche... Sistema ruvio Quindi dicevo che i modelli vengono validati e autocalibrati sul data mining quindi il modello vede se ha fatto bene oppure non ha fatto bene si autocorregge ogni volta. Ultima branca di tecnologie utilizzate dal nostro gruppo di ricerca sono i droni equipaggiati con multisensori. Il nostro gruppo di ricerca in particolare un nostro ricercatore un fisico ha disegnato realizzato costruito brevettato un drone il nome è Saturn dato dalla forma del drone stesso cioè dall'anello come quello del pianeta questo drone ha un brevetto che è basato sulla possibilità di ridistribuire da passare da una formazione da esacottero a quadricottero nel caso uno delle eliche abbia un qualche problema e quindi per l'atterraggio in sicurezza e anche per il disaccoppiamento delle vibrazioni tra la parte centrale del drone e l'anello su cui sono installati i motori il nostro drone ha un massimo payload di 10 kg questo permette il trasporto di più di un sensore qui vedete Luca che è in sala che prende i punti GPS per il drone abbiamo il sensore ottico il sensore termico e in via di sviluppo un sensore iperspettrale quello che facciamo con la tecnologia del drone è prevalentemente direi fotogrammetria quindi otteniamo nuvole di punti ad altissima risoluzione ovviamente noi di base ci occupiamo di frane quindi in genere ricostruiamo questo tipo di scenari per esempio questa è una reattivazione di una frana a ricasoli in Toscana dove appunto l'opera di contenimento della franasteressa è franata questo è il rilievo fatto poco dopo dal drone vedete la precisione del rilievo i modelli digitali del terreno arrivano a una risoluzione spaziale di 3 cm di pixel ovviamente questo dipende dall'altezza di volo del drone e dal sensore ottico installato sul drone stesso tra le tante emergenze legate appunto all'attività di protezione civile alle frane che il nostro gruppo svolge nel 2017 abbiamo fatto l'emergenza di Rigopiano quindi il 18 gennaio del 2017 il professor Nicola Casali riceve una telefonata dal centro operativo misto avanzato del comune di Penne che ci invita ad andare a installare un sistema di monitoraggio per la sicurezza dei soccorritori che lavoravano sull'albergo alla ricerca delle persone disperse la cronaca di Rigopiano credo che sia conosciuta da tutti voi perché ha avuto una risonanza mediatica significativa comunque una valanga si stacca dalla cima del Monte Siella nel tardo pomeriggio del 18 gennaio il fronte di distacco della valanga sono più o meno 500 metri lo spessore della neve nell'area di distacco era di 2 metri e mezzo questa valanga si abbatte con una velocità di 100 km orari sull'albergo travolgendolo e distruggendolo nel momento in cui siamo stati chiamati per installare questo sistema di monitoraggio per la sicurezza del personale coinvolto abbiamo appunto scandagliato tra quelli che sono i nostri tipici sistemi di monitoraggio quelli che noi usiamo comunemente e abbiamo capito che nessuno di questi sistemi poteva essere applicato in questa situazione non ci siamo mai occupati di valanghe prima di rigopiano ci occupiamo anche di frane molto rapide ma con caratteristiche diverse rispetto a una valanga quindi ci siamo rifatti alle conoscenze di quelli che invece di valanga se ne occupano da anni quindi un istituto di ricerca svizzero di Davos che ha fornito un modello di run out della velocità della valanga quindi in quanto tempo la valanga distaccata dalla cima del siella poteva giungere a valle e l'istituto stima una velocità per una valanga esattamente identica a quella del 18 gennaio di massimo un minuto ora c'è da dire che questo è un tempo cautelativo perché la possibilità che si riverificasse una valanga con esattamente gli stessi parametri era veramente bassa dovevamo avere lo stesso tipo di nevicate che erano nevicate straordinarie come tutti sappiamo comunque il tempo di un minuto è un tempo molto breve per dare un'allerta a delle persone che lavorano in una determinata area per dire andate via visto che nessuno dei nostri sistemi poteva funzionare abbiamo cercato come vengano monitorate le valanga ci siamo imbattuti in una piccola start up svizzera tirata su da giovani ricercatori che utilizzano radar Doppler quindi non la stessa tecnologia che usiamo noi ma un'altra per il monitoraggio delle valanghe questa piccola start up si chiama GeoPrevent e ha installato in tutta Europa una serie di radar soprattutto su impianti sciistici quindi per la salvaguardia degli sciatori in genere come funziona questo radar il radar lo vedete dal filmato guardando un'area nel momento del distacco di un costone di neve di una parte del versante registra le velocità di spostamento della valanga stessa per velocità così brevi serve sicuramente un sistema di allerta quindi il sistema generale che abbiamo installato constava di un radar doppler un portale che elaborava in tempo reale i dati ricevuti dal radar e in caso di superamento quindi in caso di distacco di una qualsiasi valanga di qualsiasi entità dava un'allerta attraverso una sirena è importante dire che nel momento in cui si installano delle sirene per l'allerta di persone che lavorano in un luogo è importante che ci sia un training perché loro sappiano che cosa devono fare nel momento in cui questa sirena suona se no è completamente inutile quindi troviamo la tecnologia contattiamo la Geoprevent che appunto distribuisce questa tecnologia la Geoprevent si dimostra disponibile a raggiungerci qua qua vicino e portandosi dietro il radar i ragazzi vanno a Zermatt smontano il radar che avevano installato prendono la macchina guidano tutta la notte e arrivano al centro misso operativo di Penne la mattina dopo o meglio poche ore dopo partiamo per raggiungere l'albergo e installare il radar nell'area dei soccorsi queste sono alcune immagini che vi dovrebbero far capire la difficoltà di raggiungimento dell'hotel Rigopiano quando noi siamo arrivati là la strada che arrivava all'albergo era soltanto una la neve raggiungeva i tre mesi a bordo strada di qua e di là non si poteva viaggiare in due sensi di marcia quindi si creavano dei convogli guidati dai mezzi della protezione civile vigili del fuoco o chi per loro tutte le macchine a seguire e per percorrere una distanza che in una situazione normale al massimo poteva impiegare 15 minuti ci volevano tra le 4-5 ore Luca più o meno 4-5 ore 4 ore una volta arrivati all'albergo no non all'albergo una volta arrivati al località Rigopiano c'era un checkpoint al checkpoint bisognava registrarsi e ti veniva fornita tutta l'attrezzatura per il soccorso in valanga perché appunto visto che andavamo a installare un sistema per il monitoraggio delle valanghe poteva pure succedere che avvenisse una valanga e quindi tutti eravamo equipaggiati con l'arva per il trasporto delle parti più pesanti del radar quindi penso alle fuel cell di alimentazione batterie generatori abbiamo utilizzato il bruco che era l'unico mezzo in grado di muoversi sulla valanga stessa e il bruco dei vigili del fuoco quindi una volta arrivati all'albergo che è questo questa era la situazione che abbiamo trovato insomma c'erano tra le 200 e le 250 persone 24 H a lavorare sull'area per le operazioni di salvataggio di recupero fino a che si è ritenuto verosimile che ci fossero persone ancora in vita all'interno dell'albergo erano probiti i mezzi meccanici quindi si scavava soltanto con le pale a mano niente di meccanico assolutamente questa è un'immagine fondamentalmente molto vicino a dove noi abbiamo installato il radar perché si è installato più o meno dove ci sono quelle due persone che mi sa che siamo io e Luca tra l'altro questo è il canale scavato dalla valanga attraverso il bosco quindi immaginatevi che prima era completamente chiuso e la valanga ha raso al suolo due chilometri di bosco più o meno bene siamo arrivati praticamente al sito questo è il momento della partenza come vedete era impossibile accedere all'area della valanga senza ciaspole o senza sci ai piedi perché c'erano più di due metri di neve fresca quindi camminare non era fattibile e una delle parti forse più difficili nell'installazione di questo radar a parte il raggiungimento del posto a parte condizioni climatiche veramente improponibili è stata la scelta del posto in cui il radar andava installato questo perché la visibilità come vedete da questa immagine era a massimo 20 metri quindi noi non vedevamo assolutamente dove l'antenna del radar puntava la geopreventor normalmente utilizza questo software al quale tu dai in passo l'area che vuoi monitorare che è quella verde nell'immagine in alto e ti restituisce quali sono le postazioni più favorevoli per il posizionamento del radar quindi più rosso è più è favorevole questo è il metodo per vedere appunto che cosa sta vedendo il radar stesso nel nostro caso noi prendevamo un punto cps di dove eravamo chiamavamo Zurigo comunicando le coordinate del punto Zurigo faceva delle simulazioni che sono quelle che vedete in basso per vedere cosa si vedeva dal punto in cui noi eravamo quindi poi dicendoci spostatevi più a destra 3 metri in 4 alla fine troviamo il posto ottimale per vedere l'area del distacco della valanga che era già avvenuta ma che era l'area più probabile anche di un futuro distacco installiamo il radar questo è il pannello con tutti i cavi batterie e l'altro è il radar stesso questa è la prima immagine acquisita dalla webcam installata sopra il radar come vedete visibilità 0 visibilità 20 metri 30 metri e condizioni abbastanza proibitive di lavoro queste sono le operazioni di ricerca durante appunto la notte la seconda notte dopo la tragedia queste invece sono le condizioni atmosferiche la mattina successiva quindi il tempo diciamo è stato ben poco clemente nessun mezzo aereo poteva volare chi ha provato a volare c'è stata insomma una disgrazia precipitata un elicottero in queste ore tutto questo ha rallentato quello che era il trasporto di materiale il trasporto dei soccorritori rendendo tutto estremamente difficile estremamente difficile questa è un'altra immagine appunto delle operazioni di soccorso questo è un demo ad alta risoluzione fatto con le immagini prese da un drone che è volato cinque giorni dopo l'accaduto nel primo giorno in cui appunto il cielo si è schiarito e ha permesso che potessimo fare qualche tipo di rilievo aver avuto un dato in questo modo il giorno in cui dovevamo installare il radar sarebbe stato del poco fantastico questo appunto è stato il primo giorno è sempre lo stesso giorno è stato il primo giorno in cui noi abbiamo realmente visto dove avevamo lavorato per tutti i giorni precedenti Rigopiano ha avuto un forte risconto mediatico al nostro rientro da questa missione il professor Nicola Casagli ha scritto un articolo in cui venivano raccontate tutte le difficoltà che abbiamo avuto nello svolgimento di questa missione soprattutto difficoltà burocratiche vi dico per dire una delle cose accadute è il radar che veniva dalla Svizzera appunto immaginiamoci in che situazione di ansia e di fretta è stato bloccato alla frontiera tra Italia e Svizzera è stato praticamente sequestrato perché materiale che non poteva passare sì e per il riscatto del radar pretendevano un fax quindi voi immaginatevi noi al centro operativo di Penne che è un palazzetto dello sport fondamentalmente a cercare di mandare un fax per liberare il radar cioè situazioni fuori al mondo oppure la scheda SIM con cui venivano trasmessi i dati del radar la scheda italiana non trasmetteva i dati perché il radar era svizzero quindi abbiamo dovuto usare la scheda cose di questo tipo Rigopiano ci ha portato anche dei riconoscimenti quindi la nostra attività di supporto all'operazione di rescue e funding è stata riconosciuta l'ultimo riconoscimento è stato quello del Presidente della Repubblica qui vedete il Professor Casagli insieme a uno dei ricercatori che con me e Luca ha partecipato alla missione di Rigopiano grazie cioè tutta una serie di opere anche sotto superficie che riescano a rallentare ad aumentare i tempi di corrivazione delle acque tipo vasche di decantazione al di sotto degli edifici cosa che peraltro si sarebbe dovuta fare anche qui all'Aquila in quanto il piano di ricostruzione prevedeva che nei palazzi dove fosse possibile vedessero fatte delle cisterne in cui raccogliere l'acqua piovane che consentono in caso di precipitazioni elevate consistenti di avere un tampone lei diciamo le risulta questa cosa a livello nazionale o che ci siano esperienze simili perché io so ad esempio in una città non ricordo bene se Verona potrei dire una sciocchezza comunque in tutti quanti i parcheggi multipiano il piano interrato viene dedicato a vasca di raccolta delle acque in caso di precipitazione poi magari faccio una domanda grazie ma certo se è possibile mitigare con questi sistemi qualche fenomeno locale dove c'è qualche tipo di possibilità di accumulare dell'acqua di pioggia ben venga e questo mi ricorda un discorso che ho fatto qualche giorno fa con un personaggio che dovevamo decidere questa situazione di Tivoli per capirci e insisteva che voleva perché non facciamo una facciamo una vasca una vasca di accumulo facciamo ma io ho cercato di spiegargli che quando si parla di mille metri cubi al secondo va bene e che devi laminare la piena di mille metri cubi al secondo o perlomeno portandola a 4-500 metri cubi al secondo che è quella che può passare dentro l'albero bisogna avere a disposizione qualche cosa come centinaia di milioni di metri cubi allora ho cercato di dirgli che per un ettaro di per una 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 vasca di un ettaro con lui diceva facciamola profonda sette metri ma allora un ettaro per sette metri è 70.000 metri cubi vogliamo fare ancora di 100.000 metri cubi ma se abbiamo a che fare con una migliorazione di 50 milioni di metri cubi cioè è quasi inutile pensare di fare delle opere bisogna proteggerla con sistemi che permettano di passare da piena in quel pezzo che vuoi proteggere con altri sistemi quindi però siccome sistemi di cui stavo parlando prima non mi so soffermare ma sono sistemi amovibili che oggi si possono mettere in funzione sull'ordine di qualche mezz'ora un'ora quei sistemi del genere ci sono diversi tipi che vengono proposti però certo ci vuole un'organizzazione a livello locale di un certo tipo bisogna trovare delle squadre che fanno questo lavoro che mettano queste opere provvisionali che poi vengono alcune possono anche essere lasciate perché poi non sono bruttissime si fanno anche adesso in forme diciamo piuttosto architettonicamente carine sono delle ringhiere poi alla fine però ecco l'ordine di grandezza siamo su anche quello che dice lei è benissimo se c'è una possibilità che piove c'hai un magazzino che ti allaga e quindi tu lo puoi proteggere mettendo l'acqua da un'altra parte sbarri l'ingresso alla cantina che ti interessa o alla parte che ti interessa la mandi da un altro buco dove c'è possibilità che non faccia nessun danno ma è un'opera che riguarda una situazione molto piccola piccola di stretta quando hai a che fare con questi volumi quindi l'acqua passa con 3 4 5 metri al secondo come velocità quindi siamo su un ordine di grandezza e porta via tutto tanto per capirci ecco quindi hai queste velocità più hai volumi perché l'aniene c'è bacino e bacino ovviamente se il bacino è permeabile come l'aniene hai una curva della piena che è molto come dire appiattita che dura parecchio invece se tu hai un bacino impermeabile hai una una piena che è molto ripida e però ce l'hai per poco tempo quindi più però il tempo più è lungo più il volume aumenta quindi devi avere ecco il messaggio che volevo dare che ho detto tra le righe e così è che ogni caso va studiato per quello che è non puoi pensare di trasferire il modellino ci sono tanti modelli matematici che vengono venduti da case che poi puoi comprare ma non servono a niente te lo devi fare caso per caso laddove serve con le condizioni che sono proprio di quel sito che va che va protetto e va in un certo senso studiato a fondo sia con questioni diciamo che riguardano il movimento dell'acqua e sia anche con l'esperienza ovviamente che è propria di quell'area non so se ho risposto alla domanda che mi ha fatto grazie e poi invece una domanda rivolta alla ricercatrice avete mai pensato di validare i dati da satellite attraverso quelli acquisiti con drone cioè i modelli digitali del terreno acquisiti con drone magari con correzione RTK insomma queste cose poi le saranno meglio di me e possono essere utilizzate per correggere ad esempio i dati di Cosmo SkyMed ci avete mai pensato? Luca un po' di nel senso che una parte dei dati consegnati da Cosmo SkyMed sono dati volendo anche volumetrici cioè si possono ottenere modelli digitali del terreno però noi non ce li abbiamo che da cioè noi abbiamo la termona di scatterers quindi è che è molto interferometrica però ci arrivano già processate cioè noi ci arrivano le termona di scatterers quindi noi non c'è quella che è la rara di interpretazione e basta quindi noi abbiamo disponibili questi file vettoriali a cui sono associati dei parametri di velocità a coerenza standard e le velocità nelle varie acquisizioni e ci arrivano e la loro serie ancora del spostamento quindi noi li utilizziamo semplicemente per andare a cercare degli spot in cui ci sono delle pubblicità solo per quello nel senso noi da Foghese quindi immagini di editare quelli che possono essere anche prodotti ci sono sono paledem non 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 ci non non le avete perché è un dato che utilizziamo per fare il monitoraggio degli stessi fondamentalmente non elaboriamo il dato stesso facciamo sul taso già elaborato un'idea che si faccia degli stessi condizioni in questi progetti con chi ci fornisce da nella fattispecie di l'idea che è un momento che è una con cui appunto abbiamo una convenzione che ci aiuta nella fase di process di una fase di realtà quindi tutti i modelli digitale del terreno che voi ottenete o li ottenete tramite il SAR oppure con i modelli di città del terreno che sono stati utilizzati in una fattispecie di bucana sono modelli di città del terreno che hanno già usato quindi erano le scale a 100 metri diciamo mattonelle più o meno di 100 metri diciamo avevano 10x10 il classico 10x10 ok e in quel caso lì era sufficiente per calcolare diciamo con i loro argomenti la posizione ottimale per poter piazzare grandi con una visuale sull'area di distacco ottimale più che ottimale il problema non era il demo per caso lì come avete visto la visibilità era estremamente scarsa e c'erano diciamo il problema maggiore era l'apertura vegetale perché c'erano degli alberi che si era raggiunto anche i vecchi netti metri quindi capisce bene che se si mette il grada qua e a 20 metri che io non vedo ci abbiamo un bel albero quella lì era diciamo la problematica era più difficile da affrontare in quella situazione il demo se per sé con una cellula di 10 metri era sufficiente insomma sono alcuni si possono fare un piano e il demo di un rett non lo ci manco perché si tratta appunto di superfici molto ampia la superficie di distacco era da parte a parte più o meno 5 centi metri la distanza era per gli omiti la distanza e regge era per gli omiti quindi sono aree cioè che non ha bisogno di una tratezza superiore a quei altri ma le loro simulazioni sono state diciamo fatte egregiamente insomma intanto è vero che quando le nuove 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 chiaramente a disposizione un drone che è stato fatto poi dopo ex post diciamo dopo sì certo esatto perché comunque io sono pilota del drone con quelle omitizioni medio-lin non si può volare non si è regolare chiaramente poi i tici del fuoco mi hanno dato una tizia regolare hanno volato poi mi hanno dato le immagini e mi sono direttito a fare questo esempio però chiaramente avendo la definizione prima sarebbe stato sicuramente molto più facile e più preciso il posizionamento del radar però solo per il posizionamento del radar e non per una modellistica di movimento della frana della valanga ma sai nel centro creativo noi avevamo una posizione di attività c'era c'era non so Eneva che fa questo quindi probabilmente quello l'hanno fatto non era la parte di stritta ma noi ne passavamo soltanto l'alletta per il personale non voluto c'era c'era un gruppo scorsi del modellistica appunto Aineva e a in realtà si sono andavano addirittura il secondo solo non sono andati su a misurare proprio la grandezza della neve hanno fatto i volumi hanno fatto le simulazioni anche usando l'ombra che ho visto prima usando rams questo software che ha facciano quindi c'è però la parte modellistica è stata eseguita da altri soggetti di gioco che non eravamo noi insomma erano come recente di stravolta quindi lo siamo stati chiamati per supporto l'organizzazione di sabotaggio con perché comunque conosciuti dell'ambiente e ci siamo a base della loro operazione grazie una domanda per Lucio per questo che ti fanno una domanda una curiosità della mia grazia Lucio hai fatto vedere che nel filmato si vedeva questa differenza tra i due episodi mi sembra il 2017 il 1935 in cui diciamo a causa di più danno la pioggia meno intensa causa credo delle condizioni di permeabilità diciamo del bacino che vorrei dire ma qui c'è una permeabilità o non so se dico proprio una permeabilità variabile a seconda ovviamente del grado insomma c'è ma si riesce a modellare esistono correlazioni statistiche esistono esistono leggi diciamo che si 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 ha visto che è così importante certo che grazie Edoardo perché questo è un problema cruciale che poi come si risolve come si risolve all'atto pratico perché è chiaro che le condizioni di umidità del terreno sono fondamentali quindi se tu hai un terreno secco assolto c'è il terreno bagnato e quindi si si mette in input nel modello in ingresso ci si mettono le piogge accumulate perlomeno quando io facevo la parte modellistica che c'era il sistema funziona piogge portate quindi era un ingresso un'uscita ingresso le piogge e uscita le portate invece di mettere un ingresso ne metti due metti la pioggia e la pioggia accumulata la pioggia accumulata ti dà la funzione dell'umidità del suolo e certe volte funziona in maniera in maniera molto 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 buona altre volte meno perché diciamo no diciamo in un bacino dell'ordine di grandezza del migliaio di chilometri quadrati è inferiore al migliaio di chilometri quadrati funziona bene se tu cominci ad andare su dimensioni più più ampie funziona peggio perché ovviamente la pioggia accumulata è distribuita in maniera diversa sul bacino le inondazioni di Roma sono in funzione di quanto grande sia la pioggia sulle sul bacino se prende tre o quattro affluenti è terribile specialmente se l'affluente poi è l'ultimo quindi c'è l'aniene che arriva appena appena diciamo fuori di Roma Norde nella zona di Roma Norde e poi c'è l'altro che è terribile è il paglia che invece arriva prima di Orte sono le due uno è impermeabile il paglia è impermeabile invece l'aniene è permeabile se arrivano in fase diventa Roma va sotto insomma anche oggi c'è questo discorso della strozzatura perché bisogna tener conto appunto che la strozzatura di Ponte Milvio è quella che era prima della costruzione dei muraglioni i muraglioni hanno impedito alla piena di non dare la parte chiamiamola centrale del Vaticano Prati quella zona però non hanno impedito a uscire diciamo che se arrivi a ordini di grandezza sopra i 3.500 4.000 metri cubi al secondo di uscire a Ponte Milio e da Ponte Milio poi arrivi a Piazza di Spagna a Parlamento e così via è stato un lavoro che ci ha impegnato 5-6 anni insomma è stato un grosso lavoro e e niente è così grazie allora vogliamo iniziare la conclusione con una coda meteorologica che che riguarda questo contributo di Paolo Ruggeri i ghiacci polari e il tempo severo grazie grazie Guido buon pomeriggio io torno a parlare di atmosfera in particolare dell'interazione dell'atmosfera con una di quelle componenti più lente del sistema Terra di cui parlava questa mattina anche Roberto ovvero il ghiaccio un po' più volare il ghiaccio nella calotta polare artica dunque il motivo per cui ve ne parlo è sostanzialmente che se guardate questa immagine qui in alto questa è la serie temporale della copertura di ghiaccio nell'artico negli ultimi 40 anni circa dalla rianalisi del centro europeo e quello che si vede è che negli ultimi 10-15 anni sostanzialmente si è osservato una drammatica riduzione della copertura di ghiaccio nell'artico che era stata prevista da modelli ma fortemente sottostimata ora se guardiamo nella figura più in basso questo è un grafico dell'anomalia di temperatura dell'aria in prossimità della superficie per quest'ultimo decennio riferito al periodo precedente quello che si vede è un forte riscaldamento dell'atmosfera nell'artico associato anche a un certo pattern di anomalia di temperatura alle medie latitudini che comporta in particolare un raffreddamento sull'Eurasia su parte del continente americano settentrionale anche questa è una rianalisi ora l'idea è che l'idea di quello di cui vi parlerò in questi prossimi 20 minuti è di capire come forzanti remote come leggiamo qui ovvero cambiamenti al di fuori della regione delle medie latitudini e possibilmente anche distanti temporalmente possono influenzare la circolazione delle medie latitudini attraverso dei pattern atmosferici noti come teleconnessioni quindi parliamo di fenomeni per così dire a bassa frequenza fenomeni che sono importanti su una scala temporale di un paio di qualche settimana o di un paio di mesi ora la riduzione del ghiaccio ha avuto un grosso impatto a livello mediatico in particolare nel continente americano ma anche in misura minore dalle parti nostre perché appunto è rapida più rapida di quanto avevamo previsto qualcuno addirittura comincia a ipotizzare che nei prossimi decenni si osserverà una calotta polare completamente priva di ghiaccio nelle regioni calde e qualcuno comincia a pensare che fenomeni meteorologici estremi possano essere collegati a questa riduzione di ghiaccio ora perché non l'abbiamo prevista e perché l'Artico si sta scaldando di più questo meccanismo questa è una congettura che ormai è stata ipotizzata da circa un decennio e che funziona pressa poco così immaginiamo di scaldare il pianeta per global warming la temperatura dell'aria aumenta questo comporta una riduzione della copertura di ghiaccio per semplici considerazioni termodinamiche la riduzione di ghiaccio fa sì che più radiazione solare possa penetrare nell'oceano semplicemente per un discorso di riflettività dove si libera l'oceano si libera per ghiaccio nelle stagioni calde la radiazione solare può penetrare può venire immagazzinata dall'oceano e poi rilasciata nell'atmosfera nelle stagioni fredde questo comporta un ulteriore riscaldamento dell'aria nelle regioni polari che poi può impattare la circolazione nel resto del globo e quindi fare fondamentalmente un feedback positivo sul riscaldamento globale ora io mi concentrerò in particolare su questo aspetto qui cioè come la mancanza del ghiaccio alle alte latitudini può avere un impatto sul sistema atmosferico ora se pensiamo al sistema atmosferico alle medie latitudini in particolare in inverno nelle stagioni fredde e ci focalizziamo in particolare sui fenomeni a bassa frequenza sono importanti due ingredienti fondamentali che ho evidenziato qui in questo grafico questa è una vecchia rianalisi del centro europeo ma ancora più che valida per identificare queste caratteristiche allora il jet troposferico quindi il fiume di aria che scorre nella parte bassa dell'atmosfera da ovest verso est che qui ho evidenziato con un cerchio e il cosiddetto vortice polare stratosferico quindi una corrente di aria che scorre intorno al polo freddo ancora da ovest verso est e questi campi del vento del vento zonale sostanzialmente sono in accordo con il campo di temperatura che vediamo più sotto quindi finché sono valide le assunzioni di bilancio idrostatico diciamo di bilancio geostrofico questi due campi vanno abbastanza d'accordo quindi se cambio la temperatura in questa regione del mondo mi aspetto di influenzare questi due ingredienti fondamentali e infatti qualcuno ha cominciato a parlare di evidenza di un link tra il rapido riscaldamento dell'Artico e le condizioni meteorologiche alle medie latitudini proprio utilizzando questi due ingredienti quindi quello che vediamo in questo schema è in autunno l'oceano riscalda l'atmosfera rende l'atmosfera localmente più umida questo fenomeno comincia a interagire con il getto troposferico che qui è rappresentato da una linea azzurra chiara gli spostamenti del getto troposferico a loro volta influenzano il vortice polare nei livelli più alti questo cerchio di colore viola fino al punto che in inverno in oltrato si può osservare un vero e proprio collasso di queste due strutture atmosferiche che come vedete nello schema ha o si pensa che può ha ovviamente in realtà un impatto sulle medie latitudini quindi la chiave del fenomeno è capire come questo avviene e se questo avviene se guardiamo come è fatta l'atmosfera in quest'ultimo decennio quindi mi sto riferendo ancora all'ultimo decennio riferito al periodo precedente nella rianalisi atmosferica e qui vediamo una sezione di latitudine e pressione quindi latitudine e livelli verticali qui andiamo su con la quota e con i colori vediamo proprio il campo di temperatura che mostra un riscaldamento basso quindi confinato nei livelli più bassi dell'atmosfera nelle regioni polari associato però con un grosso un forte riscaldamento anche nei livelli più alti e questo a sua volta è associato con uno spostamento del jet che è rappresentato dai contorni in questa immagine quindi dove ci aspettiamo di fatto uno spostamento di questa corrente d'aria a latitudini più basse o meglio questo è quello che osserviamo e questo è anche quello che riusciamo a riprodurre con una semplice simulazione qui abbiamo fatto abbiamo preso un modello analogo a quello con cui si fanno previsioni globali ma semplificato e abbiamo generato anche qui un ensemble di condizioni iniziali poi però non abbiamo fatto una previsione ma abbiamo studiato la sensibilità del sistema alla riduzione del ghiaccio quello che vediamo questo che vediamo nel grafico è la risposta comincia a scaldarsi l'atmosfera nelle regioni più basse poi il riscaldamento salta in qualche modo nelle regioni più alte lasciando quasi imperturbate quelle di mezzo e comincia a spostare anche il jet e qui andiamo avanti nel tempo da sinistra verso destra fino ad arrivare a due mesi quindi così in qualche modo sembra già un'immagine consistente che dà un messaggio chiaro però vediamo nelle osservazioni c'è un'ipotesi ragionevole un meccanismo ragionevole lo riusciamo a riprodurre con un modello semplice e riusciamo anche a pensare di quantificare con un modello semplice l'impatto su alcune regioni ad esempio l'Europa che sembra coinvolta in maniera particolare in questo meccanismo quindi non voglio entrare nel dettaglio però l'impatto in questo esperimento semplice è abbastanza chiaro è abbastanza evidente tuttavia il meccanismo che collega le due regioni è abbastanza complesso quindi lo possiamo sintetizzare così io qui ho adattato uno schema che è stato pubblicato un paio due o tre anni fa che è molto più complesso di questo e l'ho ridotto all'osso cioè se io scaldo le regioni più ad alte latitudini cambio sostanzialmente la posizione del jet e l'intensità del jet troppo sferico questo mi cambia a sua volta mi interagisce con il vortice polare e ho inserito un punto interrogativo che riguarda alcuni fenomeni alcuni processi a scala più piccola e non lineari su cui l'attenzione della comunità si sta rivolgendo in questo momento cioè il punto A sta a significare semplicemente che io alzo la temperatura in un punto cambio il gradiente di temperatura e questo controlla il jet ed è una spiegazione semplice del fenomeno il punto interrogativo sta a rappresentare alcune interazioni più complesse di cui parlerò brevemente tra poco e quel punto interrogativo sembra davvero importante perché il fenomeno A è facilmente rappresentabile da un modello è un bilancio che vale in atmosfera se io cambio il gradiente di temperatura cambio il vento il punto interrogativo invece è più difficile da rappresentare nei modelli tant'è che davvero di recente la comunità ha capito e ha realizzato che i modelli non sono d'accordo quindi se io mi sposto dal modello semplice al modello allo stato dell'arte quindi questa volta prendo un modello che è completamente confrontabile con quello con cui faccio una previsione meteorologica a livello di complessità e di fenomeni che tengo dentro quello che vedo è che due modelli allo stato dell'arte forzati esattamente con lo stesso la stessa perturbazione di ghiaccio mi danno due risposte completamente diverse e nessuna di queste due risposte tra l'altro corrisponde a quella che vi ho appena mostrato io una è esattamente opposta e una neutrata se invece prendo i modelli semplici ancora più semplici di quello che vi ho appena mostrato davvero essenziali in cui ho ridotto all'osso la complessità del problema questo meccanismo lo vedo e questo ha fatto pensare che sostanzialmente stiamo davanti a un problema molto più complesso in particolare un problema in cui la risposta dell'atmosfera dipende dallo stato dell'atmosfera e questo è quello che vediamo in questo grafico qui questo è un lavoro fatto quest'anno da un gruppo al servizio meteorologico inglese sull'asse Y qui vediamo la risposta del jet quindi per valori negativi troviamo quella risposta di cui vi ho parlato per valori debolmente positivi sostanzialmente parleremo di risposta neutrale e quello che vediamo sull'asse X invece è la posizione climatologica del jet ovvero questo è un grafico di risposta contro stato medio del sistema e il punto rosso è l'esperimento semplice analogo a quello che vi ho mostrato in cui il servizio meteorologico inglese perturba le condizioni di superficie del proprio modello riducendo il ghiaccio e non trova nessuna risposta poi prende lo stesso identico modello aggiunge una modifica allo stato medio quindi perturba le condizioni di superficie in particolare le temperature di superficie del mare ripeto l'esperimento e trovo il risultato del punto blu qui sulla destra vedete la differenza tra le temperature di superficie utilizzate nel punto rosso e nel punto blu quindi quello che hanno trovato sostanzialmente è che se io nello stato medio del sistema in questo caso particolare raffreddo l'oceano Pacifico equatoriale il mio sistema comincia a rispondere a perturbazioni di ghiaccio se lo riscaldo questa risposta si perde e allora noi siamo andati un po' controcorrente invece di aumentare la complessità del sistema l'abbiamo ridotta ulteriormente l'abbiamo ridotta al minimo indispensabile cioè abbiamo preso una sfera fatta solo di acqua con un grado di simmetria in più dove ogni longitudine è identica all'altra abbiamo creato un clima idealizzato introducendo una perturbazione nelle temperature dell'oceano che di fatto ci crea nel sistema nella sfera d'acqua una situazione che rappresenta con un buon accordo quello che vediamo nell'oceano atlantico nel mondo reale quindi abbiamo preso solo un pezzo di sistema e abbiamo studiato la risposta delle perturbazioni ad alte latitudini quindi abbiamo diciamo questo è il nostro clima sostanzialmente e questa è la nostra perturbazione dovuta alla riduzione di ghiaccio è un sistema fortemente idealizzato dove noi spostiamo la perturbazione sia in longitudine che in latitudine e poi studiamo la risposta vi voglio mostrare solo questo grafico qui vi voglio soffermare un attimo qui mostriamo la risposta quindi lo stesso indice lo stesso numero che vi ho mostrato poco fa in questo grafico dove positivo debolmente positivo significa neutrale negativo significa che c'è un impatto e ognuna di queste righe rappresenta un esperimento in cui la forzante di superficie è cambiata leggermente allora se aspetto un anno intero e forse il sistema per un anno intero trovo risultati trovo una risposta debole sostanzialmente nella maggior parte dei casi ma alcuni di questi casi alcuni di questi esperimenti molto simili agli altri mi hanno dato una risposta molto più forte zero in questo grafico significa in particolare che non c'è alcuna differenza se io localizzo tutto il riscaldamento a cui sottopongo l'atmosfera in un'area limitata o se lo diffondo su tutta la calotta polare quindi di fatto ci permette anche di capire se e quanto questo punto interrogativo di cui vi ho parlato prima è importante e ci sembra di dire di sì è un po' il contrario di quello che hanno fatto in Inghilterra cioè invece di lasciare la forzante invariata e cambiare lo stato medio del sistema noi abbiamo lasciato invariato lo stato medio del sistema e abbiamo cambiato la forzante però con questo grafico in realtà voglio chiudere e introdurre semplicemente questi tre messaggi la riduzione di ghiaccio può avere un impatto sul tempo meteorologico questo impatto può essere importante può essere legato può essere anche caratterizzato da una maggiore occorrenza di eventi estremi vi ho fatto vedere prima il collasso del jet del vortice polare questo può significare una maggiore permanenza di anomalie dal punto di vista meteorologico come l'ondata di calore che stiamo vivendo che spesso sono associate proprio a distorsioni della posizione del jet ma il fenomeno non è chiaro il fatto che la risposta del sistema dipenda dallo stato del sistema implica che i modelli non sono d'accordo perché hanno stati diversi e comprendere meglio i processi che legano questi due fenomeni può aiutarci a rispondere a queste tre domande che rappresentano diciamo la strategia per risolvere la questione poco tempo fa in una review filmata da moltissimi esperti di ghiaccio di interazione con l'atmosfera è stata fatta una dichiarazione cioè la comunità scientifica in questi anni è in grado di comprendere di rappresentare l'interazione tra le alte latitudini e le medie latitudini tanto quanto la comunità scientifica era in grado di capire come fenomeni ben noti adesso come Enzo e il Nimio e la Nimia di cui abbiamo parlato anche in mattinata siano in grado di impattare il tempo meteorologico quindi siamo rispetto a quanto abbiamo capito con il pacico con la dinamica dell'atmosfera equatoriale siamo 40 anni indietro e con questo ho finito mi fermo il tempo anche finito grazie buonasera a tutti con questa e la successiva presentazione torniamo al tema terremoti con due situazioni molto diverse la mia geologica e quella del professor Cosenza è ingegneristica allora velocemente questa è una presentazione che riguarda l'esorgente smogenetica cioè quegli oggetti che producono i terremoti e i modi in cui noi abbiamo studiato negli ultimi vent'anni ho ripreso alcune delle parole chiave di oggi e cioè capire e prevedere i rischi naturali con riferimento appunto a dove sono i soggetti smogenetiche vi ricordo che stamattina il professor Mulaggia ha citato molto diversosamente questo nostro lavoro e appunto come noi gli ingredienti che servono a fare della pericosità sismica in effetti se non sappiamo dove sono le sorgenti smogenetiche è molto difficile fare della pericosità accettabile ovviamente le sorgenti smogenetiche hanno avuto diverse eccezioni in passato quindi una volta ci accontentavamo di delineare delle regioni all'interno in quale avviene dei terremoti oggi siamo più esigenti che cerchiamo di mappare le singole falle capaci di fare i terremoti e una parola per ricordare che le analisi di pericosità possono essere come ci ha detto Stantina anche questo numeraggio sia indipendenti dal tempo sia dipendenti dal tempo quelli indipendenti non sanno nulla i terremoti che sono già avvenuti quindi un'analisi indipendente dal tempo non sa che c'è stato il terremoto del 2006 c'è una matrice e quindi la pericosità che la zona prima e dopo il terremoto resta invariata invece nel caso della dipendenza dal tempo ovviamente il terremoto fa la differenza e sulle stime indipendenti dal tempo stiamo lavorando da molti anni e pensiamo di aver fatto passi avanti credo che lo abbia messo anche il professor Muraggio Stantina sulle analisi dipendenti dal tempo ci sono varie esperienze pilote in giro in mondo ma ovviamente è una sfida molto più difficile intanto prevedere i terremoti o prevenirli questo è uno dei virgolismi a cui ci viene di fronte come categoria ovviamente prevedere il terremoto può avere varie eccezioni ma diciamo che l'accezione più estrema della giornalistica è quella del dove quando quanto forte cioè dire quando succederà questo terremoto dove sarà con che energia è molto difficile fare previsioni di questo tipo lo sappiamo tutti io sostengo che per certi versi è addirittura inutile perché la previsione non è ripetata quindi noi diciamo le persone uscite da casa perché sta arrivando il terremoto non ci siamo capaci magari ci riusciamo anche ma la casa in quel tempo trova e l'accento dovrebbe essere dannoso perché disincentiva la prevenzione dei pericoli noti quindi uno si mette via in seguire la previsione e nel frattempo si dimentica di fare poco o tanto che si potrebbe fare quello che si può fare è prevenire che invece è assolutamente fattibile lo sentiremo in margine al professor Cosenza e alla fine è anche meno costoso il mondo di costruire ovviamente quello che corpisce più la fantasia dei politici dei giornalisti di molti cittadini direi anche di qualche collega ovviamente è la previsione in senso stretto io faccio sempre questo esempio per dimostrare quanto sia più importante prevenire che non prevedere ad esempio il ponte sull'estritto di Messina non è mai stato costruito naturalmente però il succo del discorso è che l'ingegnere che progetta il ponte sull'estritto il mosso o qualunque altra opera ci chiede qual è la solicitazione massima che l'opera può subire durante la sua vita ai fini rischi di collasso non interessa se quella solicitazione si verificherà al primo o l'ultimo giorno non interessa qual è quel valore di picco e questa sembra una cosa abbastanza ottima sul tema della prevenzione qualche anno fa abbiamo scritto con Emanuele Abito Boni che è una storica che conoscete forse di fama un ponderoso volume che parla del peso economico e sociale ai terremoti e questa è una statistica che viene dal centro studio del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che fa vedere quanto sono costati i terremoti negli ultimi 150 anni e parliamo di 121 e rotti miliardi di euro a cui vanno sommati i 23 che sono stimati in verità centrale quindi siamo a quasi 150 milioni miliardi in 50 anni quindi una stima di 3 miliardi all'anno ricordo che Fausto Corsetti prima mostrava i numeri torna 1 1 e mezzo telecatastrofi e infatti a memoria ricordo che complessivamente si parla 5 miliardi all'anno che è una scelta piuttosto significativa con la quale si potrebbe fare tanta prevenzione e anche magari rimettere in moto un'economia un po' sofficante allora uno dei temi di questa orientazione è questo dualismo geologia e storia ovviamente la sismologia è suosfondo perché la sismologia dà i meccanismi e gli strumenti perché geologia e storia perché la vita umana è troppo breve per sapere tutto quello che è successo l'abbiamo visto con tutto quello che abbiamo sentito stamattina si parla ai tempi di torno di 200 anni nel caso di premoti di 1 anni tutte cose che sono incompatibili con la classica frase a memoria d'uomo che io sapevo che non vale allo stesso tempo però la geologia e rocce dure cioè quella delle rocce che vogliamo qui nelle montagne qui intorno è inutile non ci dice quello che sta succedendo oggi al massimo ce lo dicono le rocce tenere che facciano altri problemi poi ovviamente geologia e storia sono legate da frasi famose dei nostri padri diciamo padri geologici Charles Meyer parla del fatto che il presente è la chiave del passato e quindi passato e presente sono per la qualità transitiva la chiave del futuro la geologia in fondo è una narrazione vita del pianeta così come la storia narra la vita di noi che lo abitiamo poi però andando diciamo meno sulla filosofia e più sul concreto dobbiamo riconoscere che dal 1980 in poi abbiamo capito molte cose abbiamo visto delle moti strani che ci hanno convinto che bisognava assolutamente fare ricorso alla storia per capire meglio quello che sta succedendo per uscire da trabocchetti ambiguità ve ne farò vedere qualcuno come dicevo poco fa c'è il problema della ricorrenza per cui i telemoti per fortuna sono rari ogni mille anni in cinquecento nel duemila e qui però ha maggior ragione addirittura neanche la storia riesce in molti casi a fotografare un ciclo completo e poi il reco storico ci illustra come avviene il vario sismico non so la grande sequenza sismica del 1703 che ha colpito anche l'Aquila è la storia che ci dice che è venuta con tre termoti che si sono spostate dal nord al sud e tutto questo è molto importante e infine è importante il reco storico perché c'è la formazione tettonica per esempio quella che viene registrata la rete di GPS che non genera semplicità e quindi noi rischiamo di essere indotti in errore a considerare la riformazione che vediamo con i nostri strumenti GPS o con i nostri strumenti geologici come totalmente sismogenica il geologo perché il geologo quindi si interessa alle terremote abbiamo detto le rocce dure sono molto antiche parliamo di milioni di anni e la geologia in effetti si esprime in termini come il minimo di migliaia come il massimo di milioni di anni del telemoto è istantaneo e qual è il segreto? il segreto è in una disciplina che noi chiamiamo sismogenettonica che è una disciplina che io definisco bifronte perché il telemoto di fatto è un'accelerazione del processo che era in corso cioè in questo momento in Italia si stanno caricando delle falde di cui noi a malapena conosciamo l'esistenza poi ci saranno momenti in cui arriverà il telemoto noi ce lo andiamo a studiare e improvvisamente scopriamo o se che fino al giorno prima non lo sappiamo questo diciamo per chi fa per chi ha applicato la scienza diversa può sembrare una cosa inaudita ma è così non possiamo fare esperimenti dobbiamo aspettare che la natura li faccia per noi e tutto questo poi noi lo utilizziamo questa comprensione lo utilizziamo per impartare avanti i processi che è quello che i Giorgi fanno sempre studiano quello che è successo in passato per fare previsioni sul futuro e oggi abbiamo visto vari casi dato che poi abbiamo visto praticamente tutti i terremoti che ci hanno insegnato qualcosa che non sapevamo in Belice c'è il fatto che esistono faglie in una zona dove non sapevamo che ce ne fossero in Friuli 76 abbiamo visto una sistemicità che era superiore a quella che pensavamo ci fosse in Irpinia quello che vedremo più in dettaglio è una faglia in cima della montagna che non doveva starci il terremoto dell'Abruzzo del 84 del parco nazionale del parco nazionale del parco nazionale del parco nazionale quasi più altre faglie che non si sapeva che esistessero potenza 90 delle faglie trascorrenti profonde Palermo 2002 si scopre che ci sono delle faglie in mare l'arco di Palermo delle quali non si parlava e di nuovo in Molise faglie trascorrenti Abruzzo 2009 la beffa delle faglie attive perché molte delle faglie che si vedono intorno a questa città hanno state marcate come attive ma nessuna di quella si è mossa con il terremoto quindi sostanzialmente noi cerchiamo di capire i terremoti della geologia e di capire dai terremoti ora è chiaro che non siamo arrivati diciamo su una piazza confidente vuota c'è chi ci ha preceduto c'è stato il progetto di iniziativa la geoglianamica ci sono stati sforzi importanti tutte queste compilazioni hanno messo giù delle faglie e quindi in certezza hanno messo a posto le fondamenta per il ragionamento che sto per svolgere però non sono arrivati a compimento e uno dei motivi è che ancora non erano chiari le modalità esatte dei processi di cui stiamo parlando questo è un esempio è uno dei miei che viene chiamato che vengono chiamati i nastrini di faglia quindi l'evidenza in superficie di una faglia siamo nella zona di Gioia de Marcia a Fucino questo è il monte Carasano questo piano di faglia è il piano fisico di scorrimento dei due blocchi di calcare quello che forma la montagna e quello che sta qui sotto e ovviamente però questa immagine non ci dice quando questa faglia si è mostrato l'ultima volta potrebbe essere anche 5 mila anni fa potrebbe essere l'altro ieri e questa è esattamente la materia di contendere c'è stato una scuola di pensiero che negli anni 70 non merita non merito ovviamente perché qua alla fine hanno comunque iniziato un ragionamento ha identificato questi nastrini con delle faglie che erano sicuramente attive in tutta la regione appenninica diciamo dell'Apennino centrale poi ci sono stati invece i pionieri di un'erogia storica quelli che fra gli anni 80 e gli anni 90 ovviamente appoggiando i piedi sulle fondamenta molto solide quelle di Baratta dell'inizio del secolo del XX secolo e ancora prima di chi era studiato i terremoti storici già dal 600 e comunque sono stati messi insieme delle cose abbastanza uniche nel Parlamento Mondiale un catalogo parametrico ai terremoti quindi dove ogni terremoto è indicato con una stringa latitudine longitudine e magnitudo e invece quasi ancora più importante i cataloghi ambitici dove per ogni terremoto vengono forniti indicazioni sui singoli effetti quindi ogni località con la descrizione delle chiese degli edifici che sono trovati numero dei vittimi eccetera eccetera il terremoto 80 ha segnato una svolta lo ha segnato anche la mia personalesistenza perché io con tanti altri siamo figli del fatto che dopo il terremoto 80 si è risvegliato la coscienza nazionale per i motivi che tutti sapete per i promosi discorsi che c'è pertini e quindi c'è stato un'immissione di ricercatori nel sistema questo è un terremoto strano questi sono di chi l'ha conosciuto Renato Punecello che è stato il mio professore di tesi e questo è Dania Pontosti attuale direttore dell'istituto di terremoti di Roma questo è un terremoto che faceva una cosa strana imprevista è un terremoto che rompeva una faglia che arrivava in superficie in alta montagna abbassando la montagna e rialzando la valle quindi facendo l'opposto il problema che sembrava dirci in effetti tutte le indicazioni che avevano dati satellitari dati di sismi di riflessione tutti i dati ci diciamo qualcosa di diverso da quello che qualche mostro ha dimostrato questa è una linea sismica dei petrolieri che passa attraverso l'abinio medionale la faglia di Irpina dovrebbe trovarsi in questa protezione rispetto a partire dall'indicazione che abbiamo dalla sismologia e come vedete non si vede nulla quindi questi dati che venivano considerati preziosissimi per andare a cercare faglie di fatto quella faglia non l'avevano vista e se non l'hanno vista quella forse non vedono neanche le altre il terremoto di Irpina poi fu studiato in grande dettaglio si decise che era un terremoto complesso uno del quale prendevano sia verso nord-est che verso sud-est ma sostanzialmente il terremoto aveva violato un principio fondamentale cioè i nostri i nostri padri i geologi sostenevano che l'appennino era creato perché c'era una gradinata di faglie che dall'appennino scendeva verso il terreno questo terremoto in un attimo aveva spazzato lì a questa credenza e ha dimostrato che questa gradinata non esiste e che il meccanismo è contadente diverso quindi che c'è un motore geoglianico è diverso da quello che era stato ipotizzato in quel momento e qui insisto con quello che diceva prima cioè i nostri colleghi fisici ne abbiamo visto stamattina analisi particolarmente acute e sofisticate e loro possono trovare strano che il livello dell'incertezza a cui noi siamo ancora soggetti è di questo livello di questo tipo però diciamo questa è la situazione che abbiamo trovato negli anni tra gli anni e fatti negli anni 90 e ancora oggi abbiamo pochi di incertezza e vado veloce quindi il terremoto 80 di fatto ha dimostrato che bisognava assolutamente cambiare il nostro approccio al problema dal punto di vista geodinamico per esempio si diceva l'Italia è in estensione sappiamo che la catena appellinica è in estensione sappiamo che tutti i terremoti del 2009 del 2006 diciamo sono tutti terremoti estensionali però se andiamo a vedere le linee sismiche vediamo che l'estensione in appellino significa in pratica aprire dei microscopici i bacini questa è la Valdaglia che siamo giù in Lucania nella zona dove c'è tutta la ricerca per prolifere in questo momento molto attiva i bacini estensionali sono delle cose microscopiche su una struttura che tutto entra in estensionale perché voi vedete che questi corpi rocciosi sono dei corpi che si affastellano sull'altro quindi fanno vedere che semmai c'è stata un'importante compressione in questa zona con l'estensione confinate nella parte più superficiale ecco chi invece guardava articoli stranieri prendeva manuali diciamo in maniera molto leggera diceva beh c'è l'estensione esattamente come c'è negli Stati Uniti occidentali questa regione che corrisponde con Nevada Wyoming Utah dove c'è effettivamente un fenomeno di estensione ma è qui tutta la retosfera che viene stirata quindi si creano per fare una dietro l'altra che in pratica accomodano un'estensione complessiva del tuo sistema perché è importante capire il motore geominamico in questo caso stiamo parlando del motore perché regola le nostre aspettative se questo è il motore geominamico ci aspettiamo di vedere tante faglie per allele una vicino l'altra se invece i meccanismi sono diversi la configurazione del sistema si è diversa e che il sistema nostro sia diverso dimostra per esempio il rilascio sismi noi abbiamo terremoti che si concentrano sull'asse della catena e guarda caso questo è esattamente il punto dove c'è il massimo sollevamento della catena sia da dati strumentali che da dati storici quindi vediamo che c'è una concentrazione della deformazione dunque della sismicità abbiamo capito che c'è un sollevamento in alto della catena lo sappiamo andando dai terrazzi marini che ci sono qui non lungo la posta ionica che fanno vedere un inarcamento dell'appennino che non necessariamente viene accomodato da terremoti ma è una tendenza dell'appennino a salire a prescindere abbiamo visto che in una sezione tipica attraverso l'appennino vediamo tanti picchi e tante balli ma queste sono quasi sempre il riflesso di strutture complessive antiche quindi non il riflesso di quello che succede oggi con la tetonica estensionale ma il riflesso di qualcosa di antico e quel qualcosa di antico non lo dobbiamo togliere al tavolo non vogliamo scambiare le faglie vecchie per le faglie attive quindi creare un problema a chi quel problema non ce l'ha studiando poi i terremoti di terpini è venuto fuori che i terremoti erano molto più rari di quanto non pensassimo quindi siamo andati sul terreno davanti agli scavi pensando di trovare una ricorrenza di 300-500 anni e invece abbiamo trovato una ricorrenza intorno ai 2000 anni anche questo pesava è una nota positiva perché vuol dire che i terremoti sono meno numerosi di quanto noi temessimo però anche qui c'era stato un enorme errore di votazione di terremoto altra caratteristica d'Italia è il fatto che non tutte le faglie arrivano a entristare alla superficie abbiamo visto negli ultimi 50 anni sostanzialmente che il terremoto del 1980 e il terremoto del 2009 e l'Aquila sono gli unici due per i quali abbiamo avuto in superficie delle rotture significative nel caso di Irpinia è molto evidente abbiamo visto nel modo prima nel caso dell'Aquila la famosa falla in Paganica che non è una cosa particolarmente spettacolare però è fagliazione superficiale e poi ovviamente parlo consigliato i terremoti del 2016 2017 dei quali tra l'altro stiamo ancora discutendo in quegli anni adesso qui siamo al fine degli anni 80 nasceva il concetto delle faglie cieche anche negli Stati Uniti i californiani per molti anni avevano arrivato dal San Andreas e si raccontavano dall'estero da sinistra dall'aere spettacolare faglia di tagliare la superficie se non che poi continuavano a prendere il bastonato da terremoti che invece avvenivano su faglie cieche non visibili in superficie il principale dei quali fu il terremoto di San Francisco del 1989 per cui intende c'era un terremoto di 273 quindi un terremoto piuttosto grosso nonostante questo non arrivava in superficie questo lo possiamo saltare dunque parlavamo prima di questi nastrini di faglia bene questi nastrini di faglia negli ultimi anni sono diventati un fatto importante sono diventati una specie di magnete per un gruppo di ricercatori inglesi francesi italiani naturalmente che sono venuti qui in Apennino qualcuno poi magari anche visti in giro hanno fatto delle operazioni abbastanza brutali non so se qualche poliziotto forestale gli ha detto qualcosa però insomma hanno fatto delle datazioni con una tecnica che servirebbe che serve a valutare la data in cui il piano di faglia è stato scoperto quindi nell'assunzione che queste faglie vengano progressivamente scoperte tettoniche con episodi di fallezione superficiale proprio datano il momento della scopertura e quindi in pratica datano la velocità a cui la faglia si sta movendo questa è l'ipotesi di lavoro alcuni nostri colleghi tra l'altro alcuni presenti qui in sala hanno deciso di sfidare questa questa ipotesi di lavoro che mai si sta diffondendo tra l'altro su riviste molto importanti questo dice anche qualcosa su come funziona il sistema del peer review nel mondo qui ci sono lavori su questo argomento che sono stati pubblicati su riviste maggiori senza che nessuno avesse da ridire sui fondamenti di quelli di un giorno invece i nostri colleghi hanno messo in discussione i fondamenti sono andati lì con uno strumento molto meno sofisticato delle misure dei raggi cosmici usati da francesi e inglesi hanno usato un oggetto di questo argomento e hanno messo in evidenza che molti di questi oggetti crescono si alzano nel tempo si sviluppano nel tempo in maniera di tutto indipendente dei terremoti e evidentemente qui ci sono due fattori che possono competere la tettonica e i normali processi erosibili quindi queste faglie si muovono perché la tettonica le fa scorrere o perché i normali processi erosibili quindi la piolosità e tutto quello che ci può essere semplicemente spostano questi depositi che sono depositi non consolidati e scoprono la roccia che c'è sotto loro sostengono con queste misure che in fatto è essenzialmente erosibile hanno messo in evidenza spostamenti progressivi lungo molte di queste faglie che variano tra i 10 e i 40 milioni di rano quindi velocità che sono del tutto incontro tipico quindi queste faglie si scoprono alla velocità che è almeno 10 volti superiore a quella che sarebbe caratteristica della rettomica questo è un lavoro che è uscito recentemente è stata una specie di bomba terroristica buttata in un aeroporto adesso vediamo quale sarà la reazione per dire che abbiamo ancora incertezze su processi fondamentali che avvengono sulla superficie terrestre allora proviamo a mettere un po' in ordine le cose ripartendo dagli effetti del terremoto abbiamo la faglia costale pubblicamente la faglia arriva tra i 10 e i 20 milioni di profondità può o meno arrivare a superficie mi genera il terremoto il terremoto genera lo spodimento lo spodimento fa i danni sulle case e poi innesca le frane molte di quelle che abbiamo messo stamattina anche per che ci ha fatto i terrestri ma la faglia per muoversi fa anche un'altra cosa deforma la superficie terrestre perché ovviamente la faglia fa muovere due volumi di roccia adiacenti e questi volumi di roccia alla fine daranno un riflesso della loro deformazione anche in superficie e poi si può dire il fenomeno della faglia di superficie come abbiamo visto che è un fenomeno non sempre presente ora noi concentriamoci un attimo su questo aspetto perché questo aspetto è quello più centrale al discorso che c'è prima il geologo riesce ad avere il controllo di deformazione accumulata terremoto dopo terremoto il geologo ha una buona possibilità di vedere la deformazione tettonica accumulata dopo 100 terremoti o dopo un buon numero di terremoti che si ripetono lungo le stesse palle tutto questo ha preso un nome negli ultimi anni che è la geologia dei terremoti che io chiamo anche una sismologia senza sismografi perché è sismologia di effetti usa gli strumenti di tecnologia ma gli mancano gli strumenti gli strumenti sono una sette tonica essenzialmente questa è un'immagine della deformazione successiva al terremoto del 2009 queste sono immagini ormai come sapete ci sono varie costellazioni l'abbiamo sentito prima dei colleghi di Firenze varie costazioni satelliti tra l'altro nel tempo sono diventate quasi tutti gratuiti quindi ormai questo è il metodo principe per studiare la deformazione della superficie da test ed è un metodo fondamentale perché è il metodo che miglia il movimento lungo la faglia profonda con la deformazione della crosta quindi noi siamo in grado studiando quello che succede in un terremoto come questo di fare dei ragionamenti andare sul terreno e verificare deformazioni nei posti recenti che possiamo ricondurre una faglia profonda da notare che questo è anche molto importante perché consente di gerarchizzare la deformazione che avviene in superficie qui si intravedono per esempio delle piccole frangette che sono state causate da una franga sismoindolta e qui dentro si vedono delle introduzioni delle frange che corrispondono al fatto che in superficie si sono mosse delle faglie secondarie quindi questa è un'immagine che ci stanno facendo al completo sia di quello che è successo sulla faglia profonda che ha fatto il terremoto sia di quella che è stata la risposta della crosta più superficiale a quella deformazione e diciamo intorno alla metà degli anni 90 abbiamo quindi deciso di lasciare perdere la mappatura delle faglie attive in superficie perché ci sembrava che fossero troppo ambigue e di cominciare a ragionare come fanno i sismologi cercando di costruire delle faglie profonde di cui cercavamo di dare la definizione interdimensionale quindi con la profondità la tendenza la frequenza e l'unquezza del piano ci siamo messi già dal 1888 a ragionare su come i terremoti per esempio si distribuiscono lungo l'appennino questo è un esercizio che facciamo sull'appennino medionale i terremoti storici in questo caso ci davano una sicura evidenza del fatto che ci possono fare l'esimogeneità quindi immaginate il paradigma cambia in questo senso il gioco tradizionale i pionieri andavano sul terreno e dicevano qui ci sono tre faglie quindi forse c'erano terremoti noi partiamo il terremoto qui c'è stato un terremoto ci andiamo il terremoto c'è stato sicuramente ma fargli c'è sicuramente se siamo bravi lo troviamo se non siamo bravi non lo troviamo ma fargli c'è sicuramente il paradigma è il posto sviluppavamo quelli che chiamavamo che si chiamavano in quel momento andavano molto in modo i modelli di segmentazione quindi in cui identificiamo delle faglie anche aiutarci col fatto che dove finisce uno ne comincia un'altra dei soliti sistemi di faglia sono dei sistemi estesi con deformazioni che si spezzetta su faglie più o meno grandi ci siamo ripartati i grandi terremoti storici del 900 perché dotati di dati strumentali quindi in questo caso è possibile un approccio misto in cui da una parte si usavano dati strumentali che hanno la loro solidità ovviamente nel 1908 non è ieri però i dati geolettici che Francesco Moulage ha analizzato il primo poi noi li abbiamo seguito davano indicazioni molto importanti e scoprimo per esempio una nuova categoria di faglie faglie estensionali ad angolo bassissimo tra i 30 e i 35 gradi che secondo la teoria non dovevano esistere invece esisteva poi ci andammo a guardare il terremoto nel 1915 quello di Rezzano anche qui con dei dati geolettici venne fuori che mentre questa faglia veniva considerata una faglia della scorrente prima del momento in cui noi ci abbiamo messo a piedi si è capito che questa è una faglia estensionale che peraltro non veniva mappata nelle mappature di quell'epoca quindi vedete queste due sono le fratture che si sono viste in superficie nel 1912 chi aveva mappato questa regione aveva visto tutto tranne questi due elementi terremoti anche più recenti questo è il nuovo terremoto sul paglia cieca il terremoto senegale del 38 ottobre 1930 che si inquadra perfettamente nell'evoluzione tettonica di questa regione con una soluzione sesmologica tenuta da sesmorami di quell'epoca e quindi si delinea piano piano un quadro in cui i terremoti più recenti fanno da capofila piano piano si mettono in fila i terremoti più antichi fino ad arrivare a quelli pre-strumentali in un quadro che si compone quantomeno in termini di regolarità perché si vedeva che c'era sulla cima d'appennino una specie di trenino di faglie che si toccavano e la stessa cosa succedeva sul versante adriatico e sul versante sudadino un ulteriore elemento e qui di nuovo torna la storia è la possibilità che è stata avviata nel 99 da questo collega Paolo Spini fisico dell'Università di Bologna di utilizzare i dati storici in maniera quantitativa e quindi prendere direttamente i dati di attenzione della sismia cioè quanto era stato scoperto il terremoto di singolo per ricavarci con delle elaborazioni non neanche particolarmente sofisticate una specie di faglia equivalente vedete io mi sto sporsando di spiegare che nel nostro mestiere non si fanno delle cose molto sofisticate cioè non stiamo facendo la fisica quantistica stiamo però facendo parlare categorie di scienziati che fanno una serie diversa costringiamo storici geologi e fisici a ragionare insieme per un risultato comune il risultato comune non è un risultato sofisticato ma è un risultato importante perché noi dai dati poveri storici abbiamo ricavato una faglia equivalente queste faglie veramente ottenute dai terremoti storici uno le può mettere in una carta e quando le va a guardare a scala nazionale vede che evidentemente i terremoti storici utilizzati in questa maniera rinnovativa comunque danno una bella informazione molto regolare a quel punto siamo passati alla prima proto-versione della nostra banca dati di sorgenti smogeneti qui siamo nel 99 di nuovo abbiamo parlato con i nostri colleghi strumentali per vedere come queste ipotesi sorgenti andavano d'accordo con la sistemicità che si registrava in quegli anni e si vedeva che molte delle sequenze di bassa magnitudo si andavano a incastrare esattamente fra una grande falla e l'altra a quell'epoca siamo stati particolarmente audaci oggi non vi parliamo anche alla luce di quello che è successo proprio per l'Aquila ma uscimmo sul cuore della sera nel 99 un bel po' di anni fa con l'identificazione delle zone in cui si aspettavano interremoti quindi una cosa da non ripetere audacia giovanile il fatto però è che ci avevamo preso abbastanza perché abbiamo identificato per esempio la zona della padania meridionale abbiamo identificato l'Abruzzo centrale il Pollino e quindi tutte le zone che prima o poi i terremoti ci sarà una dimostrazione di quello che diceva già Francesco Mollagio cioè che la previsione nel senso di dire almeno dove saranno i terremoti ormai è abbastanza portata in mano nel 2001 pubblichiamo una prima versione un po' più rifinita di questa banca dati che veniva eseguita sul cd perché la tecnologia di allore era questa in cui mappavano sostanzialmente solo delle faglie individuali le chiamavano cioè una rappresentazione dei terremoti che erano già successi o di terremoti che potevano succedere erano una minoranza però uno di questi era per esempio il terremoto il 29 maggio 2012 che noi abbiamo anticipato con una di queste scatoline che avevano il suo metodo massimo le sue dimensioni questi valori poi sono stati confermati da quello che è successo nel mondo reale e tutto questo 14 anni dopo siamo a pubblicazione della versione 3.2.0 che è la versione corrente in cui di importante abbiamo introdotto soprattutto dei sorgenti composi e quindi ci siamo posti il problema di strizzare di più l'informazione geologica e quindi non soltanto limitarci a fare le scatoline dove ci sono stati i terremoti che in qualche modo controlliamo ma cercare di estendere queste scatole con dei corridoi che sono quelli che come diceva Francesco prima o poi daranno il terremoto il giallo è il terremoto che c'è già stato tutto il resto il corridoio potrebbe prima o poi essere riempito da terremoti simili quindi con la stessa cinematica magari con dimensioni anche simili e queste sono le sorgenti che chiamiamo composite poi per un dovere diciamo di ecumenicità abbiamo introdotto anche le risorgenti di battute perché di nuovo il nostro mestiere con forte incertezze ci sono persone che mappano paglie a cui noi crediamo poco non crediamo per niente però riteniamo fortuna mettere in carta perché in ogni caso possono essere valutate da chi legge la banca d'arte il sistema è visibile anche su piattaforma Google Earth sta diventando molto popolare quindi vi invito naturalmente ad andare a visitare nel frattempo è stato esteso a tutto il resto dell'Europa nel quadro del progetto progetto comunitario share che ha rivisto la mappa di privacità sismica dell'Europa sempre sui dati storici c'è ancora qualche curiosità perché i dati storici sono un po' come il maiale come si dice nelle altre parti cioè ci sono tante informazioni che possono uscire fuori questo per esempio è il terremoto del 1857 in Baldano io ricordo che è il terremoto che è custodiato da questo ingegnere irlandese che si chiamava Robert Mallet il quale è molto modestamente la persona che ha inventato la parola sismologia a mia sismologia ha preso il suo nome Dalio Dei Greco se presenti il uomo e questo uomo fece delle selezioni in Baldrari molto interessanti da notare che in quegli anni gli inglesi pagavano una spedizione di un loro scienziato per andare a me di Danale mentre noi ovviamente non eravamo in grado di farlo probabilmente non con le stesse modalità e la faccio breve lui mise in evidenza che il epicentro di questo terremoto che aveva calcolato andando a guardare la direzione in cui erano caduti i monumenti in una tecnica molto rudimentale che però sembrava funzionare il epicentro era qui e il danno maggiore era invece molto per il sud cioè nella Val d'Agri la parte centrale quella poi dove c'è l'esplorazione percolifera quindi siamo nella zona di Montenuro Brumento Ghigiano per chi conosce voi e per farla breve insomma andando a guardare i dati storici è un punto fuori che questo terremoto in realtà è un terremoto complesso con due sposse in tre minuti una prima spossa in una parte nord e una seconda spossa nella Val d'Agri in senso stretto noi abbiamo fatto dei ragionamenti e abbiamo detto che questa a nord potrebbe essere una spossa tra un momentudo 6,3 e 6,6 quella più meridionale dovrebbe essere un momentudo tra 6,5 e 6,9 se non erro e quindi un singolo terremoto alla fine è stato scomposto in due terremoti più piccoli questo può sembrare un risultato insignificante ma in realtà dice qualcosa sul quali amici massimi terremoti cioè i terremoti non sono necessariamente molto forti in Italia ma arrivano a catena e la Piavese 2016 in maniera molto chiara questo è un esempio precedente questi eventi si sono invescati a distanza di 3 minuti se fossero stati 3 mesi come nel caso di Amatrice e Noccia ovviamente il problema non si sarebbe posto nei cataloghi storici c'è un fortissimo terremoto considerato il più forte terremoto dell'Appennino che ha una maitura di 7,2 ci lo siamo guardati negli anni scorsi siamo arrivati alla conclusione che questo è un terremoto fatto da almeno 3 grandi scorse nella zona di Riaventino un po' più a nord di Morise e con una scorsa nella zona di Popoli ognuno dei quali ha una maitura piccola ovviamente il danno complessivo è stato letto come un singolo terremoto e con le tecniche che ha fatto del Ria che è un problema in tutto che però riteniamo essere esagerato la stessa cosa riteniamo che sia successa con il terremoto 693 quello che aveva di noto che dice in Sicilia del Tav che addirittura nel Catano è riportato con un terremoto di metodo 793 e noi riteniamo che sia invece dovuto all'attivazione di due faglie una nella mare eblea e una a sud dell'Etna con due zone di danneggiamento che però sono state mescolate e quindi hanno dato luogo a un terremoto ultimissimo caso abbiamo parlato di pericolosità time dependent ci sono stati in effetti tentativi in questione di vedere le cose anche in prospettiva dipendenti dal tempo questa è una matematica dell'istituto di Milano adesso mi scurge il nome di Bercene e lei nel 2007 la pubblicazione del 2010 in mano nel 2007 ha preso le nostre urgenti congeni ha preso il catalogo storico ha fatto dei ragionamenti e ha deciso che la massima probabilità di verificarsi di un forte terremoto si riscontrava in questa specie di serpentone che corre sull'appemino centrale questo serpentone è il serpentone in cui sono accaduti prima il terremoto del 2009 e poi il terremoto del 2016 e del 2017 quindi si può pensare che questo risultato sia stato ottenuto per caso però ve lo passo a un risultato diciamo confermato sperimentalmente è un ultimissimo tema vi dicevo all'inizio che i terremoti storici ci aiutano anche a capire quanta deformazione va in terremoti e quanta deformazione invece non produce terremoti che è un aspetto importante così già a occhio si vede che mentre sull'appennino cadono un sacco di questi puntini neri che sono i terremoti nelle fasce esterne dell'appennino che sono le fasce di compressione che vanno a Sicilia i terremoti sono molto più rari diversi anni fa Salvatore Barba e Carlo Lioni naturalmente il nostro presidente fecero un'analisi di questo fenomeno e arrivarono a sostenere che in pratica esiste un parametro di accoppiamento sismico con cui le faglie estenzionali trasformano in terremoti tutta l'informazione a cui sono sottoposte mentre le faglie compressive faglie inverse hanno un'efficienza del 25% come dire che su 4 terremoti uno succede e 3 terremoti invece vanno via in deformazione a sismi e di nuovo questa non è un'informazione insignificante perché se noi non teniamo conto di questo rischiamo di portare le faglie sismiche sotto casa di persone che invece non vedranno mai un terremoto nei millenni questa analisi l'abbiamo rivista recentemente con Michele Carabati anche qui la stima è stata rivista a ribasso quindi adesso siamo al 50% quindi nei settori in compressione della penisola tra l'altro molti settori in compressione di cui stiamo parlando sono settori in cui c'è esplorazione di drogatori quindi questa tematica si intreccia con la pericolosità da sviluppo da sfruttamento di drogatori e comunque appunto ci sarebbe un'efficienza molto minore nei settori di compressione che nei settori estensionali concludo con questa rivisitazione quindi a partire dalle sorgenti imogenetiche uno può fare dei ragionamenti a freddo sulla base che abbiamo visto nel 2016-2017 e qui abbiamo fande che pendono sia verso l'adriantido quindi verso l'altest che sono quelle in verdolino e fande che invece perdono penso sul dovest in giallino che vedremo fra poco come quelle del termine del 2016-2017 e quindi partendo dal 703 ricordo questa sequenza che prima ha interessato Norcia e poi il porto del nuovo a partito l'Aquila di 2 febbraio 706 poi abbiamo terremoti invece sulla sponda orientale quindi con varie pendenti verso il terreno fra il 741 799 883 ancora a grado d'Odino 747 e 751 poi abbiamo terremoti nella valle Umbra fra l'838 e l'888 siamo tra Poligno Cannara Clevagna eccetera eccetera un terremoto a Montecchi nel 17 sempre su questa sponda occidentale questo serve a farvi capire come i diversi pezzi del Faso vanno a incastrarci insieme qui abbiamo un rappresentante di faglie profonde riteniamo trascorrenti sotto il gran sasso siamo nel 1950-51 il terremoto della valle in 79 che noi inquadriamo nella dinamica generale del terremoto del 2016 e poi arrivano i terremoti di Gubbio 82 84 i terremoti di Colfiorito 97 98 i terremoti del Macchio del 2009 e i terremoti del 2016 e del 2017 quindi tutto questo che vi ho fatto vedere porta a un'analisi di questo tipo che ovviamente ha un valore creditivo perché ovviamente se uno vuole si mette qui a ragionare su tutti gli spazi che sono rimasti e che fa una scommessa sul futuro se quelli saranno i siti dei prossimi terremoti conclusione il database che è il piano TIS è molto camminato ormai ha quasi vent'anni di vita vive attraverso queste sorgenti composite che hanno una funzione e le sorgenti individuali che ne hanno una un po' diversa ovviamente è molto cresciuto negli anni anche la dimensione del gruppo di lavoro è molto cresciuta attraverso le sorgenti composite noi cerchiamo di proporre del set completo quindi di rappresentare tutte le sorgenti spongenere che esistono sul territorio non soltanto quelle che si sono già mosse e in questo modo noi possiamo fare ragionamenti sui terremoti di ritardo e quindi attesi e il LIS sta servendo come base sia per la nuova e per questa MTS 16 che è in corso di operazione qui abbiamo uno dei territori principali e sia per tante altre cose quindi se c'è bisogna fare il calcolo sul scenario di scuodimento per il conto sullo stretto o modelli per i cosiddetti per i maremoti o qualunque altro tipo di calcolo la banca dati è disponibile e ovviamente consente di fare tutte le analisi che vi ho mostrato con questo vi ringrazio scusate di collegare quello che è successo in meteorologia con quello che mi sembra di capire dicendo in meteorologia cioè in meteorologia negli anni 70 si è realizzato che dovevamo avere più osservazioni senza osservazioni non abbiamo capito che non c'erano un'istia potrebbe dire quindi se si pensa che negli anni 70 le nuove osservazioni erano ordini qualche decina di migliaia su tutto il globo si è passati con l'avvento dell'era satellitare adesso abbiamo ordine centinaia di migliori di osservazioni al giorno nell'altro del tempo abbiamo anche migliorato i modelli e su il computer ci hanno permesso di assimilare le osservazioni per capire i fenomeni a prossima adesso mi chiedo avete in geofisica abbastanza osservazioni per capire cosa succede esattamente nel suono oppure occorre aumentare un fattore di 13 di 14 in una delle osservazioni per capire meglio e quindi cercare di prevedere questa è un'ottima domanda e adesso darò una mia l'avventura ma magari che gli altri geofisici lo senti in un momento di integrare e secondo me la cosa è un po' a vero intanto in meteorologia voi vi interessate nel globo mentre noi operiamo a livello delle singole aree del pianeta che sono diverse sono diverse come storie come tettoniche quindi quello che vale per la California non vale per l'Italia poi ci sono le culture sismologiche per cui i sismologici si ritengono essere un gradino più su di tutti gli altri certi problemi neanche si ripongono per magari arrivare al terremoto inaspettato però venendo allo specifico io ho l'impressione che noi abbiamo aumentato moltissimo in uno dei dati io ho cominciato a lavorare all'energia si chiamava allora 83 avevamo 45 48 stazioni in Italia oggi ne abbiamo 400 i dati GPS ormai i siti GPS sono pure intorno ai 400 ma c'è stato un forte aumento però per il tipo di problema di cui io parlavo oggi i dati strumentali seguono a un certo punto quelli sismografici a un certo punto quelli GPS un po' di più ma con tutte le attenzioni del caso io credo a ricerca di mettere in evidenza che più che l'aumento dei dati è stato cruciale l'aumento dell'interazione fra disciplini diversi perché è lì che si realizza è lì che si capisce cos'è che manca un modello che può essere fornito all'altro modello quindi più che uno sforzo tecnologico è stato uno sforzo culturale infatti si vede una differenza noi facciamo cose che non si fanno in tanti altri paesi perché magari i catalogo storico non ce l'hanno proprio quindi un problema non si può potrebbero avere ma non ce l'hanno una cosa simile a quello che facciamo noi lo fanno i giapponesi i cilinesi negli Stati Uniti ovviamente non c'è niente di simile poi ci sono tettoniche più veloci quindi ci sono zone del pianeta in cui non c'è bisogno cadare lo storico in un secolo si vede tutto quello che c'è da vedere quindi lì rimetto tantissime stazioni perché in pochi decenni vedo tutto quello che c'è da vedere quindi la risposta però secondo me è più in un'evoluzione culturale del sistema che non è un'evoluzione della tecnologia posso aggiungere una qualcosa allora a livello di dati presi strumentali disponibili al giorno noi abbiamo 10 alla 4 strumenti tra seismografi online, digitale tutto è e stazioni GTS più qualche dato del SAR 10 alla 4 strumenti operativi in generale gli strumenti acquisiscono a 100 Hz quindi hai 10 alla 8 10 alla 13 dati al giorno informa l'idea fondamentale di analizzare analizzare non c'è se riesce la potenza di calcolo potrebbe anche essere sufficiente in alcuni casi ma tieni presente che non c'è proprio l'idea di fondo di andare a analizzare la probabilità di rumore immensa per andare a fare siti di segnali quello che stiamo facendo assieme che poi alla fine noi ovviamente collaboriamo è andare dall'altra parte di formazione nell'altro estremo di spettro di frequenza bassissima perché la geologia chiaramente è un campionamento molto diverso e almeno agire da quella parte dello spettro la parte alta noi ne abbiamo assolutamente troppo io volevo fare una domanda questi dati sar l'errore qual è sul più di perché tu hai fatto vedere queste piccole regolarità e tu l'isce una piccola frana lì l'errore su quelle per esempio il rumore cioè tanto i fiolettini diciamo che ci sono vari sar anche di funzione estreme se il problema è circostanziato è più nelle immagini quelle che danno le costituzioni saterne normali gli errori sono anche in funzione dell'attivazione del termoto quindi il termoto del 2009 ha provocato a Pagani che hanno scoperto nei 20 cm e se poi quelli invece ripetano 17-20 cm cambia molto poco possono perdersi degli elementi perché se il sensore sta guardando una montagna con un bosco coltato in una villa ci sono tante cose si possono dire sono problemi con le orbite però il segnale diciamo se uno cerca di separare la parte grossa del segnale il segnale principale il segnale tettonico è straordinario cioè quello che dice il sale è lì che quella di formazione tettonica è fatta in quella maniera in quella dimensione in quelle scale di fare un po' che si può fare il buono poi c'è questo gioco per cui uno prende immaginizzare sottrae il segnale il segnale il segnale si va a guardare tutto quello che succede sul territorio che magari è importante il segnale quindi il problema è tanto il errore quanto la messa a fuoco di cos'è che si vuole fare il fatto che il segnale è tutto da lui che sta cambiando cioè in sei messo conosciuto una parte delle persone che stanno arrivando dal disagio questa è veramente una rivoluzione tecnologia italiana finalmente la tecnologia è una rivoluzione quella di scatteratori permanenti che è fatta dal professor Rocca originale di Napoli che ha scritto al Politecnico di Milano e che ha messo a fuoco in tutto il mondo faccio ricordare che questi dati si fanno il Movimento dei Volcani se c'è Alde che si sanno scende Bologna che si propone se c'è una partita di usi che si strabriano non ci sono altre domande parlarei dell'ultima relazione della giornata non sono presenze bene grazie grazie a professor Guido Visconti per avermi invitato a questo interessantissimo convegno tra l'altro sentendo le varie belle relazioni ma anche quella di Valenzise mi ricorda sempre l'importanza anche di riuscire a fare progetti molto trasversali c'è stato un periodo del progetto Catania del progetto Traiano in cui ci concentravamo in maniera molto multidisciplinare su alcuni territori secondo me è un'esperienza che va ripresa allora io diciamo al compito dell'ultima relazione quindi immagino che ci sia una certa stanchezza poi parlerò anche di ingegneria per cui ingegneria sismica ingegneria strutturale insomma mi scuso se per alcuni dirò cose molto semplici mi scuso anche se per altri dirò cose poco chiare e diciamo che mi concentrerò almeno in questa prima fase poi deciderò cosa sta facendo qual è la seconda fase diciamo sugli effetti ingegneristici del terremoto del centro Italia quindi questa sequenza dal 24 agosto al 30 ottobre questo simbolo è una fotografia di me e di Armanfredi pochi giorni dopo il terremoto di Amatrice su questo su Corso Umberto che oramai è una strada di Ciottoli quindi con questa muratura locale molto sfavorevole diciamo rispetto a tante altre murature che si vedono in giro in Italia quindi con questi Ciottoli arrotondati ma parto diciamo da considerazioni cioè le faccio vedere assieme queste due figure da considerazioni di base cioè per un ingegnere cioè non un ingegnere ma i cittadini diciamo le abitazioni gli edifici in cui noi abitiamo sono frutto sostanzialmente dal punto di vista sismico di due parametri cioè come era classificata sismicamente la zona dove si costruiva l'edificio all'epoca della costruzione che è un aspetto diciamo potremmo dire la pericolosità considerata in quell'istante quindi non la pericolosità in assoluto ma quanto veniva considerata nell'istante della costruzione la pericolosità e naturalmente l'ingegneria dell'epoca perché se c'è un edificio nel 1915 bisogna pensare all'automobile nel 1915 o il telefono nel 1915 non dico il computer nel 1915 perché ovviamente non c'era un computer nel 1915 quindi c'è un incrocio di queste due cose a fronte in realtà di studi di pericolosità studi di sismicità anche abbastanza evoluti questa è una in alto una mappa di sismicità insomma taramelli diciamo in realtà che centrava abbastanza bene la pericolosità sismica ma in realtà la storia la storia della classificazione sismica italiana è molto peggiore perché se vedete la sequenza che vi porto in basso nel 1915 era considerato sismico solo diciamo la la Calabria e questa zona qui ma che per semplice fatto che veniva come noto classificato sismico un territorio solo se c'era stato recentemente un terremoto quindi frutto del 1908 frutto di Avezzano tutto il resto niente ma devo dire con una memoria straordinariamente povera perché io una settimana fa ho parlato a Istia di Ischia e 1883 c'è il terremoto di Casamicciola fa 2300 vittime poi si va nel catalogo sismico del 1908 e non è considerata sismica Casamicciola quindi anche con una memoria devo dire incredibilmente breve e questa è 1927 questa è dal mio punto di vista ancora più fastidiosa perché queste macchie nere sono i territori declassificati cioè c'era una forte declassificazione dovuto in realtà a motivi di edilizia di costruzione di economia quindi cioè veramente non c'è motivo 1962 questa è drammatica perché vuol dire naturalmente che tutto il boom economico tutta la grande ricostruzione del dopoguerra è stata fatta sostanzialmente in assenza di criteri antisismici e quindi ripeto dell'epoca dobbiamo sempre pensare all'automobile nel 1962 dal 1950 ma lì non c'era proprio l'automobile quindi diciamo in realtà come è stato detto anche stamattina o prima diciamo la classificazione logica avviene solo col progetto geodinamica che parte prima del terremoto dell'Irpinia e si finalizza dopo il terremoto dell'Irpinia nel 1984 con un processo tra ingegneri geofisici geologi fisici molto bello e molto interessante cioè la prima mappatura di previsione diciamo non dove è avvenuto lo classificiamo sismico e solo nel 1984 sostanzialmente che è questa e solo ai nostri giorni diciamo direi dopo San Giuliano di Puglia e quindi dal 2003 in poi c'è una classificazione che è anche probabilistica perché a noi poi ingegneri alla fine serve anche una classificazione in qualche maniera probabilistica quindi questo è al di là delle norme tecniche più o meno buone questa è la situazione cioè quindi che non è insomma non abbiamo fatto un granché a questo poi si aggiunge diciamo un problema ingegneristico che io diciamo non certo non approfondirò più di tanto ma gli ingegneri amano fare strutture molto semplici questo è un telai in cemento armato fatto di pilastri e di travi criteri tipo gerarchia della resistenza cioè ordinare le rotture facendo avvenire prima quelle buone quelle duttili e dopo quelle fragili cioè diciamo come realizzare una struttura che è grado di dissipare un sacco di energia prevenendo rotture fragili diciamo da vetro e favorendo rotture duttili cioè da metallo giusto per semplificare questi sono concetti che in norme italiane e mondiali sono recenti direi in Italia anche questo dopo il 2003 quindi prima di questa data l'ingegneria non usava questi concetti e tant'è questo per esempio è un telaio un edificio del terremoto dell'Abruzzo diciamo non dell'Abruzzo del centro Italia come vedete è proprio smontato cioè smontato nel nodo un ingegnere oggi non farebbe mai una trave così resistente con il pilastro poco resistente non metterebbe mai pochissimo acciaio in questo nodo ma in realtà questo è figlio dell'ingegneria perché tenete presente che in quella in questa classificazione che ho fatto a vedere per esempio Amatrice c'è nella classificazione perché Amatrice era al bordo alla periferia del terremoto di Avezzano quindi fu classificato in zona di seconda categoria dopo il terremoto di Avezzano quindi in realtà è una palestra anche dell'evoluzione dell'ingegneria diciamo dopo Avezzano Amatrice non il resto perché ripeto Amatrice era proprio sul bordo quindi fu classificato è qui c'è c'è Amatrice qui in questa zona è una delle poche zone in cui c'è quindi noi oggi progettiamo in maniera completamente diversa io vorrei discutere di alcune questioni ingegneristiche quindi come dire noi ingegneri siamo l'emblema della semplificazione ma insomma cerchiamo di andare all'osso sperando poi di beccare l'osso e vorrei parlarvi proprio diciamo di Amatrice del terremoto diciamo del centro Italia innanzitutto questa è Amatrice qui come voi li conoscete devo dire che l'unica stazione accelerometrica sta qui quindi prima che inizia la salita qua ci sta tutta la rampa che sale per Amatrice in realtà la rete RAN quindi la rete accelerometrica nazionale ha una stazione qui non qui in realtà c'è una seconda stazione accelerometrica che nella scuola ha avuto problemi non sapremmo in realtà ancora oggi io non saprei dire se è stata salvata o no la registrazione comunque sotto sequestro della magistratura quindi c'è questa solo prima si parlava dei dati dei tanti dati diciamo certamente un tema è infittire la rete accelerometrica perché è evidente che l'accelerazione qui alla base e la storia anche nel tempo è ben diversa da quella che accade diciamo sopra Amatrice per effetti topografici per effetti locali in realtà il problema è di infittire fortemente la rete accelerometrica oggi che gli accelerometri costano veramente poco in ciascuno dei nostri cellulari ci sono più accelerometri quelli che governano l'immagine come si gira sono accelerometri a bassissimo costo è un tema che esiste si vede un effetto clamoroso sismico già salendo tra l'altro questa è la matrice questo è Corso Umberto che è l'asse principale è molto schematico come è fatta a matrice quindi con assi principali paralleli a Corso Umberto e assi secondari sembrano quasi decumani e cardini sostanzialmente qui sono questa è la la stazione RAN poi questa c'è la rampa col tornante che sale quindi fa così e poi c'è Corso Umberto che è praticamente in piano poi ci sono zone con edifici più bassi qua c'è la scuola qua ci sono altri edifici in cemento armato qua c'è l'hotel Roma qua ci sta l'edificio diciamo c'è l'edificio in cemento armato rosso di cui si parlerò qua c'è la torre civica ce n'è un'altra anche in questa zona qua c'è la chiesa di San Giovanni qui c'è l'hotel Roma forse molti di voi diciamo conoscono questi luoghi beh innanzitutto salendo si vede subito che ci sono incredibili lesioni nella strada della rampa quindi si capisce che il sismo è stato molto forte perché diciamo al di là delle costruzioni che noi uomini ingegneri potremmo aver sbagliato qui si stava prendo proprio tutto perché insomma così come muretti bassi sono caduti vuol dire le accelerazioni erano molto forti e questo diciamo faccio vedere questa figura perché questo è un attimino quello che un ingegnere sismico dice la carta di identità del terremoto cioè secondo la normativa cioè per noi ingegneri è fondamentale un grafico in cui sull'asse delle ascisse c'è il periodo proprio della struttura che è proprio il primo parametro che definisce il comportamento peraltro in fase elastica lineare qui c'è qual è la massima accelerazione che subisce per un dato evento sismico la struttura che ha questo periodo proprio giusto per intenderci a zero periodo è proprio il terreno quindi qua c'è proprio l'accelerazione del terreno oppure di una struttura infinitamente rigida ancorata al terreno mano a mano che si sale per esempio qua sarebbe un edificio di cinque piani più o meno sarebbe qui quindi edificio di cinque piani più o meno o di due piani o di un piano perché rigido o più rigido prenderebbe secondo questo grafico diciamo un'accelerazione circa due volte e quattro quella del terreno cioè una forte amplificazione causata dal fatto di avere un periodo proprio sfavorevole rispetto al terremoto una specie di risonanza giusto per intenderci se si fa un edificio di dieci piani più o meno un secondo siamo più o meno allo stesso valore quindi un edificio di dieci piani prende accelerazioni sostanzialmente simili a quei del terreno secondo questo grafico se c'è un ponte strallato che è deformabile stiamo qui se facciamo il ponte sullo stretto di Messina finiamo finiamo lì col grafico diciamo al solletico diciamo sostanzialmente dal terremoto perché è deformabilissimo infatti il problema diventa il vento non il terremoto questo è un classico spettro di progetto di norma questo in particolare è proprio di Ischia perché Ischia è anche diciamo associato a un certo periodo di ritorno non qua io con gli idrologi parlo come dire esattamente la stessa lingua cioè giusto per dare questa indicazione secondo le normative sismiche italiane europea mondiale si punta alla salvaguardia della vita cioè a salvare le persone per un evento che hanno un periodo di ritorno 475 anni questo numero strano ma perché ci sono 5 ci sono dunque 10 probabilità su 100 di superare questo evento in 50 anni questo è il livello di protezione che noi mettiamo noi mettiamo un livello di protezione per le vite di 475 anni prima Lucio Bertini parlava di 200 anni per gli eventi noi per la salvaguardia della vita è anche come dire logico che prendiamo un numero più grande perché a noi è molto più fragile molto più improvviso diciamo rispetto a a un'esondazione c'è molto meno tempo quasi non c'è tempo per salvarsi quindi è normale proteggersi di più rispetto a un evento che ha preavviso diciamo questi sono i numeri su cui noi ci basiamo questo è uno spettro di norma proprio di norma se uno voglia progettare un edificio è Ischia lo devo progettare così questi invece sono gli spettri veri quindi la scossa di Amatrice lo scuotimento di Amatrice quella prima del 24 agosto genera ad Amatrice questi spettri a Norcia questi altri spettri come vedete ci sono dei picchi altissimi per periodi diciamo dell'ordine 0,2 secondi ma spetti altissimi quindi a fronte di un'accelerazione già sbalorditiva quasi 1g picchi superiore a 2g questi sono spetti di accelerazione orizzontali tenete che sono quelli che ci interessano di più di gran lunga a noi interessano molto più le forze sismiche orizzontali che non quelle verticali questa accelerazione moltiplicata per la massa dell'edificio ti dà la forza di inerzia a cui devi resistere alla forza a cui devi resistere naturalmente se un edificio durante un terremoto arriva a 1g di accelerazione orizzontale vuol dire che questo edificio ruotato di 90 gradi cioè subisce una forza orizzontale pari al peso cioè lo dovete immaginare ruotato di 90 gradi e non farlo crollare quindi prendete il vostro edificio ruotato di 90 gradi e non fatelo crollare 2g vuol dire il doppio il doppio della forza di gravità questi sono i numeri che hanno subito strutture che hanno periodo proprio dell'ordine 0,2 secondi naturalmente basta già andare a 0,5 o 1 0,5 o 1 per avere numeri estremamente più bassi quindi è chiaro che questo terremoto è stato molto selettivo su strutture che hanno periodo 0,2 0,2 circa 2 piani 2,3 piani mentre un edificio molto deformabile diciamo un secondo avrebbe subito accelerazioni decisamente basse questo è un fatto molto importante in questo terremoto 10 piani alti non c'era ce n'è qualcuno ma lo faccio vedere quasi 10 piani quasi 10 piani c'è qualcosa allora questo è di nuovo Corso Umberto diciamo poiché è così regolare è anche molto semplice siccome gli accelerogrammi sono dati est-ovest e nord-sud è molto semplice ruotarli poiché le costruzioni sono lungo Corso Umberto quindi hanno una resistenza lungo Corso Umberto e un ortogonale è facile ruotare l'accelerogramma tanto le due componenti e un vettore per avere proprio le forze in una direzione resistente le forze in una direzione ortogonale quindi ruotandolo e prendendo addirittura questi abbiamo preso proprio le accelerazioni la storia delle accelerazioni su una struttura che ha 0,2 0,3 secondi cioè vediamo le strutture sfortunate che cosa si sono presi diciamo qua c'è la chiesa di San Giovanni prima e dopo tenete presente che diciamo se questa chiesa aveva 0,2 secondi di periodo proprio il che non è affatto strano si è potuto prendere almeno due cicli circa 2 g in orizzontale vedete come diventa più regolare perché questa è andata praticamente in risonanza se aveva questo periodo tenete presente no? si parla spesso delle capriate pesanti leggeri questa è leggerissima questa capriata quindi diciamo è di legno sopra ci sono legno proprio si vede come si è aperta completamente quindi diciamo è evidente che ci sono state anche azioni delle due pareti ortogonali che quasi l'hanno alcune capriate le ha fatte perdere altre sono rimaste qui ma guardate con che freccia permanente dopo vedete questa è la classica sospensione sì ci sono degli elementi metallici messi dopo ma è una capertura molto leggera quindi niente di eccezionale ritorniamo su questo punto perché è importante questa è Corso Umberto prima dell'evento si trova facilmente questo è il famoso edificio rosso questo è dopo il 24 agosto è rimasto in piedi solo l'edificio rosso e il campanile bene però guardiamo gli edifici quanti piani hanno due o tre piani quindi la scossa del 24 agosto in maniera selettiva ha dato forze fortissime agli edifici tipici di amatrice di due piani mentre gli edifici alti avendo un periodo proprio decisamente più grande hanno avuto azioni sismiche molto più basse infatti sono in piedi gli unici se qualcuno avesse visto prima questa immagine data a un cittadino dicendo ma cosa crollerà se viene un terremoto tutti avrebbero detto l'edificio alto e il campanile che invece sono gli unici che sono sopravvissuti perché conta la dinamica non è un fatto che a occhio si vede conta la dinamica e vedere quel terremoto che frequenze principali ha preso ecco il motivo per cui questo e questo sono in piedi sono in piedi al limite della vita queste sono fra le fie che ho fatto anche io vedete tutto distrutto questi sono in piedi sono al limite della vita perché guardate come non sono più allineati i pilastri addirittura questo è un edificio ciamento armato anni 60 anni 70 sì anni 60 così come per esempio questo è uno dei pochi edifici con struttura metallica vedete la parte interna ha subito danni enormi una struttura integra perché pur essendo due piani è una struttura molto deformabile perché è fatta solo da questi elementi in acciaio molto deformabili quindi questa conferma di come è selettivo il terremoto sui periodi quindi diciamo conta moltissimo il periodo proprio non solo questo poi naturalmente questo edificio dell'hotel Roma un cemento armato ancora precedente in realtà fatto anche diciamo con metodi dell'epoca in realtà ha perso un piano cioè qui si vedono i pilastri è proprio è quella gerarchia delle resistenze che ho detto prima che non è rispettato travi troppo resistenti nessuno progetterebbe più così pilastri piccoli piccoli questo edificio ha perso un piano quindi diciamo anche questo è spiegabilissimo ecco per esempio questo è un edificio alto non 10 piani ma 6-7 piani questo edificio è integro quello che vedete è il cappotto esterno che si è staccato questo sta qui questo edificio e non è l'unico quindi questo è molto interessante un edificio di 6-7 piani a mio parere molto per motivazione non è solo il periodo proprio ma anche il periodo proprio sostanzialmente non ha danni significativi ripeto quasi si è distaccato il cappotto esterno di impermeabilizzazione quindi questo ancora una volta conta tanto ma è sempre così? no, non è sempre così non è sempre così se prendiamo l'Aquila 2009 ci sono all'Aquila 2009 4 stazioni nella città dell'Aquila quindi abbiamo 8 registrazioni che abbiamo ognuno c'era 2 tracce se io faccio la media di tutte 8 ottengo questo ognuno è diversa qua ci sono gli effetti di sito ci sono la geologia locale molti di voi probabilmente sono esperti di questo quindi sono molto diversi fra di loro pur essendo tutti all'Aquila se io faccio molto rozzamente da ingegnere la media vedete c'è il nero da 0, 05, 07 sempre più o meno mediamente lo stesso infatti all'Aquila non si notano che sono non è che erano stati selettivamente colpiti gli edifici due piani sì e quelli di 6 no cioè l'Aquila ha preso casualmente alcuni sì alcuni no che è coerente col fatto che lo spettro medio era piuttosto costante diciamo in un periodo in un campo molto molto largo quindi quanto conta questo in realtà devo anche dire che quest'analisi elastica lineare e le strutture non si possono comportare in campo elastico lineare per le accelerazioni che vi ho detto è impossibile in realtà l'ingegneria progetta per salvare le vite dissipando energia ma creando grandi sa già in partenza che avrà molti danni cioè diciamo la progettazione detta in sintesi si fa come la prova di crash di un'automobile cioè la prova di crash di un'automobile tende a salvare le vite umane poi l'automobile si prende e si butta cioè riesce solo a dissipare l'energia richiesta ma poi si butta per un evento molto grande perché non possiamo pretendere di più a meno che di non avere un edificio con pilastri che sono grandi quanto le stanze voglio dire quindi noi ci basiamo moltissimo sul concetto di duttilità cioè che in un diagramma forza e spostamento non si rompe all'improvviso come il vetro ma arrivati a questo valore inizia ad avere deformazioni plastiche sempre più grandi sempre più grandi la duttilità vuol dire che alla fine noi lo troviamo molto deformato plasticamente pensate a un barattolo di acciaio che cade molto dall'alto si danneggia fortemente ma non si rompe un barattolo di vetro che cade molto dall'alto si spacca perché è fragile questo è fragile questo è duttile basandoci su questo in realtà noi ingegneri progettiamo per forze ridotte non per rimanere in campo elastico ma per forze molto più basse sfruttando il fatto che la struttura va in campo plastico non mi dilungo su questo ma noi riduciamo le forze in campo elastico quelle che vi ho fatto vedere di un numero grande che si chiama fattore di struttura che in pratica è uguale alla duttilità cioè se noi garantiamo con norme moderne che possa avere duttilità 4 cioè di poter avere spostamenti plastici 4 volte quelli elastici noi siamo legittimati a dividere le forze di progetto per 4 quindi progettiamo per un quarto quindi non per G ma per 0,25 G dando per scontato che andiamo in campo plastico però questa è una costruzione moderna una costruzione moderna questo criterio molto ingegneristico in realtà questo per esempio è Norcia se fossero allineati su uno vorrebbe dire che questo criterio che noi usiamo è corretto come vedete è un criterio che vale solo mediamente però è ben posto visto sempre il periodo come vedete le curve vanno abbastanza bene su uno vuol dire che questo criterio ingegneristico che usa tutte le norme italiane è confermato di validità anche per questo terremoto c'è non tante di questi grafici questo è anche quello di amatrice vedete non vale uno perché non è un teorema di matematica vale solo in media come vedete con oscillazioni però più o meno è lecito se uno ha l'utilità 4 di ridurre per 4 questo è confermato da questo terremoto questo era lo stato limite quello che noi chiamiamo di collasso perché si progetta per vari stati limite poi se ho tempo questa cosa la approfondisco leggermente di più ma solo se vedo che non c'è una stanchezza dominante in aula diciamo per terremoti molto rari per esempio a 975 anni di periodo proprio che vuol dire 5 probabilità su 100 di superamento in 50 anni non viene 1000 perché il processo è Poissoniano non è uniformemente distribuito se no verrebbe 1000 5% in 50 anni diciamo per questo evento ancora più grande 975 anni ancora di più dei 200 dell'idrologia dei 475 noi chiediamo a una struttura di rimanere in piedi giusto giusto regge solo i carichi verticali ma potrebbe non reggere a una replica che è esattamente l'edificio rosso perché l'edificio rosso è crollato per la replica che ad Amatrice cioè è crollato con le scosse del 26 ottobre che è piccolissima rispetto a quella a cui aveva resistito cioè resiste a questa e crolla per questo perché in realtà dal punto di vista energetico ha esalato sostanzialmente l'ultimo respiro poi arriva questa il 30 ottobre non avrebbe resistito mai praticamente questo è dopo il 30 ottobre il campanile regge ancora guardate ha perso anche dopo il 30 ottobre ha perso la sommità in realtà l'ha persa per due motivi prima perché era più fragile secondo perché il secondo modo di vibrare è un modo di vibrare che è un colpo di frusta in testa quindi vuol dire che invece del primo modo di vibrare è intervenuto il secondo modo di vibrare che non è tutto dallo stesso lato ma è un colpo di frusta che prende soprattutto la sommità ma addirittura ha resistito pure il 30 ottobre questa struttura questo praticamente quasi integra in fondo il famoso campanile qui sono solo macerie dell'edificio rosso non c'è più niente qualche parola sulla scuola questa scuola se ne è parlata in televisione tanto poi sono venuti il terremoto il 30 ottobre questo problema come dire non si è più visto qui c'era anche la stazione accelerometrica di cui vi dicevo in realtà il problema di questa scuola è molto più complicato di quello che è stato spiegato perché questa scuola è frutto di almeno due epoche successive perché una parte è in muratura e una parte in cemento armato quindi è una scuola di pianta molto complessa e queste proprie neanche lo fanno capire ma è una parte in muratura e una parte in cemento armato e nella parte in cemento armato c'è stato un chiaro intervento di cosiddetto miglioramento sismico cioè si è intervenuti sulla parte in cemento armato con il miglioramento sismico vedete questa è prima è un'ala prima del terremoto questa è la parte in muratura questa è la parte in cemento armato questo è dopo il crollo è crollata completamente la parte in muratura mentre la parte in cemento armato è in piedi non posso dire integra qui si vede pure il pilasso su cui si è intervenuto vedete queste strisce nere sono cerchiature in composito in fibra di carbonio un materiale che adesso stiamo usando molto all'Aquila si è usato moltissimo diciamo questo fu rinforzato così vedete che la muratura sta per essere espulsa qui qui alle spalle vedete l'edificio che vi ho fatto vedere prima che ha questi 1, 2, 3, 4, 5, 6 in parte anche 7 piani che sta proprio lì alla vicina alla scuola quindi come vedete questa parte in cemento armato con cui si è intervenuto il carbone è resistito perfettamente qui si sta per spaccare tutto vedete la muratura è andata in crisi quella che è crollata completamente è la parte in muratura qua ci sono i pilastri poi ve lo faccio vedere qua ci sono dei pilastri e questa c'è la muratura questa è tutta la sequenza completa prima dopo il 24 ottobre il 26 ottobre il 26 ottobre è stata già tolta tutta la parte in muratura dopo il 30 ottobre nonostante la micidiale terremoto spaventoso il 30 ottobre è ancora in piedi guardate che succede che tutta la parte non strutturale vedete questo sta per uscire così qui ci sono due finestre dopo il 30 ottobre questa è la fotografia proprio il giorno dopo non c'è più le due finestre sono diventate una e salta tutto questo non c'è più ma la struttura in cemento armato progettata con zona sismica con criteri d'epoca ha resistito forse grazie proprio all'intervento in fibra di carbonio quindi come la storia può essere complicata perché questi sono almeno due corpi diversi vedete questo si vede prima il 26 ottobre è così il 30 ottobre è così quindi ha fatto il suo lavoro in realtà a mio parere è interessante diciamo la questione dei carichi ciclici ripetuti cioè questo terremoto diciamo avendo avuto queste sequenze così significative e tante ha sollecitato a fatica ciclica le strutture vedete questo è Norcia la prima registra c'è un sito 1 di Norcia questo è il 24 agosto 26 ottobre 26 ottobre ancora se vi ricordate ci furono due un 5 e 4 e un 5 e 9 nello stesso giorno il 30 ottobre viene il micidiale 6 e 5 quindi l'intensità maggiore dopo Irpinia che tra l'altro con uno spettro a questo punto vedete estremamente ampio ovunque bene questo è un chiaro esempio di anche Norcia 2 è la stessa cosa un'altra stazione di carichi ciclici ripetuti tra l'altro questo è l'epicentro del 1997 quindi alcuni tipo Nocera Umbra hanno avuto non solo il 24 24 agosto 26 ottobre 30 ottobre 2016 ma questo avevano avuto 9 anni prima anche questo quindi queste strutture hanno subito un chiarissimo effetto di azioni cicliche fatica plastica come si dice col fiorito non ne parliamo proprio il povero col fiorito sta come si direbbe in mezzo alle botte per parecchie volte e dopodiché vi faccio vedere il filmino qui se ci riesco non è detto questa è la costruzione di quello che si vede ecco qua questo vedete la prima sequenza poi viene quella prima di ottobre vedete la struttura come degrada sempre poi c'è la seconda del 26 ottobre sta sempre più degradando infine arriva dall'ultima ecco qua è crollato questa struttura sarebbe crollata all'inizio per carichi ripetuti all'inizio del terremoto del 30 ottobre peraltro se scambiavamo e questo era il primo crollava lo stesso qui solamente crollava molto dopo quindi questo è un chiaro effetto da carichi ciclici plastici che non è che si verifica sempre ma qui si è palesemente verificato vi vorrei parlare siccome io parlo anche come dire il titolo era anche sulle tecniche per resistere meglio vorrei parlare un attimo di isolamento sismico isolamento sismico tra l'altro molto usato qui all'Aquila diciamo sui nuovi edifici lasciamo stare le Newtown che pure sono con l'isolamento sismico prendiamo gli edifici quelli che hanno avuto grandi danni gli edifici che hanno grandi danni 54 progettisti io ho tutti i dati perché abbiamo il libro a bianco 54 edifici sono stati adeguati sono stati rinforzati o adeguati sismicamente con l'isolamento sismico 54 questa è la statistica qui all'Aquila l'isolamento sismico lo si può fare o con isolatori elastomerici quindi gomma tipico per toni con piatti d'acciaio che qua non si vedono vulcanizzati all'interno e quindi c'è un andamento non lineare che è questa forma qui oppure con pendoli a una o due questa è una superficie curva ci sono anche quelli a due superfici curve all'Aquila si sono usati su 54 di maggioranza questi perché questi costano circa 10% in meno rispetto a questi quindi sono mi pare 35 e 24 35 e 19 35 e 19 quindi più questi di questi questi hanno un comportamento più schematico nel senso che questi piatti hanno attrito quindi prima bisogna vincere l'attrito questa è la forza dell'attrito e poi si muove come un pendolo quindi si muove linearmente proprio segue le reggi del pendolo quindi questo è un comportamento molto schematico molto cioè proprio così si comporta e questo è l'attrito dei piatti mentre questo è un comportamento non lineare molto più complicato diciamo questi sono molto più usati nel mondo questi di meno questi sono più economici e hanno un comportamento molto più schematico bene diciamo avrebbero retto tutte queste costruzioni e questi terremoti d'Italia centrale se ci fossero stati l'isolamento sismico bene contalo spostando questi sono questi sono rispetti di accelerazione tenete presente che quando si isola sismicamente l'isolamento consiste proprio nel portare l'edificio ad un periodo proprio tale che si va in un campo di accelerazioni molto basse quindi è una regola molto semplice se invece di stare qui io mi porto 2, 5, 3 secondi qui e quindi se il mio edificio non ha più un periodo proprio di 0,2, 0,3, 0,4 ma di 3 secondi gli viene un'accelerazione bassissima questo è l'isolamento sismico cioè portare l'edificio a un periodo che è neutro quasi neutro rispetto al terremoto dopodiché però questi periodi naturalmente i rispostamenti che deve subire sono più grandi perché è più deformabile questi sono rispetti in termini di spostamento che partono bassi quindi un edificio di 0,2 secondi avrebbe avuto spostamenti molto bassi questa è Norcia Forca Canapine questo è stato tolto dal catalogo perché aveva diciamo è stato poi visto che aveva accelerazioni forse aveva subito danneggiamenti ma se no questo avrebbe stato un record spaventoso di accelerazioni italiano e questa è la matrice corretta come vedete il massimo spostamento a 3 secondi 20 pure questo avrebbe avuto 20 questa è una scala un po' diversa 15 cioè la struttura che più si sarebbe spostata in assoluto si sarebbe spostata di 15-20 centimetri bene l'isolatore si progetta a 25-30 centimetri quindi qualunque struttura isolata sismicamente avrebbe retto peraltro all'interno avrebbe avuto accelerazioni davvero bassissime cioè probabilmente non sarebbero avuto neanche bicchieri voglio dire qui dentro perché avrebbe subito queste accelerazioni in realtà vediamo un po' se ci riesco diciamo ho scovato un edificio dell'Aquila quindi non ha preso quelle accelerazioni di meno vediamo se mi parte eccolo qua tenete presente che le telecamere sono solidarie all'edificio quindi sembra che l'edificio è fermo e la strada si muove questo è un edificio dell'Aquila durante il terremoto la telecamera è solidale all'edificio e quindi avete una sensazione sbagliata vedete si sposta di un numero di centimetri significativo ma non subisce praticamente questa è un'inquadratura questo è il terremoto questa è la scossa il 30 ottobre qui all'Aquila c'è un'altra telecamera guardate le macchine che accelerazioni si prendono guardate le automobili iniziano a muoversi ripeto dovete immaginare il contrario anche l'edificio questo edificio non si è subito manca una pelatura cioè diciamo è qui sotto mi pare proprio a via 20 settembre mi pare che sia qui vicino è così? quindi sopra la chiesa quindi diciamo questo filmato che probabilmente avevate anche già vispeccato che non ci sono edifici strumentati per vedere le accelerazioni comunque facendo una stima diciamo via Francesco Crispi quindi esattamente qui effettivamente diciamo la stima che ho fatto quindi ho preso l'accelerometro l'accelerogramma più vicino al posto ebbene questi sono rispetti di spostamento quindi a due secondi e mezzo avrebbe preso spostamenti dell'ordine di 10 cm che è più o meno quello che noi abbiamo visto quindi diciamo è abbastanza lontano da quello di progetto che non so quant'è ma è probabile sia 30 cm ma ha subito uno spostamento coerente con quanto diciamo previsto allora io avrei una seconda parte però piuttosto che la seconda parte perché non mi voglio rendere impopolare diciamo io ho una parte che parla di uno strumento il sisma bonus questo questo recente strumento per il finanziamento diciamo degli edifici esistenti ma mi rendere impopolare allora vi faccio vedere una sequenza diciamo però io purtroppo con questo non so bravo credo che devo andare qui ecco qua vi faccio vedere una cosa che a me piace diciamo il nostro laboratorio che ha due tavole vibranti prima si parlava della necessità dei modelli fisici diciamo a fianco ai calcoli che molti di noi hanno anche noi ce l'abbiamo noi abbiamo due tavole vibranti vi faccio una sintesi se gli viene voglia di partire però se non gli viene voglia di partire non posso chi mi aiuta perché non parte non vuole partire ecco qua allora vi faccio vedere un po' di prove questa è una volta in muratura questa è una volta in muratura su tavola vibrante con i timpani sembra di gomma ma diciamo è in muratura di mattoni vedete sotto sisma diciamo da varie inquadrature durante la prova vero sembra gomma ma è in muratura diciamo questa è una una credo proprio l'aquila uno dei terremoti dell'aquila simulati su tavola vibrante che abbiamo provato poi se andiamo adesso vedremo anche vedremo anche a sinistra con una riparazione stradossata con materiali compatibili secondo le sovrintendenze quindi diciamo con reti di basalto e una malta compatibile a sinistra e destra guardatevi soprattutto il destra questo è un terremoto molto più intenso di quello che ho fatto vedere prima diciamo a un certo punto si formeranno le cerniere plastiche si plasticizzeranno dove in realtà sarebbe stato previsto anche dalla teoria e allora per quest'altra scossa ecco questa è rallentata no non ecco vedete cade quella a destra quella a destra non è è molto meno rinforzata della di quella a sinistra che invece è stata rinforzata sì 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 qui abbiamo usato solo questo è un edificio in muratura di tuffo di tuffo campano sempre soggetto a un terremoto questo è l'Aquila AQV 125% una volta è 25 qui una volta è 25 la scossa AQV era una delle scosse guardate in slow motion come come proprio si vede diciamo il forte danno ma che insomma sostanzialmente è un solo piano quindi come dire ce la fa di proprio questo è dall'interno quindi questo come dire chi si stava dentro cosa avrebbe subito sostanzialmente ripeto questo è l'Aquila 1.25 moltiplicato per 1.25 questo è molto interessante l'abbiamo fatto recentemente abbiamo provato le tec con i vigi del fuoco con le tecniche che loro usano per intervenire sulle pareti murarie la parete è stata staccata per simulare il completo di stacco e queste sono con quelle fasce di materiale flessibile che usano tra l'altro bloccate ai lati proprio come bloccano loro queste AQV moltiplicate per 1.75 quindi massimo accendano a 1.11 g vedete come si stacca completamente ma non crolla ai lati qui c'è muratura e quindi solo queste murature sono attaccate esattamente come le attaccano loro unite come una unicona con loro questa è in assenza questo chiaramente gli succede alla fine del mondo rapidamente qui non c'è nessuna riparazione la parete è staccata cioè si è rotto tutto quindi dopo pochissimo questo è il 50% di AQV sta scritto sotto e dopo pochi secondi diciamo quindi senza e con cioè noi stiamo certificando i vigili del fuoco le tecniche che loro usano diciamo normalmente questo è in slow motion questo diciamo c'era siamo riusciti a non distruggere il laboratorio ma insomma giusto giusto diciamo se è una ricerca che facciamo con la protezione civile molto vicini vabbè ma noi amiamo il rischio queste forse anche sono interessanti queste sono prove su ponti qua abbiamo usato tutte e due le tavole vibranti le vedete le nostre due tavole vibranti noi possiamo siamo gli unici in Europa dove le due tavole vibranti possono andare in modo asincrono qui per simulare le due pile più distanti questa è la base guardate il pilastro come tenda a staccarsi dalla fondazione lo vedete qua sotto si vede l'enorme deformazione questo è un tipico ponte pile fondazione pile e travata appoggiata sopra scalato ma non molto scalato questo è con gli isolatori vedete guardate come vengono trasferite forse molto più basse perché gli isolatori trasferiscono azioni molto più basse alla pile rispetto a prima vedete rispetto a prima non c'è proprio paragone e questi sono quelli lì a doppia superficie quelli lì tipo quello che vi ho fatto vedere voi pendolo con doppia superficie e ancora dopo queste servono per attestare fino alla fine dei segni non è che sono prove costose non è che sono sovra tante questo è con gli isolatori in gomma questo pure è uno spettacolo questi sono con gli isolatori alstomerici invece poi ci sta anche un'altra inquadratura che lo fa vedere guardate che sisma che si prende ci sta un'altra ripresa più spettacolare diciamo e qua ci sta l'isolatore quindi noi simuliamo simuliamo dunque eccolo qua simuliamo proprio i terremoti quelli che vogliamo quelli già esistiti questi calitri 600% è 6 volte calitri guardate l'isolatore in gomma guardate che subisce ripeto calitri il pinia terremoto famoso per chi ha studiato queste cose ampliati 6 volte vedete la gomma come è in grado di avere deformazioni enormi senza spaccarsi questi chiaramente sono telecamere solidali questa è esterna questa è solidale alla base questa è telecamera esterna quindi si muove la pila si muove il ponte qua sembra che la pila non si muove solo perché è solidale queste invece sono prove per i componenti ospedalieri oramai è richiesto non solo che non si danneggiano gli ospedali ma che non si perdano i componenti queste sono prove per migliorare il comportamento degli oggetti interni ci sono anche quelle con l'isolamento sismico ma per brevità non credo che non ne faccio vedere naturalmente qui ci sia in questo caso c'è un problema che se il liquido all'interno è un liquido pericoloso bisogna salvaguardarlo le facciamo anche per i musei perché nei musei non si può far cadere le statuine quindi stiamo studiando i criteri per fissare per migliorare il comportamento delle bacheche tende a presente che in ospedale i componenti interni valgono il 50% dell'intero edificio la struttura vale l'8% vale niente questo è un terremoto artificiale 1.5G è artificiale cioè molto più denso di frequenze e questo è un edificio costruito con tecnologie innovative cioè sono pareti portanti ma anche con polistirolo isolante alla fine della prova questo vedete il movimento biassiale perché noi simuliamo est-ovest e nord-sud senza nessun problema vedete questo è il laboratorio il laboratorio isolato sismicamente e noi non trasferiamo nessuna vibrazione alle palle vicine che se no no è no scherzo cioè a San Diego a un certo punto li hanno cacciati adesso San Diego c'ha le tavole vibranze c'ha il deserto perché ma insomma anche il mio amico Michele Calabria-Papia insomma non è popolarissimo noi teniamo tutto il blocco qua sotto è un enorme blocco in cemento armato altissimo che abbiamo dovuto rifare alla massa massima massa possibile sono due metri di calcio esuto poggiato su c'è 99 molle ad aria cioè sono le molle più deformabili possibili quindi sono pneumatici una specie di pneumatici in modo che abbiamo la massima massa possibile con la minima rigidezza possibile il sistema si gonfiano queste molle prima di fare la prova e c'ha un periodo proprio di circa tre secondi per cui noi filtriamo rispetto al terremoto e non trasferiamo proprio nulla al resto e poi ci sono anche 64 smorzatori tipo automobile che servono sia per dissipare altra energia sia per ricentrare il piastrone a fine prova perché a fine prova ce lo troviamo spostato in questa maniera noi non trasferiamo praticamente quando facciamo prova nessuno se ne accorge che le facciamo altri preferisco semplicemente dissipare l'energia nel terreno e si rendono impopolare perché poi come la musica specialmente i bassi diciamo le basse frequenze come nella musica arrivano anche molto lontani perché dissipano energia molto più lentamente quindi non solo si sente ma si sente mal di mare sostanzialmente perché si sentono le basse frequenze cioè gli alti periodi quindi uno diciamo ha la sensazione vabbè io avrei parecchio altro però così mantengo un certo grado di popolarità e mi fermo qui grazie una domanda io ho fatto una in una curiosità e lei ha detto che è molto importante adorare l'accelerazione dei trottati e non più verticali però nel caso dell'accelerazione di lucidi quando si utilizzano materiali appunto tipo fish da l'aria insomma gli stili non si ha un scollamento durante la riscatura totale di un'assima sì sì e se arriviamo a quelle accelerazioni sì diciamo il motivo per cui sono più importanti le orizzontali rispetto alle verticali è che le orizzontali partono da zero quindi è come uno stare in un pullman o in un'automobile senza cintura di sicurezza e prendersi quell'accelerazione la verticale agisce su G che già c'è quindi un 0,2 0,3 0,4 0,5 ok varia del 20 30 40 50 una cosa che già c'è come un ascensore quando partiamo quando arriviamo diciamo quindi nessuno cade in un ascensore per l'accelerazione perché agisce su G che già c'è l'aumento lei cita il caso limite in cui si arriva a un G che a un G succede che in certi istanti si raddoppia il peso in certi altri ci alziamo ci alziamo in realtà è un problema serio per qualunque cosa perché diciamo i pilastri in cemento armato lavorano bene a compressione non a trazione quindi un pilastro la fondazione lavora bene a compressione non a trazione cioè il palo deve essere compresso se no si strappa dal terreno se è un plinto poggiato si alza anche l'isolatore si stacca quindi diciamo la superare un G in opposizione al peso annullare il peso proprio è molto grave nelle strutture in realtà ce l'ho in un'altra presentazione in realtà arrivare a un G ce l'ho ma insomma arrivare a c'è proprio questo cioè qui l'accelerazione verticale è stata 0 pure nel tremolo di Italia Centrale è stato 0,4 G 0,45 lontano da 1 tenevo tenevo una immagine perché anche lì conta il periodo proprio perché strutture che avevano 0,4 0,3 secondi effettivamente superavano G questo è il motivo secondo me per alcune di quelle capriate si sono sono state buttate in aria perché diciamo a un certo punto la capriata ha subito un'accelerazione verso l'alto superiore a G cioè verso il basso una forza di inerzia verso l'alto superiore al peso proprio stradicata però normalmente le strutture sono molto rigide verticalmente cioè un pilastro verticalmente molto rigide molto deformabile orizzontalmente cioè le strutture normalmente hanno un periodo proprio verticale parente di zero quindi sostanzialmente non hanno l'amplificazione dinamica dello spettro cioè sono nella parte molto quindi ci vuole davvero un terremoto che sul terreno ha più di un G sul terreno ma è un terremoto che in Italia fortunatamente è raro rarissimo non so se mi spiego mentre quella capriata poi è una di quelle che ho tolto quella capriata che ho fatto vedere probabilmente di suo quindi normalmente non si considera perché è rigido ma per esempio si deve considerare se uno ha uno sbalzo un balcone molto lungo oppure se è una struttura spingente perché la struttura spingente trasforma le carichi verticali in orizzontali perché spinge quindi la norma prescrive in certe situazioni che se ne deve tenere conto se ne deve tenere conto e se la struttura ha una deformabilità verticale tale da finire in una zona spettrale amplificata effettivamente è un problema però normalmente non lo è per i due motivi che ho esposto primo perché lavora sul peso proprio che già c'è e secondo perché essendo molto rigida verticalmente in genere non subisce significative amplificazioni dinamiche se invece è sensibile le azioni verticali come le strutture spingenti o altro e in più e anche a un periodo proprio verticale io parlo di oscillazioni verticali non orizzontali tale da amplificare effettivamente può diventare un problema ma è un problema generale cioè voglio dire se un edificio in muratura la piramide il colosseo subisce un'accelerazione verticale superiore a un G si stacca voglio dire non so se mi spiego a quel punto qualsiasi tecnologia va in crisi perché viene lanciato come un proiettile verso l'alto perché subisce una forza di inerzia più grande del peso proprio e quindi viene lanciato come un missile e là la tecnologia insomma quella che si usa si usa ma male insomma voglio dire prevetto che non sono a Pilana che potrei dire qualcosa di ingelo però ho avvertito dopo le scosse invece queste piccole dei gennaio per l'Aquila molta preoccupazione degli edifici che nel sisma 2009 erano stati classificati come classe A quindi non avevano avuto interventi successivi è davvero una cosa proprio nel senso perché tutti gli altri hanno avuto modernamenti interventi eccetera quindi in questo momento quasi conviene avvitare l'Aquila perché non sta più tranquillo mentre i edifici di classe A non può dire su qualche cosa che vuole allora sì lei diciamo dice classe A secondo le schede Eides vabbè questo diciamo secondo le schede Eides quelli che era ma guardi io da ingegnere posso guardare i numeri le accelerazioni all'Aquila per questi terremoti sono state molto più basse alle accelerazioni del terremoto dell'aprile 2009 quindi poiché nel 2009 sono rimaste sostanzialmente se non hanno avuto danni sono rimaste sostanzialmente in campo elastico lineare cioè non hanno subito una variazione di compo non hanno avuto il danno ciclico che vi ho fatto vedere perché il danno ciclico che vi ho fatto vedere era plastico cioè si andava in campo plastico quelle sono rimaste in campo elastico lineare quindi non sono variati come caratteristiche subiscono un'azione più piccola del 2009 io ritengo che non ci sono preoccupazioni diciamo naturalmente queste risposte così semplici sono deterministiche in un mondo che è probabilistico voglio dire però devo dire che il terremoto dell'aprile 2009 tutti gli errori i problemi li ha sono già emersi cioè non può non è cioè io ho fatto vedere l'edificio rosso che è crollato per un molto più basso però vi ho detto anche ma quello era arrivato ad esalare l'ultimo respiro voglio dire se è rimasto in campo elastico lineare proprio per definizione definizione teoria dell'elasticità se subisce un'azione più piccola del passato cioè il problema come si dice non dipende dalla storia se è elastico lineare come si dice non conservativo credo che si dica vuol dire che la storia non conta se è rimasto in campo elastico lineare può venire subito un miliardo o uno primo o zero ma è rimasto invariato subisce un'azione più piccola non può non può avere quindi a mio parere diciamo mediamente ma più che mediamente diciamo molto più che mediamente ingiustificata perché ha subito uno schiaffo molto più piccolo di quello che non gli ha fatto male insomma voglio dire detto ancora più rossamente quindi credo che non ci siano preoccupazioni nel passaggio nella parte plastica solo una verifica sismica possiamo accertare oppure eh allora diciamo con un calcolo sismico sì vedete anche l'edificio muratorio che ho fatto vedere che subiva nella parte superiore quella casetta che sembrava che si stava staccando poi alla fine quando ritorna lo vedete quasi pare che non ha subito nulla quindi voglio dire quindi se è andato in campo cioè non sono spiegato cioè addirittura pure dopo quella prova così drammatica se voi andate a vedere la struttura dopo quasi non vedete che si è staccata ed è salita con un calcolo naturalmente con i limiti del calcolo eh perché il calcolo è sempre basato su un modello non ingegneri studiano i modelli non studiano la realtà certamente uno può avere un'idea se si è andati in campo in campo plastico però diciamo poi la domanda è interessante ma è anche un po' generale cioè lei sta pensando a qualcosa di particolare penso di sì però l'Aquila l'Aquila ha subito azioni molto più piccole del del 2009 l'Aquila Norcia col fiorito ha subito azioni paragonabili a quella di terremoti del 97 eccetera eccetera ma l'Aquila per come si considera l'attenuazione che c'è stata l'attenuazione che esiste se si va a vedere sulle mappe di accelerazione che sono sono abbastanza fitte cioè io mi sono lamentato che a matrice ce n'era uno solo ma se si guarda quante ce ne sono le mappe che ci danno poi i colleghi della rete NAN degli NGV insomma l'Aquila non insomma l'edificio che vi ho fatto vedere isolato si muoveva molto ma certo non è arrivato ai valori di progetto cioè si muoveva di alcuni centimetri ma non dei 30 o dei 40 al cui è stato progettato probabilmente 35 quindi probabilmente le azioni all'Aquila sono state un terzo di quelle che di nuovo potrei essere anche più preciso vedendo i numeri ma non cioè l'Aquila non si deve preoccupare di questo terremoto a mio parere prego 100 metri forse anche meno un centinaio di metri con una forma quella poi diciamo sopra è abbastanza piatto quindi sale c'è un effetto topografico sicuramente c'è un effetto topografico sì 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 che noi in norma consideriamo anche consideriamo amplificazione anche di 1,6 1,2 1,4 1,6 a seconda della forma ma se poi verrà rilasciato se hanno perché hanno recuperato il computer in cui erano memorizzati i dati della scuola prima o poi usciranno credo non erano nella rete Ranna erano in quel progetto del dipartimento che si chiama osservatorio sismico osservatorio sismico cioè in Italia esistono molte scuole ed edifici pubblici monitorati in un progetto ma io ho visto una traccia che poi mi è sparita e segnala ogni 15 giorni in orizzontale e lo segnala sull'estero di diametrice Amatrice è tornata no ma secondo me è forca canapina no allora è più grande che poi è sparita ma allora sono spariti perché io poi sono amici è sparito perché ha avuto problemi la stazione cioè è scattato un masso è crollata qualcosa no 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 la revisione ma l'ultima revisione di Amatrice è un po' meno di un G orizzontale un po' meno di G un po' meno è stato amplificato è certo rispetto alla prima uscita il valore finale validato è il doppio circa di quale iniziale e non è un è 15 ma è 30 ottobre 30 ottobre 30 ottobre abbiamo registrato fino a 07 G Amatrice eh ma diciamo la scossa sotto no sotto no sotto ah perché poi sono state emesse sono state emesse ma diciamo Amatrice 24 agosto è stata rivista in salita cioè sicuramente perché adesso se si fa ed è un numero parente di quello che sto dicendo numero preciso non me lo ricordo non ho visto numeri più grandi di un G ad Amatrice alla base devo dire per questo quello che le dice sono gli strumenti messi quelli trasporti o quelli movibili diciamo per la microzonazione microzonazione eh loro le hanno messi sopra dopo le hanno messi sopra abbiamo fatto il 30 ottobre sopra ci sopra possibile sì sì non sono nella rete RAM no 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 sono in questi strumenti messi il 24 ottobre esiste non nella rete RAM ma nell'osservatorio sismico una registrazione nella scuola che però nessuno ha visto perché un primo poi verrà rilasciata credo se è stata salvata perché poi mi pare che era proprio nella zona che è collassata dopo ci sono dati del 30 ottobre ci sono molti più dati comunque è stato come registrazioni non come accelerazioni perché noi abbiamo quello che viene registrato ma come accelerazioni sono le più grandi registrate che non vuol dire affatto che ovviamente siano le più grandi in assoluto perché il PINIA c'erano pochissimi strumenti voglio dire cioè cioè quello si misura solo il punto dove c'è in quell'istante ma come accelerazioni sono state estremamente eh significative ripeto questo dato va filtrato sul fatto che più ne metti più prendi dai numeri grandi ovviamente bene se non ci sono altre domande io la passo ringrazio tutti gli intervenuti e prima di tutto i regatori che hanno accettato la comunità penso che sia stata una giornata interessante molto molto informativa grazie a tutti grazie a te grazie a te grazie a te